il terzo anello ad alta voce massimo popolizio legge il maestro e margherita di michael bulgakov introduzione di yolanda insana ma esiste davvero il diavolo esistono le sue metamorfosi le improvvise apparizioni e sparizioni no niente di tutto questo il diavolo non esiste eppure il diavolo esiste con varie facce nei testi scritti esiste nei libri sacri e nelle favole nel fausto di goethe per fare qualche nome o nel faustus di man il diavolo c'è nel maestro e margherita di bulgakov dove margherita il suo nome e di stretta discendenza ghidiana bellissima con gli occhi verdi è innamorata devota del maestro il maestro è lo scrittore spigato che per disperazione se ne va con i suoi piedi dritto al manicomio ma prima ha buttato nella stuva il proprio romanzo perché nessun critico lo accetta nessuna rivista vuole pubblicarlo questo suo romanzo e cioè il racconto di esho e pilato e la macrocellula narrativa che con tecnica indiziaria bulgakov insegue per scendere e ricomporre in un flusso inarrestabile con scoppi di mortaretti in toni di assoluta normalità e dunque tanto più avvincente quanto più l'allegria trapassa nell'orrore e il satanismo nella comica il diavolo è il professor volant ironico raffinato poliglotta uno insomma che è stato a cena con cante che si è trovato accanto a pilato quando si lavò le mani volant ama il gioco e la leggerezza i lavori sporchi lascia i diavoletti tutta una ciurma che somiglia tanto a un'anomala beffarda sezione di servizi segreti deviati deviati però in difesa della giustizia e della verità il diavolo basta nominarlo e lui arriva e poiché nominarlo significa evocarlo il passo partout per aprire le porte del varietà tra specchietti di alice ipnotismi da mercanzia consiste in modi di dire popolari del frasario parlato del tipo darei impegno l'anima al diavolo per sapere e per esempio sono pronta ad andare a casa del diavolo dice margherita e ipso facto vola come una strega a cavallo di una scopa sulla città si avvia al gran ballo di satana che uno straordinario musical di orrori fiabbeschi quanto chagall saltella e occhieggia nella planimetria moscovita nella figurazione di eventi sospesi e meravigliosi queste figurazioni primitive e luminose sono il contrapunto arioso e al peso opprimente della contemporaneità del disagio della censura della repressione del resto come chagall anche bulgakov attinge a un comune patrimonio fabulistico a un bacino di sortileggi e superstizioni e forse non è un caso che il teorico della fiabba prop sia russo potenza della letteratura dalla realtà si passa alla finzione e dalla finzione alla realtà e così nell'immaginario moscovita entra la fermata detta del gatto anche se oggi il tram non c'è più o la casa di berlioz convegno per satanisti per sedute spiritiche e che recentemente è stata benedetta prima di aprire come museo il maestro e margherita bulgakov nato a kib nel 1891 lo inizia nel 28 e vi lavorò fino alla morte avvenuta nel 40 in contemporanea alla biografia di mulier a romanzo teatrale e altro ma non lo vede pubblicato uscirà e con molti tagli la prima volta sulla rivista mosca 26 anni dopo la sua morte esattamente tra la fine del 66 e l'inizio del 67 la prima edizione integrale invece vede la luce in italia dei naudi nel 67 e il successo mondiale di critica e di pubblico è immediato sarà un ascolto molto divertente vi lascio alla lettura di massimo popolizio nell'ora di un caldo tramonto primaverile appardero presso gli stagni patriarcie due cittadini il primo sulla quarantina con un bel completo grigio estivo era di bassa statura scuro di capelli ben nutrito teneva in mano una dignitosa lobbietta e il suo volto rasato con cura era adorno di un paio di occhiali smisurati con una montatura nera di corno il secondo un giovanotto dalle spalle larghe coi capelli rossicci a ciuffi disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca indossava una camicia scozzese pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri il primo altri non era che mihail alexandrovich berlioz direttore di una rivista letteraria il presidente della direzione di una delle più importanti associazioni letterarie di mosca chiamata con l'abbreviazione massolit il suo giovane compagnatore era il poeta ivan nikolaevich paniriof che scriveva sotto lo pseudonimo viesdomni giunti all'ombra dei tigli che cominciavano allora a verdeggiare gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci che portava la scritta birra e bibite ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio non solo presso il chiosco ma in tutto il viale parallelo alla via malaya bronnaia non c'era anima viva in un'ora in cui sembrava che non si avesse più la forza di respirare quando il sole che aveva arroventato mosca sprofondava oltre il viale sadovoe in una secca broma nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli nessuno sedeva su una panchina deserto era il viale mi via dell'acqua minerale disse berlioz non ce n'è rispose la donna del chiosco e chissà perché prese un'aria offesa ha della birra chiese con voce rauca viesdomni la devono portare stasera rispose la donna che cosa chiese berlioz succo dal bicocca ma non è fresco disse la donna ce lo dia lo stesso il succo formò un abbondante schiuma gialla e nell'aria si diffuso un odore di bottega di barbiere toltasi la sete i letterati presi da un improvviso singhiozzo pagarono e si sedettero su una panchina facendo fronte allo stagno e voltando le spalle alla bronnaia qui successe una seconda stranezza che riguardava il solo berlioz a un tratto egli smise di singhiozzare e il suo cuore diede un forte battito e per un attimo non si sentì più poi riprese ma trafitto da un ago spuntato inoltre berlioso fu preso da un terrore immotivato ma così potente che gli venne voglio di correre via senza voltarsi agli stagni petriarci si guardò in giro angosciato non comprendendo che cosa avesse potuto spaventarlo tanto impallidì si asciugò la fronte col fazzoletto e pensò a che cosa non mi era mai successo il cuore mi fa degli scherzi e mi sono affaticato troppo forse il momento di mandare al diavolo tutto quanto e di andarmi a riposare a chislavox a questo punto l'aria torrida gli si infitti davanti e da essa si formò un diafano personaggio dall'aspetto assai strano un berretto da fantino sulla piccola testa una giacca a quadretti estrimenzita anch'essa fatta d'aria un personaggio alto più di due metri ma stretto di spalle magro fino all'inverosimile e dalla faccia prego notarlo schernevole la vita di berlioso era così fatta che agli avvenimenti straordinari egli non era abituato a credere impallidendo ancora di più spalancò gli occhi e pensò sconcertato non è possibile ma ahimè era possibile e lo spilungone attraverso il quale passava lo sguardo oscillava davanti a lui senza toccare terra allora il terrore si impadronì a tal punto di berlioso che gli chiuse gli occhi e quando gli riaprì vide che tutto era finito il miraggio si era dissolto l'uomo a quadretti era sparito e insieme l'ago spuntato gli era uscito dal cuore accidenti che diavolo esclamò il direttore lo sai Ivan c'è mancato poco che mi venisse un colpo per il caldo ho avuto persino una specie di allucinazione e tentò di ridacchiare ma negli occhi gli ballava ancora l'inquietudine e le mani tremavano però a poco a poco si calmò si sventagliò col fazzoletto e proferendo con una certa baldanza beh allora riprese il discorso che era stato interrotto dal succo di albicocca questo discorso come si sape in seguito riguardava Gesù Cristo infatti il direttore aveva commissionato al poeta per il prossimo numero della rivista un grande poema antireligioso poema che Ivan Nikolaevich aveva composto e in brevissimo tempo ma purtroppo senza minimamente soddisfare il direttore gli sdomni aveva tratteggiato il personaggio principale del suo poema cioè Gesù a tinte molto fosche eppure tutto il poema secondo il direttore andava rifatto di sana pianta ed ecco che il direttore stava tenendo una specie di conferenza su Gesù allo scopo di sottolineare il principale errore del poeta è difficile dire che cosa avesse sviato Ivan Nikolaevich se la potenza figurativa del suo ingegno o l'ignoranza totale del problema trattato fatto sta che il suo era un Gesù del tutto vivo un Gesù che un tempo aveva avuto una sua esistenza anche se a dire il vero era un Gesù fornito di tutta una serie di attributi negativi Berliosi invece voleva dimostrare al poeta che l'importante non era la bontà o meno di Gesù ma il fatto che Gesù in quanto persona non era mai esistito e che tutti i racconti su di lui erano pure invenzioni e banalissimi miti occorre notare che il direttore era un uomo di vaste letture e con gran perizia nel suo discorso si rifaceva agli storici antichi al celebre filone d'Alessandria ad esempio e a Giuseppe Flavio uomo di una cultura smagliante che non avevano mai fatto la minima menzione dell'esistenza di Gesù dando prova ad una robusta erudizione Mikhail Aleksandrovich comunicò tra l'altro al poeta che quel passo del libro decimo quinto nel capitolo 44 dei celebri annali di Tacito dove si parla della morte di Gesù era un'interpolazione apocrifa molto posteriore il poeta per il quale tutto ciò che gli veniva comunicato era una novità assoluta ascoltava il direttore con attenzione fissandolo coi suoi vivaci occhi verdi e solo a tratti emetteva un singhiozzo imprecando sommessamente contro il succo dal bigocca non esiste una sola religione orientale diceva berliosa in cui manchi di regola una vergine immacolata che metta al mondo un dio e cristiani senza inventare nulla di nuovo crearono così il loro Gesù che in realtà non è mai esistito è questo il punto sul quale devi insistere l'alta voce tenonile di berliosa si diffondeva nel viale deserto e man mano che michael aleksandrovich penetrava in un labirinto in cui solo una persona coltissima può penetrare senza correre il rischio di rompersi il collo il poeta veniva a scoprire un numero sempre maggiore di cose interessanti e utili su osiride dio benevolo e figlio del cielo e della terra su tammuz dio fenicio su marduk e perfino su un dio meno noto ma terribile huizlopochtli un tempo molto venerato dagli azzechi del messico ma proprio nel momento in cui michael aleksandrovich raccontava al poeta che gli azzechi foggiavano con pasta lievitata una figurina di huizlopochtli nel viale apparve la prima persona in seguito quando a dire il vero era ormai troppo tardi vari uffici fecero i loro rapporti con la descrizione di quella persona il loro confronto non può non provocare stupore infatti il primo rapporto affermava che l'uomo era di bassa statura aveva denti d'oro e zoppicava dalla gamba destra il secondo che l'uomo era di enorme statura aveva ai denti capsule di platino e zoppicava dalla gamba sinistra il terzo comunicava laconicamente che l'uomo non presentava alcun contrassegno particolare bisogna confessare che nessuno dei rapporti aveva il minimo valore anzitutto il personaggio descritto non zoppicava da nessuna gamba e la sua statura non era né bassa né enorme ma solo alta quanto ai denti a sinistra aveva capsule di platino a destra d'oro indossava un vestito grigio di gran prezzo e scarpe straniere del colore del vestito portava un berretto grigio sulle 23 e sotto l'ascella aveva una canna nera con un pomo nero a forma di testa di cambarbone dimostrava una quarantina d'anni la bocca storta ben rasato bruno l'occhio destro nero quello sinistro stranamente verde sopracciglia nere ma una più alta dell'altra in poche parole un forestiero passando vicino alla panchina su cui sedevano il direttore e il poeta il forestiero lanciò loro un'occhiata si fermò e all'improvviso si sedette sulla panchina accanto a due passi dagli amici un tedesco pensò barrios un inglese pensò bies domni guarda non ha caldo con quei guanti il forestiero intanto gettò uno sguardo alle alte case che formavano un quadrato attorno allo stagno e diventò manifesto che vedeva quel luogo per la prima volta e ne era interessato soffermò lo sguardo sui piani superiori i cui vetri riflettevano abbaglianti il sole frantumato che abbandonava per sempre michail alexandrovic poi guardò in giù dove i vetri cominciavano a coprirsi del primo buio della sera ridacchiò con condiscendenza socchiuse gli occhi pose le mani sul pomo della canna e il mento sulle mani tu ivan diceva barrios hai dato un bel quadro satirico ad esempio della nascita di gesù il figlio di dio ma il fatto è che prima di gesù era nata tutta una serie di figli di dio come diciamo ladone fenicio lattifrigio il mitra persiano insomma nessuno di loro è mai nato né esistito neppure gesù ed è necessario che tu invece di raffigurare la nascita oppure diciamo l'arrivo dei re magi metta in evidenza le assurde dicerie su questo evento se no da quello che hai scritto sembra che sia nato per davvero in quel mentre vi esdomni trattenendo il respiro tentò di far cessare il singliozzo che lo tormentava e perciò gli venne un singulto ancora più tormentoso e forte e nello stesso istante barrios interruppe il suo discorso perché il forestiero si era alzato all'improvviso e si era diretto verso i due scrittori questi lo guardarono sorpresi vogliono scusarmi disse egli con accento straniero ma senza storpiare le parole se io pur non conoscendoli mi permetto ma l'argomento della loro dotta conversazione è talmente interessante che qui si tolse urbanamente il berretto e agli amici non rimase altro da fare che alzarsi e salutare no è piuttosto francese pensò barrios un polacco pensò bisdomni si deve aggiungere che sin dalle prime parole il forestiero aveva prodotto una pessima impressione sul poeta mentre a berriose era andato piuttosto a genio cioè non che gli fosse andato a genio ma come dire lo aveva incuriosito posso sedermi chiese con urbanità e gli amici si scostarono meccanicamente il forestiero si sedette svelto tra loro ed entrò subito nella conversazione se non ho sentito male lei stava dicendo che gesù non è mai esistito disse rivolgendo verso berliose il suo occhio sinistro verde non ho sentito benissimo rispose con cortesia berliose stavo proprio dicendo quello oh com'è interessante esclamò il forestiero che diavolo vuole costui pensò bisdomni e aggrottò la fronte e lei è d'accordo con il suo interlocutore si informò lo sconosciuto voltandosi a destra verso bisdomni al cento per cento confermò questi che amava esprimersi in modo metaforico e ricercato stupefacente esclamò l'inatteso interlocutore e gettata intorno un'occhiata furtiva e smorzando la voce già bassa disse vogliono scusare la mia insistenza ma mi sembrerebbe di aver capito che oltretutto loro non credono in dio i suoi occhi presero un'espressione spaventata e degli aggiunse giuro che non lo dirò a nessuno infatti non crediamo in dio rispose berliose sorridendo lievemente del timore del turista straniero ma di questo si può parlare con la massima libertà il forestiero si appoggiò allo schienale della panchina e chiese dopo aver gettato persino un gridolino di curiosità loro sono atei ci siamo atei rispose berliose sorridendo mentre bisdomni pensava arrabbiato ti rompi scatole questo straniero ma che bellezza esclamò il sorprendente forestiero e cominciò a girare la testa in qua e in là guardando ora l'uno ora l'altro letterato nel nostro paese l'ateismo non stupisce nessuno disse berliose con diplomatica cortesia da tempo la maggior parte della nostra popolazione ha consapevolmente smesso di credere alle fandonie sul dio a questo punto lo straniero ebbe questa uscita si alzò e strinse la mano allo stupito direttore proferendo queste parole mi permetta di ringraziarla di tutto cuore perché lo ringrazia chiese bisdomini sbattendo le palpebre per una importantissima informazione che per me viaggiatore è del massimo interesse spiegò lo strambo forestiero alzando un dito con fare significativo l'importante informazione doveva aver impressionato molto il viaggiatore perché lanciò un'occhiata spaurita alle case come se temesse di vedere un ateo ad ogni finestra non è inglese pensò berliose mentre bisdomini pensava dove avrà imparato il russo così bene lo vorrei proprio sapere e aggrottò di nuovo la fronte mi permetta di domandarle riprese l'ospite dopo una preoccupata riflessione che ne fa delle prove dell'esistenza di dio le quali come è noto sono esattamente cinque oi me rispose berliose con commiserazione nessuna di queste dimostrazioni vale un soldo e da tempo l'umanità le ha messe in archivio deve convenire che nella sfera della ragione non ci può essere alcuna prova dell'esistenza di dio bravo esclamò lo straniero bravo lei ha ripetuto per intero il pensiero del vecchio irrequieto immanuel ma guardi la stranezza e gli distrusse fino in fondo le cinque prove ma poi come per dar la baia a se stesso ne ha costruito proprio lui una sesta anche la prova di kant replicò con un fine sorriso il colto direttore non è convincente non per nulla schiller diceva che le disquisizioni kantiane su questo argomento possono soddisfare solo degli schiavi mentre strauss si limitava a deriderla berliose parlava ma nello stesso tempo pensava ma chi può essere questo tipo e come fa a parlare così bene il russo bisognerebbe prendere questo kant e spedirlo per un paio di annetti a salaschi sparò ivan nikolaevich in modo del tutto inaspettato ivan sussurrò berliose pieno di confusione però la proposta di deportare kant a salaschi non solo non sorprese il forestiero ma anzi lo entusiasmò giusto giusto gridò e il suo occhio sinistro verde volto verso berliose cominciò a brillare è proprio il posto che farebbe per lui glielo dicevo quella volta a colazione lei professore mi scusi tanto hai scogitato qualcosa di incoerente magari sarà una cosa acuta ma non si capisce proprio nulla la prenderanno in giro berliose spalancò gli occhi a colazione con kant che assurdità sta dicendo penso però continuava lo straniero per nulla attorbato dallo stupore di berliose e rivolgendosi al poeta non è possibile spedirlo a salaschi per il semplice motivo che da oltre cento anni egli si trova in luoghi assai più remoti e trarlo di là è assolutamente impossibile glielo assicuro peccato replicò il poeta a taccabrighe è proprio un peccato confermò lo sconosciuto facendo brillare l'occhio e continuò ma ecco il problema che mi preoccupa se dio non esiste chi dirige la vita umana e tutto l'ordine sulla terra è l'uomo che dirige si affrettò a rispondere irritato bies domni a questa domanda che bisogna riconoscerlo non era molto chiara mi perdoni replicò con dolcezza lo sconosciuto per dirigere bisogna avere un piano esatto per un periodo abbastanza lungo mi permetta perciò di chiederle come può l'uomo dirigere se non solo gli manca la possibilità di fare un piano perfino per un periodo ridicolmente breve come diciamo un millennio ma non è neppure in grado di rispondere del proprio domani del resto qui lo sconosciuto si verso berliose immagini che lei si metta a dirigere a disporre di sé e degli altri e che cominci come dire a prenderci gusto ma a un tratto lei scopre di avere un sarcoma al polmone qui lo sconosciuto sorrise dolcemente come se il pensiero di un sarcoma al polmone gli facesse piacere sì sì un sarcoma ripete questa sonora parola succhiudendo gli occhi come un gatto e la sua attività direttiva è bella e finita nessun destino eccetto il proprio la interessa più i parenti cominciano a mentirle lei sentendo che c'è qualcosa che non va si precipita dai migliori medici poi dai ciarlatani e magari dalle chiromanti c'è la prima cosa che la seconda e la terza sono lei capisce assolutamente insensate e tutto finisce in modo tragico colui che ancora poco fa credeva di dirigere qualcosa è steso immobile in una cassa di legno e le persone circostante comprendendo che dal defunto non si non aveva più alcun costrutto lo cremano in un forno ma succede anche di peggio uno magari ha appena deciso di andare a chislavox e qui il forestiero guardò berliosa strizzando gli occhi una cosuccia da nulla si direbbe ma non riesce a fare neppure quella perché scivola e va a finire sotto un tram non mi vorrà mica dire che è stato lui a dirigere se stesso in quel modo non sarebbe più giusto pensare che è stato qualcun altro a dirigerlo così e qui lo sconosciuto emise una strana risatina berliosa aveva ascoltato con grande attenzione lo sgradevole racconto sul sarcoma e sul tram e così certi pensieri allarmanti cominciarono a tormentarlo non è un forestiero non è un forestiero pensava è un tipo stranissimo ma insomma chi mai può essere vedo che lei ha voglia di fumare disse a un tratto lo sconosciuto a biesdomni che sigarette preferisce perché ne ha di diversi tipi chiese cupo il poeta che aveva terminato le sue quali preferisce ripete lo sconosciuto la nostra marca rispose con asti a biesdomni lo sconosciuto tirò immediatamente fuori dalla tasca un porta sigarette e lo porse a biesdomni la nostra marca sia il direttore sia il poeta furono sbalorditi non tanto dal fatto che nel porta sigarette vi fosse proprio la nostra marca quanto dal porta sigarette stesso era enorme d'oro massiccio e quando venne aperto sul suo coperchio scintillò d'un fuoco bianco e azzurro un triangolo di brillanti qui i letterati ebbero pensieri differenti berliosa no non è uno straniero e biesdomni il diavolo se lo porti ma che roba il poeta e il proprietario del porta sigarette cominciarono a fumare mentre berliosa che non era un fumatore rifiutò bisognerà rispondergli così decise berliosa sì l'uomo è mortale nessuno lo mette in dubbio ma il fatto è che però non fece intento a pronunciare queste parole che lo straniero riprese a parlare sì 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 l'uomo è mortale ma questa sarebbe solo una mezza disgrazia il brutto che a volte muore all'improvviso è questo il guaio e in genere non è in grado di dire che cosa farà stasera che modo assurdo di impostare il problema pensò berliosa e obiettò via adesso lei sta esagerando io so più o meno esattamente che cosa farò stasera naturalmente se mentre passo per la bronnaia mi cade una tegola in testa una tegola lo interruppe gravemente lo sconosciuto non cadrà mai in testa nessuno così senza una ragione in particolare posso assicurarle che lei non corre affatto questo rischio lei morirà di un'altra morte forse lei sa quale si informò berlioso con un'ironia perfettamente naturale lasciandosi trascinare in una conversazione veramente assurda e me lo vorrà dire o volentieri replicò lo sconosciuto misurò berlioso con lo sguardo come se si accingesse a fargli un vestito borbottò poi tra i denti qualcosa come uno due mercurio e nella seconda casa la luna è scomparsa sei disgrazia sera sette e annunciò con voce forte gioiosa le taglieranno la testa con astio e stupore pies nomini spalancò gli occhi sul disinvolto sconosciuto mentre berlioso chiese con un sorriso forzato chi per la precisione nemici invasori no rispose l'interlocutore una donna russa un membro della gioventù comunista mugolò berlioso irritato dallo scherzetto dello sconosciuto scusi ma è poco verosimile mi scusi lei rispose il forestiero ma è proprio così ah già le volevo chiedere che cosa fa stasera se non è un segreto o non lo è adesso vado un momento a casa sulla sadovaia poi alle dieci di sera al massolit e ci sarà una seduta io la presiderò oh no questo non è assolutamente possibile rispose con fermezza il forestiero perché perché rispose l'altro e con gli occhi socchiusi guardò il cielo dove presentendo la frescura della sera uccelli neri sfrecciavano in silenzio annusca ha già comprato l'olio di girasole e non solo l'ha comprato ma l'ha anche rovesciato perciò la seduta non avrà luogo è chiaro che a questo punto sotto i digli subentrò il silenzio scusi disse dopo una pausa briose guardando il forestiero che stava sragionando che c'entra l'olio di girasole e di quale annusca sta parlando ecco come c'entra all'olio di girasole presa dire bisnomni che aveva evidentemente deciso di dichiarare guerra al non richiesto interlocutore non è mai stato per caso in una casa di cura per malati di mente ivan esclamò piano michael alexandrovich ma il forestiero non si offese affatto e scoppiò a ridere con molta allegria ci sono stato e come esclamò sempre ridendo ma senza distogliere dal poeta i suoi occhi che non ridevano minimamente dove non sono stato peccato che io non abbia fatto in tempo a chiedere al professore che cosa sia di preciso la schizofrenia si informi lei stesso ivan nicolaevich ma come fa a sapere il mio nome per carità ivan nicolaevich chi non la conosce il forestiero trasse di tasca il numero del giorno prima della litteraturnaia gazzetta e sulla prima pagina ivan nicolaevich vide la propria immagine e sotto i suoi versi ma la prova di celebrità e di popolarità che ieri ancora rallegrava il poeta non lo rallegrò questa volta le chiedo scusa disse e il suo volto sincopi può aspettare un momento vorrei dire due parole al mio amico oh volentieri esclamò lo sconosciuto si sta così bene sotto questi tigli e poi non ho affatto premura senti miscia sussurrò il poeta dopo aver tratto da parte per gli os non è mica un turista straniero è una spia un emigrato russo che è riuscito a intrufularsi da noi chiedigli documenti se no ci scappa credi sussurrò allarmato per gli os e pensò in fondo ha ragione dammi retta gli simbiliò il poeta in un orecchio fa il tonto per farci cantare lo senti come parla russo il poeta parlava e intanto teneva d'occhio lo sconosciuto perché non filasse via andiamo fermiamolo se no se la squaglia e tirò per gli os per il braccio verso la panchina lo sconosciuto non era più seduto ma in piedi e teneva in mano un libricino dalla copertina grigio scura una rigida busta di buona carta e un biglietto da visita vogliono scusarmi se nel calore della nostra discussione ho dimenticato di presentarmi ecco un mio biglietto da visita e il passaporto e l'invito a venire a mosca per una consultazione disse con autorità lo sconosciuto guardando fisso i due letterati questi si sentirono imbarazzati diapolo ha sentito tutto pensò brilloso e fece un gesto cortese come a dire che non era il caso di mostrare i documenti mentre il forestiero li porgeva al direttore il poeta fece in tempo a scorgere il suo biglietto la parola professore stampata in caratteri non rossi e la prima lettera del cognome una v doppia piacere borbottava imbarazzato il direttore nel frattempo e il forestiero ripose in tasca i documenti in questo modo le relazioni erano state ristabilite e tutti e tre si sedettero di nuovo sulla panchina lei è stato invitato qui in qualità di consulente professore chiese berlioz si lei è tedesco si informò bies domni io domando al professore e si fece pensieroso si direi tedesco rispose parla benissimo il russo osservò bies domni o sono un poliglotta e conosco un gran numero di lingue rispose il professore di che cosa si occupa si informò berlioz sono un esperto di magia nera per bacco pensò michael alexandrovic in un baleno e l'hanno invitato qui per questo chiese dopo un singulto precisamente conferma il professore e spiegò nella biblioteca di stato hanno scoperto manoscritti originali del negromante gerbert doriac del decimo secolo occorre che io li decifri sono l'unico specialista al mondo lei è uno storico chiese berlioz con grande sollievo e rispetto si confermò allo scienziato e aggiunse poi senza alcun nesso questa sera ci sarà un incidente interessante ai patriarcie di nuovo un estremo stupore prese il direttore e il poeta ma il professore fece a entrambi un cenno perché si avvicinassero e quando si chinarono verso di lui sussurrò tengano presente che gesù è esistito vede professore replicò berlioz con un sorriso forzato noi rispettiamo il suo vasto sapere ma al proposito abbiamo un punto di vista diverso non c'è bisogno di alcun punto di vista rispose lo strano professore è esistito e basta ma ci vuole qualche prova cominciò berlioso e neppure di prove c'è bisogno rispose il professore e perlò con voce sommessa la sua pronuncia straniera era scomparsa è tutto molto semplice nel primo mattino del giorno 14 del mese primaverile di nisan avvolto in un mantello bianco foderato di rosso con una strascicata andatura da cavaliere al mattino presto del giorno 14 del mese primaverile di nisan avvolto in un mantello bianco foderato di rosso con una strascicata andatura da cavaliere nel porticato tra le due ali del palazzo di erode il grande entrò il procuratore della giudea fonsio pilato più di qualsiasi cosa al mondo il procuratore odiava l'odore dell'olio di rose e ora tutto preannunciava una brutta giornata proprio questo odore aveva cominciato a perseguitare il procuratore fin dall'alba mi sembrava che anche il cipressi e le palme del giardino lezzassero di olio di rose e che all'odore dei finimenti di cuoio e del sudore della scorta si mischiasse quell'effluvio maledetto dalle ali posteriori del palazzo dove si era sistemata la prima corte della dodicesima legione fulminante romana giunta a jerusalem con il procuratore nel porticato giungevano volute di fumo attraverso il ripiano superiore del giardino e al fumo amarognolo che testimoniava che i cuochi delle centurie avevano iniziato a preparare il pranzo si mescolava quello stesso pesante aroma o nomi nomi perché mai mi punite sì non c'è dubbio è lei sempre lei la malattia orrenda invincibile l'emicrania da essa non c'è salvezza non c'è scampo cercherò di non muovere la testa sul pavimento di mosaico presso la fontana era già pronta la scranna e senza guardare nessuno il procuratore vi si sedette e allungò una mano il segretario vi pose rispettosamente una pergamena e senza riuscire a reprimere una smorfia di dolore il procuratore sbirciò in fretta lo scritto restituì la pergamena al segretario e disse con uno sforzo imputato della galilea la pratica è stata sottoposta al tetrarca sì procuratore rispose il segretario come ha reagito ha rifiutato di emettere la sentenza definitiva e ha sottoposto alla tua approvazione la condanna a morte pronunziata dal sinedrio spiegò il segretario il procuratore ebbe un sussulto alle guance disse piano conducete qui l'accusato dal ripiano del giardino due legionari condossero subito sul balcone del porticato e fermarono davanti alla scranna del procuratore un uomo che dimostrava circa 27 anni indossava un vecchio e logoro chitone azzurro la testa era coperta da una fascia bianca con una cinghia attorno alla fronte e le mani erano legate dietro la schiena sotto l'occhio sinistro l'uomo aveva un grosso livido e all'angolo della bocca un'escoriazione con un po' di sangue raccrumato l'uomo guardava il procuratore con una curiosità piena di inquietudine pilato tacque per un istante poi chiese piano in aramaico sei tu che inciti il popolo a distruggere il tempio di jerusalem il procuratore sedeva immobile come se fosse stato di pietra e solo le sue labbra si muovevano appena quando pronunciava le parole era come di pietra perché temeva di muovere la testa che ardeva di un dolore infernale e l'uomo delle mani legate si sporse un po' in avanti e cominciò a parlare buon signore credimi ma il procuratore sempre senza muoversi senza alzare la voce lo interruppe subito e me che chiami buon signore ti sbagli a jerusalem tutti sussurrano che io sono un mostro crudele e questa è la pura verità e con la stessa voce monotona aggiunse chiamate il centurione ammazza topi sembrò a tutti che la luce sul balcone si offuscasse quando davanti al procuratore apparve il centurione della prima centuria marco detto l'ammazza topi egli superava di tutta la testa il più alto soldato della legione e aveva le spalle così larghe che nascose completamente il sole ancora basso sull'orizzonte il procuratore si rivolse in latino al centurione questo delinquente mi chiama buon signore portalo fuori un momento e spiegagli come deve parlare con me ma non rovinarlo tutti tranne l'immoto procuratore seguirono con lo sguardo marco l'ammazzatopi che con un cenno della mano indicò all'arrestato che doveva seguirlo in genere l'ammazzatopi era sempre seguito dagli sguardi di tutti dovunque apparisse a causa della sua statura e quelli che lo vedevano per la prima volta erano colpiti anche dal suo volto deturpato il naso era stato rotto da una clava germanica sul mosaico risuonarono i pesanti stivali di marco l'uomo legato lo seguì senza far rumore un silenzio assoluto regnò nel porticato e si sentivano tubare i colombi sul ripiano del giardino presso il balcone e l'acqua della fontana cantava una bizzarra e gradevole canzone al procuratore venne voglia di alzarsi di mettere la tempia sotto un getto d'acqua e di rimanere così ma sapeva che questo non gli avrebbe recato sollievo dopo aver condotto il prigioniero fuori del porticato nel giardino l'ammazzatopi prese una frusta dalle mani di un legionario e fermò ai piedi di una statua di bronzo e colpì le spalle dell'arrestato quasi senza prendere lo slancio il movimento del centurione fu incurante e lieve ma l'uomo crollò immediatamente lì a terra come se gli avessero colpito i tendini delle gambe boccheggiò il colore gli scomparve dal volto e gli occhi persero ogni espressione con la sola mano sinistra marco sollevò facilmente il caduto come se fosse stato un sacco vuoto lo rimise in piedi e disse con voce nasale pronunciando astento le parole aramaiche il procuratore romano va chiamato egemone non usare altre parole devi stare sull'attenti hai capito o vuoi ancora una botta l'arrestato barcollò ma si dominò il colore ritornò sul suo viso poi riprese fiato e rispose con voce rauca ti ho capito non picchiarmi un minuto dopo era di nuovo davanti al procuratore si sentì una voce fioca malata nome il mio replicò in fretta l'arrestato esprimendo con tutto il suo atteggiamento che intendeva rispondere a tono senza più provocare ira il procuratore disse con voce sommessa il mio lo so non far finta di essere più stupido di quanto sei il tuo jesua rispose rapido l'accusato hai un soprannome a noseri di dove sei della città di gamala rispose l'arrestato indicando con un movimento della testa che laggiù lontano alla sua destra verso nord esisteva una città chiamata gamala di che sangue sei non lo so di preciso rispose pronto l'arrestato non ricordo i miei genitori mi dicevano che mio padre era siriano e dove vivi di solito non ho una dimora fissa rispose con timidezza l'arrestato vado da una città all'altra e tutto questo può essere detto in modo più breve con una parola soltanto vagabondo disse il procuratore e chiese ai parenti non ho nessuno sono solo al mondo sai leggere scrivere sì sai qualche lingua oltre l'aramaico sì il greco una palpebra infiata si sollevò e un occhio velato dalla sofferenza fissò il prigioniero e l'altro occhio rimase chiuso pilato cominciò a parlare greco sei tu che intendevi distruggere il tempio incitavi il popolo a farlo l'arrestato si animò i suoi occhi non esprimevano più spavento e disse in greco io buon il terrore valenò nei suoi occhi perché per poco non si era sbagliato io egemone non ho mai avuto l'intenzione di distruggere il tempio e non ho mai incitato nessuno a commettere una simile azione insensata lo stupore si dipinse sul volto del segretario e curvo su un tavolo basso a scrivere la deposizione alzò la testa ma la riabbassò subito sulla pergamena molta gente diversa fluisce in questa città per le feste vi sono tra di loro machi astrologi indovini e assassini diceva con voce monotone il procuratore si trovano anche dei bugiardi beh tu ad esempio sei un bugiardo è scritto chiaramente incitava a distruggere il tempio e lo attesta la gente questa buona gente cominciò l'arrestato e aggiunse rapidamente egemone e poi continuò è ignorante e ha confuso tutto quello che dicevo io comincio a temere che questo pasticcio andrà avanti assai a lungo la colpa è tutta di chi ha trascritto le mie parole travisandole subentrò il silenzio ora entrambi gli occhi sofferenti guardarono pesantemente l'arrestato te lo ripeto per l'ultima volta smettila di fingerti pazzo urfante profe ripilato con voce dolce e monotona poche delle tue parole sono state trascritte ma bastano a farti impiccare no no egemone disse l'arrestato tutto teso nel desiderio di essere convincente un tale mi segue dappertutto con la sua pergamena di capra e trascrive di continuo le mie parole ma una volta ho dato un'occhiata a quella pergamena e sono rimasto inorridito di tutto quello che c'era scritto non avevo detto una parola l'ho supplicato brucia la tua pergamena ti prego da me l'ha strappata di mano ed è fuggito chi domandò pilato con un senso di ripugnanza e si toccò una tempia con la mano levi matteo spiegò di buon grado l'arrestato faceva il pubblicano l'ho incontrato per la prima volta sulla strada di betania all'angolo del giardino dei fichi e ci siamo messi a parlare dapprima mi trattava con ostilità ed era persino offensivo cioè credeva di offendermi chiamandomi cane l'arrestato ridacchiò personalmente non vedo nulla di male in quella bestia perché debba offendermi il suo nome il segretario allora smese di scrivere e lanciò di sotticchio uno sguardo sorpreso ma non all'arrestato bensì al procuratore però dopo avermi prestato ascolto si addolcì continuò Yeshua infine gettò il denaro sulla via e disse che mi avrebbe seguito nei miei viaggi pilato soghignò con una sola guancia mettendo in mostra denti gialli e disse voltando tutto il torso verso il segretario oh città di Jerusalem che cosa non vi puoi udire un pubblicano sentite che getta il denaro sulla via non sapendo come rispondere il segretario ritenne opportuno imitare il sorriso del procuratore disse che da quel momento il denaro gli era divenuto odioso così Yeshua spiegò lo strano atteggiamento di Levi Matteo e aggiunse è da allora che mi accompagna senza smettere di sghignazzare il procuratore guardò l'arrestato poi il sole che saliva inesorabile al di sopra delle statue equestri dell'ippodromo lì in basso a destra e in un parossismo di tormento assillante penso che la cosa più semplice sarebbe stata cacciare dal balcone quello strano furfante pronunciando un'unica parola impiccatelo cacciar via anche la scorta rientrare dal porticato lì nel palazzo dare ordine di oscurare la stanza buttarsi sul letto chiedere acqua fresca chiamare con voce lamentosa il cane banca e lagnarsi con lui dell'emicrania e il pensiero del veleno balenò seducente nella testa tormentata del procuratore guardava l'arrestato con occhi torbidi e tacque per un po' cercando penosamente di ricordare perché sotto lo spietato solleone mattutino di Yerushalayim stava davanti a lui un arrestato dal volto tumefatto dalle percosse e quali altre domande inutili dovesse ancora rivolgergli levi matteo chiese l'ammalato con voce rauca e chiuse gli occhi sì e che giò la voce alta che lo torturava ma che cosa dicevi a proposito del tempio alla folla del mercato la voce dell'accusato sembrava trafiggere la tempia di pilato tormentandolo in modo indicibile e questa voce diceva io egemone dicevo che il tempio della fede antica deve crollare al suo posto deve sorgere un nuovo tempio della verità dissi così perché fosse più comprensibile ma perché vagabondo turbavi la gente del mercato parlando di una verità di cui tu non hai idea che cos'è la verità appena ebbe detto questo il procuratore pensò oh nomi gli sto chiedendo delle cose che non c'entrano col processo non riesco più a dominare la mia mente e di nuovo gli balenò davanti la visione di una coppa di liquido scuro del veleno foglio del veleno e di nuovo udile la voce la verità anzitutto che ti fa male la testa ti fa talmente male che pavidamente pensi alla morte non solo non sei in grado di parlare con me ma ti è perfino difficile guardarmi e adesso sono involontariamente il tuo torturatore il che mi amareggia non riesci neppure a pensare e sogni solo che venga il tuo cane l'unico essere evidentemente al quale sei affezionato ma il tuo tormento cesserà subito la testa non ti farà più male il segretario spalancò gli occhi sull'arrestato e non terminò la parola che stava trascrivendo pilato alzò gli occhi di martire sul prigioniero e vide che il sole era già abbastanza alto sopra l'ippodromo che un raggio era penetrato sotto il porticato e strisciava verso i sandali logori di yeshua e che questi se ne scostava il procuratore si alzò allora dalla sgranna strinse la testa fra le mani e sul suo giallognolo volto sbarbato si dipinse il terrore ma lo represse subito con uno sforzo di volontà e si abbandonò di nuovo nella sgranna nel frattempo l'arrestato continuava il suo discorso ma il segretario non scriveva più nulla cercava solo allungando il collo come un'oca di non perdere una parola pensava solamente a una cosa credere o no alle proprie orecchie e bisognava crederci allora cercò di immaginare quale forma capricciosa avrebbe assunto la furia dell'irascibile procuratore dopo quell'inaudita insolenza del prigioniero ma non mi riusciva benché conoscesse bene il procuratore si udì allora la voce rotta e rauca del procuratore che disse in latino legategli le mani uno dei legionari della scorta batte la lancia in terra la passò un altro si avvicinò e tolse le corde all'arrestato il segretario raccattò il rotolo e decise di non scrivere nulla per il momento e di non stupirsi di nulla confessa disse piano in greco pilato sei un grande medico no procuratore non sono un medico rispose il prigioniero sfregandosi con volutà la mano paonazza sformata e tumefatta tacquero poi il procuratore chiese in greco venito affermi che non incitavi a distruggere o incendiare o annientare in qualche altro modo il tempio io egemone non ho incitato nessuno a tali azioni lo ripeto sembro forse un demente no non lo sembri proprio rispose con voce sommessa il procuratore ed ebbe un sorriso terribile allora giurami che non è vero su che cosa vuoi che io giuri chiese pieno di animazione l'uomo slegato beh anche sulla tua vita rispose pilato è proprio il momento giusto per giurare sulla tua vita perché è appesa a un filo sapilo credi di essere stato tuo ad appenderla egemone chiese il prigioniero se fosse così ti sbaglieresti di grosso pilato trasalì e rispose tra i denti posso tagliare quel filo anche qui ti sbagli ribatte il prigioniero con un sereno sorriso e riparandosi con la mano dal sole ammetterai che il filo può essere spezzato solo da chi lo ha atteso già già sorrise pilato adesso non dubito più che gli oziosi per di giorno di jerusalem ti seguissero a passo a passo non so chi ti abbia messo la lingua in bocca ma te l'ha messa bene al proposito dimmi è vero che sei giunto a jerusalemme dalla porta di susa cavalcando un asino e accompagnato da una folla che ti acclamava come un profeta dicendo questo il procuratore fece un cenno verso il rotolo di pergamena l'arrestato guardò perplesso il procuratore non ho nemmeno l'asino egemone disse è vero che sono giunto a jerusalemme dalla porta di susa ma a piedi accompagnato da solo levi matteo e nessuno mi acclamava perché allora a jerusalemme nessuno mi conosceva conosci queste persone continuò pilato senza distogliere gli occhi dal prigioniero un certo disma un certo esta e infine barra ban non conosco questa buona gente rispose il prigioniero davvero davvero e adesso dimmi perché usi sempre le parole buona gente chiami tutti così sì tutti rispose il prigioniero non esistono uomini cattivi è la prima volta che lo sento dire soghigno pilato magari conosco poco la vita puoi fare a meno di scrivere disse al segretario benché questi non scrivesse più da un pezzo e continuò rivolto al prigioniero l'hai letto in qualche libro greco no ci sono arrivato da solo e lo predichi si sotto il porticato entrò di slancio una rondine descrisse un cerchio sotto la volta dorata si abbassò sfiorò colla la puntita il volto di una statua di rame dentro una nicchia e scomparve dietro il capitello di una colonna forse le era venuta l'idea di farvi il suo nido durante quelle evoluzioni nella testa del procuratore ridiventata limpida e leggera era nata una formula l'egemone ha preso in esame la pratica del filosofo vagabondo yeshua soprannominato hanosri e non vi ha riscontrato gli estremi del reato in particolare non ha trovato il minimo legame tra l'attività di yeshua e i disordini avvenuti da poco a jerusalem il filosofo vagabondo è un malato di mente per cui il procuratore non conferma la condanna a morte di hanosri emanata dal piccolo sinedrio ma considerato che i pazzeschi discorsi utopistici di hanosri possono causare disordini a jerusalem il procuratore esilia yeshua da jerusalem e lo fa confinare a cesarea sul mediterraneo cioè proprio nel luogo di residenza del procuratore rimaneva da dettare questo al segretario le ali della rondine follarono sopra la testa dell'egemone e l'uccello si slanciò verso la vasca della fontana e volò via il procuratore alzò lo sguardo verso il prigioniero e vide che vicino a lui una colonna di polviscolo riluceva al sole è tutto chiese pilato al segretario no purtroppo rispose inaspettatamente questi e porse a pilato un altro pezzo di pergamena che altro c'è chiese pilato aggrottando la fronte dopo che ebbe letto il suo volto muto ancora di più espressione un sangue scuro gli affluì al viso e al collo o qualcos'altro successe fatto sta che la sua pelle perdette il colore giallognolo divenne brunastra e gli occhi sembrarono sprofondare nelle orbite la colpa era probabilmente del sangue che era fruito di nuovo alle tempie di pulsava fatto sta che al procuratore si turbò la vista e sembrò infatti che la testa del prigioniero dileguasse in un punto e che al suo posto ne apparisse un'altra su questa testa calva era posata una corona d'oro dalle punte distanziate sulla fronte si vedeva una piaga rotonda che corrodeva la pelle ed era unta da un guento una bocca infossata senza denti dal capriccioso labbro inferiore pendolo a pilato sembrò fossero scomparse le rose e colonne del porticato e i detti lontani di rojalaim e che tutto annegasse nel denso verde dei giardini capresi anche al suo udito stava succedendo qualcosa di strano aveva l'impressione che in lontananza delle trombe suonassero lievi e minacciose e percepì con grande chiarezza una voce nasale che strascicava arrogantemente le parole legge di lesa maestà passarono in un lampo pensieri brevi sconnessi straordinari sono perduto poi siamo perduti e un altro ancora del tutto assurdo tra qui su chissà quale immortalità un'immortalità che provocava un'angoscia intollerabile pilato fece uno sforzo scacciò la visione rivolse nuovamente lo sguardo al balcone e si ritrovò davanti gli occhi del prigioniero senti a noseri disse il procuratore guardando yeshua con una strana espressione il suo volto era minaccioso ma gli occhi inquieti hai mai parlato del grande cesare rispondi ne hai parlato o non ne hai parlato pilato prolungò la parola non alquanto più di quanto si convenga in tribunale e lanciò un'occhiata a yeshua come se volesse suggerirgli un pensiero è facile e grato dire la verità osservò l'arrestato non mi interessa ribatte con voce strozzata e cattiva pilato se ti è grato o no dire la verità ma tu la dovrai dire però dicendola pesa ogni tua parola se non vuoi una morte non solo inevitabile ma anche tormentosa nessuno sa che cosa succedesse al procuratore della giudea ma egli si permise di alzare la mano come per proteggersi da un raggio di sole e dietro quella mano come al riparo di uno scudo di lanciare al prigioniero uno sguardo d'intesa dunque disse rispondi conosci un certo giuda di kiriat e che cosa gli hai detto di preciso su cesare se mai gliene hai parlato è andata così cominciò di buon grado a raccontare il prigioniero l'altro ieri di sera ho fatto conoscenza vicino al tempio di un giovane che diceva di chiamarsi giuda della città di kiriat mi invitò a casa sua nella città bassa e mi offrì da mangiare è un uomo buono chiese pilato è un fuoco diabolico guizzò nei suoi occhi un ottimo uomo desideroso di sapere confermò il prigioniero espresse il più vivo interesse per le mie idee e mi accolse con molta cordialità accese i candelabri disse pilato tra i denti con lo stesso tono del prigioniero mentre i suoi occhi scintillavano proprio così continuò yeshua un po stupito di quanto ben informato fosse il procuratore mi chiese che cosa pensassi del potere statale e questo problema lo interessava moltissimo e tu cosa gli dicesti si informò pilato o mi dirai che hai dimenticato ciò che gli dicesti ma nel tono di pilato non c'era più speranza tra l'altro ho detto raccontò il prigioniero che ogni potere è violenza sull'uomo e che verrà un tempo in cui non vi saranno né poteri né cesari né qualsiasi altra autorità l'uomo giungerà al regno della verità e della giustizia dove non occorrerà alcun potere poi poi non ci fu altro disse il prigioniero entrarono di corsa degli uomini che mi legarono e mi portarono in prigione il segretario scriveva rapido sulla pergamena cercando di non lasciarsi sfuggire neppure una parola non vi è mai stato al mondo non vi è e non vi sarà mai un potere più grande più splendido per gli uomini del potere dell'imperatore tiberio la voce stentata e ammalata di pilato crebbe e il procuratore guardava con odio il segretario e la scorta e non spetta a te pazzo criminale discuterne poi pilato esclamò la scorta esca dal balcone e voltandosi verso il segretario soggiunse lasciami solo col criminale si tratta di un affare di stato i legionari alzarono le lance e sbattendo ritmicamente le calighe inchiodate uscirono nel giardino dietro la scorta uscì anche il segretario per un certo tempo il silenzio del balcone fu interrotto soltanto dal canto dell'acqua nella fontana pilato vedeva la parte superiore del getto alzarsi piatta sullo zampillo infrangendosi ai bordi e ricadere poi arrivoli il prigioniero parlò per primo vedo che è successo un guaio per colpa di quello che ho detto a quel giovane di kiriat io e gemone ho il presentimento che gli succederà una disgrazia e mi fa molta pena io credo rispose il procuratore con uno strano sogginio che c'è al mondo un'altra persona che ti dovrebbe fare più compassione che giuda di kiriat perché le toccherà una sorte ben peggiore di quella di giuda dunque secondo te marco l'ammazzatopi boia freddo e convinto e la gente che come vedo il procuratore indicò il viso deturpato di yeshua ti ha picchiato per le tue prediche i breganti di isma e esta che con i loro complici hanno assassinato quattro soldati e infine quello sporco traditore di giuda sono tutti buona gente sì rispose il prigioniero e verrà il regno della verità sì e gemone rispose convinto yeshua non verrà mai gridò un tratto pilato con voce così terribile che yeshua barcollò con la stessa voce molti anni prima pilato aveva gridato ai suoi soldati nella valle delle vergini ammazzateli ammazzateli hanno preso l'ammazzatopi alzò ancora la voce rovinata dai comandi in modo da essere sentito in giardino criminale 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 poi abbassando la voce chiese yeshua nostri tu credi negli dei dio è uno rispose yeshua io credo in lui e allora prega e prega fortemente del resto e qui pilato arrochi non ti servirà ai moglie chiese malinconicamente il procuratore senza capire che cosa gli stesse succedendo no sono solo odiosa città borbottò un tratto il procuratore e le sue spalle ebbero un brivido come se avesse freddo si fregò le mani come se le stesse lavando se ti avessero ammazzato prima del tuo incontro con giuda di chiriat davvero sarebbe stato meglio e tu lasciami andare e gemone chiese inaspettatamente il prigioniero e la sua voce divenne inquieta vedo che mi vogliono uccidere il volto di pilato fu deformato da un crampo e gli voltò verso yeshua i suoi occhi infiammati coperti di venuzze rosse e disse tu credi disgraziato che un procuratore romano lasci libero un uomo che ha detto le cose che hai detto tu o nomi o credi che io sia pronto a prendere il tuo posto non condivido le tue idee e ascoltami se da questo momento tu pronuncerai anche una sola parola se ti rivolge qualcuno guardati da me ripeto stai attento e gemone silenzio gridò pilato e con uno sguardo furioso seguì la rondine che era di nuovo volata nel balcone venite esclamò pilato quando il segretario e la scorta furono tornati ai propri posti pilato dichiarò che confermava la condanna a morte pronunciata nell'assemblea del piccolo sinedrio contro il criminale yeshua a noseri e il segretario scrisse quello che aveva detto il procuratore un attimo dopo marco l'ammazzatopi stava davanti a pilato questi gli ordinò di consegnare il condannato al capo del servizio segreto riferendogli nel contempo l'ordine del procuratore di separare yeshua a noseri dagli altri condannati e di vietare che gli agenti del servizio segreto parlassero con yeshua di qualsiasi argomento o rispondessero a qualsiasi sua domanda a un segno di marco la scorta circondò yeshua e lo condusse via dal balcone pilato disse che aveva esaminato la pratica di yeshua a noseri e che aveva confermato la condanna a morte quindi le condanne a morte che dovevano essere eseguite quella mattina erano state pronunciate contro i tre ladroni disma esta e barra ban e inoltre quel yeshua a noseri i primi due che incitavano il popolo a rivoltarsi contro cesare essendo stati presi con le armi dalle autorità romane rientravano nella sfera di competenza del procuratore e quindi non se ne sarebbe parlato gli altri cioè barra ban e a noseri erano stati arrestati dalle autorità locali e giudicati dal sinedrio secondo la legge e la consuetudine si sarebbe dovuto rilasciare uno dei due prigionieri in onore della grande festa di pasqua che stava per iniziare pertanto il procuratore desiderava sapere quale dei due criminali il sinedrio intendeva liberare barra ban oppure a noseri caifa chinò la testa per significare che la questione era chiara e rispose il sinedrio prega di liberare barra ban il procuratore sapeva bene che gran sacerdote gli avrebbe dato proprio quella risposta ma il suo compito era dimostrare che essa lo sorprendeva e pilato lo fece con molta arte le sopracciglia si alzarono nel volto altero e il procuratore fissò il gran sacerdote dritto negli occhi con espressione stupita confesso che questa risposta mi sorprende disse con dolcezza il procuratore temo che vi sia un equivoco pilato si spiegò le autorità romane non intendevano affatto a tentare ai diritti del potere spirituale locale questo il gran sacerdote lo sapeva benissimo ma nel caso presente c'era evidentemente un errore e le autorità romane erano naturalmente interessate a correggere l'errore infatti la gravità dei crimini di barra ban e di a noseri non poteva neppure essere messa a confronto se il secondo chiaramente pazzo era colpevole di aver tenuto discorsi insensati ai rojala in me in altre località turbando le popolazioni le colpe a carico del primo erano molto più gravi non solo aveva usato incitare apertamente alla rivolta ma al momento del suo arresto aveva anche ucciso una guardia barra ban era certamente più pericoloso di a noseri considerato tutto questo il procuratore pregava il gran sacerdote di ritornare sulla sua decisione e di rimettere in libertà il meno pericoloso dei due condannati cioè senza alcun dubbio a noseri dunque a caifa disse con voce sommessa ma decisa che il sinedrio aveva esaminato la questione con la massima attenzione che ribadiva la sua intenzione di liberare barra ban come anche dopo il mio intervento l'intervento di colui che parla a nome delle autorità romane gran sacerdote ripetilo per la terza volta anche per la terza volta comunico che noi liberiamo barra ban disse piano caifa tutto era finito e non vi rimaneva più nulla da dire a noseri se ne andava per sempre e non c'era più nessuno che potesse guarire il procuratore dai suoi dolori tremendi contro i quali non esistevano mezzi all'infuori della morte ma ora pilato fu colpito da un altro pensiero la stessa incomprensibile angoscia che si era già impadronita di lui sul balcone penetrava tutto il suo essere tentò subito di capirne il motivo ma la spiegazione era strana al procuratore sembrò vagamente di non aver detto tutto il necessario al condannato o forse di non averlo ascoltato fino in fondo pilato scacciò questo pensiero ed esso svanì in un istante così come era avvenuto sparì ma l'angoscia restò inspiegata poiché non riuscì a spiegarla un altro breve pensiero balenato e spentosi come un lampo l'immortalità è arrivata l'immortalità era arrivata l'immortalità per chi a questo il procuratore non lo capì ma il pensiero di questa misteriosa immortalità gli fece gelare il sangue sotto il solleone bene disse pilato così sia si voltò lanciò uno sguardo al mondo visibile e si stupì del cambiamento avvenuto era scomparso il cespuglio sovraccarico di rose erano scomparsi i cipressi che circondavano la terrazza superiore e il melograno e la statua bianca tra la verzura e la verzura stessa al posto di tutto questo era scesa una densa nube purpurea in essa ondeggiavano delle alghe che furono trascinate via e con loro fu trascinato via anche pilato lo trasportava adesso strozzandolo e bruciandolo la più terribile di tutte le ire l'ira dell'impotenza pilato alzò il volto e lo rivolse al sole sotto le palpebre gli si accese un fuoco verde il fuoco gli fece ardere il cervello e sulla folla volarono gutturali parole aramaiche quattro criminali arrestati a jerusalem per assassinio incitamento alla rivolta e offeso alle leggi e alla fede sono stati condannati a una morte ignominiosa appesi ai pali l'esecuzione avrà luogo subito sul calvario i nomi dei criminali sono disma esta barra ban e a nosri eccoli davanti a voi pilato fece con la mano un segno verso destra senza vedere alcun criminale ma sapendo che essi si trovavano là dove dovevano trovarsi la folla rispose con un lungo boato come di sorpresa o di sollievo quando questo si spense pilato continuò ma solo tre di loro saranno giustiziati poiché secondo la legge la consuetudine in onore della festa di pasqua a uno dei condannati scelto dal piccolo sinedrio e confermato dalle autorità romane il generoso cesare imperatore restituisce la spreggevole vita pilato urlava queste parole e nello stesso tempo ascoltava il rombo della folla mutarsi in un assoluto silenzio alle sue orecchie adesso non giungeva un sospiro un fruscio e arrivò persino un momento in cui gli sembrò che tutto fosse scomparso intorno a lui l'odiata città era morta ed era rimasto lui solo arso dai raggi perpendicolari con il viso affisso nel cielo pilato mantenne ancora il silenzio poi ricominciò a scandire il nome di colui che sarà liberato adesso fece ancora una pausa prima di pronunciare il nome controllando se avesse detto tutto perché sapeva che la città morta sarebbe risorta dopo l'annuncio del nome del fortunato e nessuna ulteriore parola sarebbe stata udita è tutto sussurrò pilato tra sé è tutto il nome e rotolando la r sulla città in silenzio gridò parra pan a questo punto gli sembrò che il sole squillando fosse scoppiato sopra di lui e gli avesse riempito le orecchie di fuoco nel fuoco infuriavano uri strilli gemiti risate e fischi pilato si girò e attraversò il palco diretto verso i gradini senza guardare nulla tranne i quadratini multicolori della stuoia sotto i piedi per non inciampare sapeva che alle sue spalle piovevano sul palco monete di bronzo e datteri che nella folla urulante schiacciandosi la gente si arrampicava sulle spalle per vedere con i propri occhi il miracolo un uomo che già tra le grinfie della morte ne era scampato sapeva che i legionari gli stavano togliendo le corde causandogli involontariamente un dolore bruciante alle braccia slogate durante gli interrogatori sapeva che l'uomo pur tra smorfie e gemiti sorrideva di un sorriso insensato e folle sapeva anche che in quel momento la scorta stava conducendo verso i gradini laterali tre uomini dalle mani legate per portarli sulla strada diretta occidente fuori della città al calvario e solo quando fu oltre il palco dietro ad esso pilato aprì gli occhi sapendo d'essere in salvo i condannati ormai erano nascosti ai suoi occhi al gemito della folla che cominciava a spegnersi si aggiunsero e si poteva distinguerli le grida penetranti dei banditori che ripetevano gli uni in aramaico gli altri in greco tutto ciò che il procuratore aveva urlato sul palco giunse inoltre al suo udito lo scalpitare ritmico e frusciante di un gruppo di cavalieri che si avvicinava poi una tromba che annunciò qualcosa con un suono breve e caio a questi suoni seguirono i fischi squillanti dei ragazzini sui tetti delle case lungo la via che portava dal mercato alla piazza dell'ippodromo e grida di attenzione un soldato che stava solo sulla parte libera della piazza agitò allarmato l'emblema che aveva in mano e allora il procuratore il legato della legione il segretario e l'ascolta si fermarono con un trotto sempre più marcato una corte all'aria di cavalleria irruppe nella piazza attraversò di sghembo evitando la calca passò a lungo il vicolo sotto il muro di pietra coperto di vite e prese la strada più breve per il calvario piccolo come un bambino bruno come un mulatto il comandante della laria un siriano che era lanciato a un forte trotto quando giunse all'altezza di pilato gridò qualcosa con voce sottile e sfoderò la spada il suo umbroso morello coperto di sudore scartò e si impennò ringuainata alla spada il comandante frustò il cavallo sul collo lo dominò e si diresse verso il vicolo passando al galoppo a tre a tre lo seguirono i cavalieri in una nuvola di polvere saltellarono le punte delle leggere lance di bambù davanti al procuratore sfilarono in un lampo volti che sembravano particolarmente abbronzati sotto i bianchi turbanti coi denti che luccicavano allegramente di grignanti sollevando polvere fino al cielo la laria irruppe nel vicolo e davanti a pilato passò per ultimo un soldato che dietro la schiena portava appesa una tromba che riluceva nel sole proteggendosi con un braccio dalla polvere e facendo una smorfe di scontento pilato proseguì verso il portone del giardino e dietro a lui si mossero il legato il segretario e la scorta erano circa le dieci del mattino erano circa le dieci del mattino riverito ivan nikolaevich disse il professore il poeta si passò una mano sul volto come un uomo che si sia appena svegliato e vide che era sera l'acqua dello stagno si era fatta nera discivolava una barca leggera si sentivano lo sciabordio del remo e le risatine di una donna sulla barca sulle panchine dei viali adesso c'era gente ma solo su tre lati del quadrato non su quello dove si trovavano i nostri il cielo sopra mosca sembrava sbiadito e con assoluta nitidezza in alto si vedeva la luna piena che però non era ancora dorata ma bianca respirare era diventato molto più facile e le voci sottitiglie adesso risuonavano più dolci come suole di sera come ho fatto a non accogliermi che è riuscito a fabbricare un intero racconto pensò biesdomini meravigliato è già sera ma forse non è stato lui a raccontarlo sono io che mi sono addormentato e mi sono sognato tutto ma si deve supporre che fosse proprio stato il professore a raccontare se non bisognerebbe ammettere che anche berliosa aveva avuto lo stesso sogno questi disse infatti guardando con attenzione il volto del professore il suo racconto è estremamente interessante professore anche se non corrisponde affatto a quanto raccontano i vangeli per carità ridacchiò con condiscendenza il professore lei più di tutti deve pur sapere che niente di quanto è scritto nei vangeli è mai successo se cominciamo a considerare il vangelo come una fonte storica ridacchiò ancora una volta e berliosa restò di sasso perché aveva detto le stesse identiche cose a biesdomini mentre camminavano lungo la bronnaia sono d'accordo rispose berliosa ma temo che nessuno potrà confermare che quello che lei ci ha raccontato sia avvenuto per davvero oh no c'è chi lo può confermare rispose con straordinaria sicurezza il professore cominciando a storpiare le parole e con una inaspettata aria di mistero fece segno ai due di avvicinarsi e questi si chinarono verso di lui da entrambi i lati ed egli disse questa volta con un'ottima pronuncia che e chissà perché ora gli veniva e ora gli spariva il fatto è e qui il professore si guardò intorno con fare impaurito e proseguì con un sussurro che ho assistito personalmente a tutto questo ero sul balcone con Ponzio Pilato nel giardino quando parlava con Caifa e sul palco ma in segreto in incognito per così dire vi prego quindi di non farne parole con nessuno e di servare il segreto più assoluto subentrò il silenzio e Berlioso impallidì lei è a Mosca da molto tempo? chiese con voce tremante sono appena arrivato rispose smarrito il professore e solo allora agli amici venne in mente di guardarlo ben bene negli occhi e si convinsero che quello verde sinistro era completamente dissennato e il destro era vuoto nero e spento adesso si spiega tutto pensò Berlioso sconcertato è arrivato un tedesco pazzo oppure è ammattito adesso che storia sì questo spiegava veramente tutto sia la stranissima colazione col defunto professor Kant sia i discorsi cretini sull'olio di girasole e a Nushka sia la predizione della testa tagliata sia tutto il resto il professore era pazzo Berlioso capì subito quello che conveniva fare addossandosi allo schienale della panchina ammicò a Biesdomni dietro le spalle del professore come a dire non contraddirlo ma il poeta smarrito non capì quei segnali sì 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 diceva eccitato Berlioso del resto tutto questo è possibile anzi possibilissimo Ponzio Pilato il balcone eccetera eccetera lei è venuto qui da solo con la sua signora solo sono sempre solo rispose Amaro il professore dove la sua roba professore indagava con aria insinuante Berlioso al metropol dove chi alloggia io da nessuna parte rispose il tedesco pazzo mentre il suo occhio verde sorvolava malinconico e stralunato l'acqua dello stagno come ma allora dove abiterà nel suo appartamento rispose con disinvoltura il pazzo e ammicò io ne sarò lietissimo borbottò Berlioso ma veramente a casa mia non starà comodo al metropolo invece ci sono camere splendide è un albergo di prim'ordine e neppure il diavolo esiste chiese allegramente l'alienato a Ivan Nikolaevich neppure non contrattirlo disse Berlioso col solo movimento delle labbra nascondendosi d'impeto dietro le spalle del professore e facendo smorfie non c'è il diavolo esclamò Ivan Nikolaevich confuso da tutto quel garbuglio proprio a me doveva capitare la smetta di dare i numeri qui il folle scoppiò in una risata tale che dal tiglio sopra le loro teste si alzò in volo un passero ma questa sì che è bella proferì il professore tutto scosso dalla risata ma come mai di qualunque cosa si parli non c'è mai niente beh cessò di ridere all'improvviso e cosa comprensibilissima in un malato di mente dopo il riso cadde nell'estremo opposto si irritò e gridò con severità dunque non c'è per il davvero si calmi si calmi si calmi professore borbotava Berliosa temendo di agitare il malato stia seduto qui un momento col compagno Biesdomni corro qui all'angolo faccio una telefonatina e poi l'accompagniamo dove vuole lei non conosce la città si deve ammettere che il piano di Berliosa era giusto occorreva fare una corsa fino a più vicino telefono pubblico e comunicare all'ufficio stranieri che un consulente arrivato dall'estero si trovava agli stagni patriarci in uno stato tutt'altro che normale bisognava perciò prendere delle misure se no sarebbe successo un pasticcio vuole telefonare? ma sì telefoni pure acconsentì malinconecamente l'alienato ma a un tratto disse implorante ma lasciandoci la supplico creda almeno che il diavolo esiste non le chiedo nulla di più tenga presente che c'è una settima prova che lo dimostra ed è la più sicura e adesso le sarà sottoposta bene bene disse con finta affabilità Berliosa e ammiccando al poeta sconcertato al quale non sorrideva affatto l'idea di sorvegliare quel pazzo di tedesco si precipitò verso l'uscita dei patriarci che si trova all'angolo della Bronnaia e del vicolo Jermolajewski subito il professore sembrò ristabilirsi e rasserenarsi Mikhail Aleksandrovich gridò alle spalle di Berliosa questi trasalì si voltò ma si tranquillizzò pensando che il professore conosceva il suo nome patronimico per averli letti in su qualche giornale il professore gridò mettendo le mani a megafono davanti alla bocca non vuole che mandi subito un telegramma a suo zio di Kiev? Berliosso sultò di nuovo ma come faceva quel pazzo a conoscere l'esistenza dello zio di Kiev? questo nessun giornale l'aveva certamente mai pubblicato e non aveva allora ragione Vies Domni e se quei documenti fossero stati falsi? ah un tipo davvero strano telefonare, telefonare subito avrebbe fatto presto a scoprire chi era e non ascoltando oltre Berlios riprese a correre qui proprio all'uscita sulla bronnaia si alzò da una panchina per venire incontro al direttore quello stesso personaggio che prima alla luce del sole si era plasmato dall'aria afosa adesso però non era più fatto d'aria ma di carne e ossa e nel crepuscolo incipiente Berlios vide con chiarezza che aveva un paio di baffetti a forma di penne di gallina occhi piccoli ironici mezzi brilli e pantaloni a quadretti tirati su al punto che si vedevano i calzini bianchi sporchi Mikhail Aleksandrovich indietreggiò stupito ma si confortò pensando che si trattava di una sciocca coincidenza che comunque non aveva tempo di rifletterci cerca l'uscita signore si informò confessa voce tenorile il tizio a quadretti di qua prego vada diritto e arriverà a destinazione ah per il consiglio mi dovrebbe pagare un quattrino così l'ex maestro di cappella si tira su facendomi le smorfie quell'individuo si tolse il berretto da fantino con un ampio gesto Berlios non stette ad ascoltare quel vagabondo e buffone che si diceva maestro di cappella si avvicinò di corsa verso il tornello di uscita e gli appoggiò la mano dopo averlo girato si accingeva già a mettere i piedi sulle rotaie quando gli esplose in viso una luce rossa e bianca nella cassetta di vetro si era accesa la scritta attenti al tram e subito spuntò il tram annunciato voltando sulla nuova linea che portava dalla Jermola Jemsky alla Bronnaia dopo che ebbe voltato e imboccato il rettilineo all'improvviso si illuminò all'interno di luce elettrica ronzò e accelerò il prudente Berlios benché fosse al sicuro decise di tornare dietro il cancello spostò la mano sul tornello e arretrò di un passo beh in quell'istante la sua mano scivolò e perse l'appoggio il piede come se si fosse trovato sul ghiaccio sdrucciolò inarrestabile sul selciato che scendeva ad eclive verso le rotaie l'altro piede volò in aria e Berlios fu sbalzato sulle rotaie tentando di aggrapparsi a qualcosa Berlios cadde riverso urtando leggermente la nuca sul selciato e fece in tempo a vedere in alto se a destra o a sinistra questo ormai non lo capì la luna dorata riuscì a girarsi sul fianco stringendo con un movimento impetuoso le gambe sulla pancia e voltatosi vide slanciarglisi addosso con una forza irrefrenabile il volto completamente bianco di terrore della conducente e il suo fazzoletto scarlato Berlios non gettò un grido ma intorno a lui tutta la via strillò in un coro di disperate voci femminile la conducente diede uno strappo al freno elettrico la vettura si impuntò poi sovbalzò l'istante e con uno schianto e un tintinnio i vetri volarono via dai finestrini allora nel cervello di Berlios qualcuno gridò disperatamente possibile ancora una volta l'ultima valenò la luna ma ormai sfacendosi in pezzi e poi fu buio il tram coperse Berlios e sotto il cancelletto del viale Patriarci sul pendio lastricato fu gettato un oggetto tondo e scuro che rotolò giù dalla china saltellando sul selciato era la testa mozzata di Berlios si spensero le isteriche urla femminili tacquero gli stridenti fischietti dei poliziotti e due ambulanze portarono via l'una il corpo decapitato e la testa tagliata all'obitorio e l'altra la bella conducente ferita dalle schegge di un vetro alcuni portinai dai bianchi grembiuli spazzarono via i frammenti di vetro e cosparsero di sabbia le pozze di sangue e Ivan Nikolaivic che si era lasciato cadere su una panchina senza arrivare fino all'uscita vi si accasciò tentò più volte di alzarsi ma le gambe non gli ubbidivano gli era venuta una specie di paralisi il poeta si era precipitato verso l'uscita non appena aveva sentito il primo urlo e aveva visto la testa saltellare sul selciato era talmente scosso che lasciatosi cadere sulla panchina si morse una mano fino a farla sanguinare di quel pazzo di tedesco naturalmente si era dimenticato e cercava di capire una cosa sola come era possibile che avesse appena parlato con Berlioz e un momento dopo quella testa agitata la gente correva davanti al poeta lungo il viale gettando esclamazioni ma Ivan Nikolaivic non percepiva le loro parole ma inaspettatamente vicino a lui si incontrarono due donne una col naso appuntito e la testa scoperta gridò all'altra queste parole sopra l'orecchio del poeta Annushka la nostra Annushka quella della Satovaia guarda che ha combinato ha comperato dell'olio di girasole dal droghiere e poff la bottiglia le si rompe contro il cancello del giardino si è rovinata tutta la gonna e tirava certi moccoli e lui poverino si vede che è scivolato e è andato a finire sulle rotaie di tutto quello che aveva gridato la donna il cervello sconvolto di Ivan Nikolaivic aveva afferrato una sola parola Annushka 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 borbottò il poeta guardandosi intorno all'armato un momento alla parola Annushka si associarono olio di girasole e poi chissà perché Ponzio Pilato il poeta respinse Pilato e cominciò a connettere una catena di associazioni a partire da Annushka la catena si formò molto presto e subito lo condosse a quel matto di professore scusate l'aveva ben detto lui che la riunione non ci sarebbe stata perché Annushka aveva rovesciato l'olio e difatti la riunione non ci sarà non basta ha detto chiaro e tondo che una donna avrebbe tagliato la testa Berlioz si 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 il tram era guidato da una donna che cosa significa tutto questo non rimaneva ombra di dubbio che il misterioso consulente conosceva con esattezza e in anticipo come si sarebbe svolta l'atroce morte di Berlioz due pensieri penetrarono allora nel cervello del poeta il primo non è affatto pazzo sono tutte sciocchezze e il secondo non l'avrà mica tramato lui ma scusate tanto in che modo e no questo noi lo sapremo e facendo uno sforzo enorme Ivan Nikolaevich si alzò sulla panchina e tornò a precipizio là dove aveva parlato con il professore per fortuna questi non era ancora andato via sulla bronnaia i lampioni erano già accesi sopra i patriarci e splendeva la luna dorata e nella sua luce sempre ingannevole a Ivan Nikolaevich sembrò che l'uomo stesse in piedi tenendo sotto un braccio non una canna ma una spada l'ex maestro l'ex maestro di cappella furbacchione sedeva al posto dove poco prima si trovava Ivan Nikolaevich adesso il vagabondo si era messo sul naso un paio di occhiali a molla chiaramente superfluo dato che una delle lenti mancava e l'altra era incarinata così quel tizio a quadritti sembrava ancora più repellente di quanto non fosse quando aveva indicato la via delle rotaie avverlioso con il cuore che gli si gelava Ivan si avvicinò al professore e guardatolo in faccia si convinse che non presentava il minimo sintomo di pazzia confessi chi è lei? chiese Ivan con voce sorda il forestiero si imbronciò gli diede un'occhiata come se lo vedesse per la prima volta in vita sua e rispose con ostilità non capire non parlare russo sua eccellenza non capisce il russo intervenne dalla panchina il maestro di cappella benché nessuno gli avesse chiesto di spiegare le parole del forestiero la smetta di fingere disse minaccioso Ivan e si sentì rimescolare la pancia un attimo fa lei parlava russo alla perfezione lei non è tedesco né professore lei è un assassino è una spia fuori documenti urlò infuriato Ivan l'enigmatico professore torse con un senso di ripugnanza la bocca già storta e si strinse nelle spalle signore si intrufolò di nuovo il disgustoso maestro di cappella perché disturba un turista straniero ne risponderà di fronte alla legge il sospetto professore assunse un'espressione altera si voltò e piantò in asso Ivan il poeta non sapeva che pesce pigliare ansimando si rivolse al maestro di cappella il signore mi aiuti a fermare un criminale lei ha l'obbligo di farlo il maestro di cappella si animò al massimo balzò in piedi e urlò quale criminale dov'è un criminale straniero i suoi occhietti brillarono di allegria quello se è un criminale per prima cosa bisogna urlare aiuto se no scappa tu insieme e spalancò le fauci confuso Ivan dieteretta al maestro di cappella buontempone e gridò aiuto ma l'altro lo ingannò e non gridò niente l'isolato urlo rauco di Ivan non diede buoni risultati due ragazzi si scansarono ed egli udì la parola ubriaco sei suo complice gridò Ivan arrabbiandosi mi stai prendendo in giro lasciami passare Ivan si slanciò a destra e anche il maestro di cappella si slanciò a destra Ivan si slanciò a sinistra e altrettanto fece quel mascalzone lo fai apposta a starvi tra i piedi gridò Ivan infuriandosi consegnerò pure te alla polizia Ivan tentò di afferrare quel farabutto per una manica ma mancò il colpo e non prese un bel nulla sembrava che la terra lo avesse inghiottito Ivan lanciò un'esclamazione guardò davanti a sé e vide l'odioso sconosciuto il professore si trovava già presso l'uscita che da sul vicolo patriarci e non era solo il più che sospettabile maestro di cappella aveva fatto in tempo a unirsi a lui ma non era ancora tutto il terzo di quella compagnia era un gatto svucato da chissà dove grosso come un maiale nero come il carbone o come un corvo e con tremendi baffi da cavalleggero il terzetto avanzava verso il patriarci e il gatto camminava sulle zampe posteriori Ivan si precipitò dietro ai malfattori e si convince subito che raggiungerli sarebbe stato difficilissimo il terzetto attraversò fulmino il vicolo e si ritrovò sulla Speridonovka per quanto Ivan affrettasse il passo la distanza tra lui e gli inseguiti non diminuiva affatto non fece in tempo a riaversi che dopo la calma Speridonovka si ritrovò alle porte nichischie dove la sua posizione peggiorò a causa della calca per di più a questo punto la banda dei criminali decise di mettere in atto la classica mossa banditesca di sparpagliarsi in varie direzioni con grande agilità il maestro di cappella si intrufolò in un autobus in corsa che volava verso la piazza dell'Arbat e si dileguò avendo perso uno degli inseguiti Ivan concentrò la sua attenzione sul gatto e vide quello strano animale avvicinarsi al predellino del vagone di testa del tram immobile alla fermata e spingere via con insolenza una donna afferrare la maniglia e tentare perfino di dare una moneta da dieci copieche alla bigliettaria attraverso un finestrino aperto per l'afa il comportamento del gatto sbalordì talmente Ivan da lasciarlo immobile davanti alla drogheria sull'angolo e subito una seconda volta ma con molta più forza egli fu sbalordito dal comportamento della bigliettaria questa non appena vide il gatto che saliva sul tram gridò con una rabbia che la scuteva tutta è vietato ai gatti è vietato portare gatti passa via scendi se no chiamo la polizia né la bigliettaria né i passeggeri furono colpiti della cosa principale non dal fatto che un gatto salisse sul tram questo poteva ancora passare ma dal fatto che volesse pagare il biglietto il gatto si dimostrò animale non soltanto solvibile ma anche disciplinato alla prima sgridata della bigliettaria cessò l'attacco si staccò dal predellino e si sedette alla fermata soffregandosi i baffi con la monetina ma non appena la bigliettaria diede il segnale e il tram si mosse il gatto si comportò come chiunque sia cacciato da un tram sul quale deve viaggiare per forza dopo essersi lasciato passare davanti tutte e tre le vetture balzò sulla parte posteriore dell'ultima si afferrò con la zampa a un tubo che usciva dal veicolo e filò via economizzando in tal modo il prezzo della corsa per colpa di quello sporco gatto Ivan per poco non perdeva il principale dei tre il professore ma per fortuna quello non fece in tempo a tagliare la corda Ivan vide il berretto grigio a emergere tra la folla all'inizio della balshaia Nikiskaya ora via Erzen e in un batter d'occhio vi arrivò anche lui ma senza alcun successo il poeta affrettò il passo poi si mise a trottare urtando i passanti eppure non riuscì ad avvicinarsi al professore nemmeno di un centimetro per quanto Ivan fosse sconvolto pure fu colpito dalla velocità soprannaturale con cui si svolgeva l'inseguimento non erano ancora passati venti secondi dalle porte Nikiskye che già lo accecavano le luci dell'Arbat ancora qualche secondo ed ecco un vicolo buio dai marciapieti svilenchi dove Ivan Nikolaevich cadde facendosi male al ginocchio di nuovo un viale illuminato poi via Krapotkin poi un altro vicolo squallido brutto e male illuminato proprio qui Ivan Nikolaevich perse in modo definitivo colui che stava inseguendo il professore era scomparso Ivan Nikolaevich rimase perplesso ma non a lungo perché di colpo capì che il professore doveva per forza trovarsi nella casa numero 13 e senza fallo nell'appartamento numero 47 Ivan Nikolaevich irruppe nell'androne volò al secondo piano trovò subito l'appartamento e suonò con impazienza e non dovete aspettare a lungo la porta gli fu aperta da una bimbetta sui cinque anni che se nanno via subito senza chiedergli niente l'enorme anticamera estremamente trascurata era illuminata debolmente da una minuscola lampadina a filamento di carbone appesa sotto l'alto soffitto nero di sporcizia al muro era agganciata una bicicletta senza gomme c'era un'enorme cassapanca rivestita di ferro e sul palchetto sopra l'attaccapanni si trovava un berretto invernale coi lunghi copriorecchi pensolanti dietro una delle porte un'echeggiante voce maschile urlava iraconda nell'apparecchio radiofonico una poesia Ivan Nikolaevich non fu per niente imbarazzato da quell'ambiente sconosciuto e si diresse verso il corridoio ragionando così si è certamente nascosto nel bagno il corridoio era buio dopo aver urtato più volte contro le pareti Ivan vide sotto una porta una debole striscia di luce trovò a tastoni la maniglia e le diede un leggero strappo il gancio salto via Ivan si ritrovò proprio nel bagno e pensò di aver avuto fortuna però non tanta quanta occorreva un'ondata di caldo umido lo colpì e alla luce delle braci accese nello scaldabagno egli vide grossi chini appesi alle pareti e la vasca coperta di orrende macchie nere per lo smalto saltato via bene in quella vasca stava in piedi una signora nuda tutta insaponata e con una spugna in mano quando Ivan fece irruzione vergognata si ritrovò in cucina non vi era nessuno e nella penombra stavano silenziosi sulla stufa una decina di fornelli a petrolio spenti un unico quale pensiero dominasse Ivan in quel momento fatto sta che prima di fuggire dall'ingresso di servizio si appropriò di uno dei due ceri nonché della piccola icona di carta con quegli oggetti egli abbandonò l'alloggio sconosciuto borbottando qualcosa vergognandosi al pensiero di quello che era successo nel bagno e cercando involontariamente di indovinare chi potesse essere quell'insolente chirurgica e se fosse lui il proprietario di quell'antipatico berretto quei copriorecchi nel vicolo deserto e desolato il poeta si voltò per cercare il fuggiasco ma non se ne vedeva l'ombra e Ivan disse allora con fermezza a se stesso ma è naturale e sulla Moscova avanti si sarebbe dovuto forse chiedere a Ivan Nicolaevich perché riteneva che il professore fosse proprio sulla Moscova e non in qualche altro luogo il guaio è che non c'era nessuno che potesse chiederglielo l'abominevole vicoletto era completamente deserto dopo pochissimo tempo si poteva vedere Ivan Nicolaevich sulla scalinata di granito dell'anfiteatro della Moscova dopo essersi tolto i vestiti Ivan gli affidò a un simpatico uomo barbuto che stava fumando una sigaretta fatta a mano vicino a un camiciotto bianco strappato e un paio di scarpe scalcagnate e slacciate agitò le braccia per rinfrescarsi e si tuffò ad angelo nell'acqua il fiato gli si mozzò tanto era fredda e gli balenò perfino l'idea che forse non ce l'avrebbe fatta risalire a galla tuttavia ci riuscì e soffiando e sbuffando con gli occhi tondi dall'emozione Ivan Nicolaevich si mise a nuotare nell'acqua nera che puzzava di petrolio tra i riflessi a zigzag dei lampioni del lungo fiume quando Ivan tutto bagnato saltellò sui gradini diretto al posto dove sotto la guardia dell'uomo barbuto erano rimasti i suoi vestiti scoprì che non solo questi ultimi erano spariti ma anche il primo cioè l'uomo barbuto nel luogo esatto dove aveva lasciato i suoi vestiti trovò un paio di mutandone a righe il camiciotto strappato il cero la piccola icona e una scatola di fiammiferi dopo aver minacciato non si sa chi Ivan pieno di ira impotente si mise indosso quello che gli era stato lasciato a questo punto due considerazioni lo preoccuparono la prima che la tessera del Massolit dalla quale egli non si staccava mai era scomparsa e la seconda come avrebbe fatto ad attraversare Mosca in quello stato senza incontrare ostacoli dopo tutto era in mutande è vero che ognuno si dovrebbe occupare dei fatti suoi ma se avessero fatto delle storie o l'avessero trattenuto Ivan strappò via i bottoni delle mutande all'altezza delle caviglie sperando che in tal modo le avrebbero forse scambiate per dei pantaloni estivi raccattò l'icona i fiammiferi e il cero e si incamminò dicendo a se stesso da Gribaiedov non c'è dubbio lui è lì da Gribaiedov la città viveva già la sua vita notturna nella polvere filavano autocarri sferraglianti e nei cassoni sopra dei sacchi c'erano uomini sdraiati a pancia all'aria tutte le finestre erano spalancate in ognuna era accesa la luce sotto un paralume arancione e da tutte le finestre da tutte le porte da tutti gli androni dai tetti e dai solai dalle cantine e dai cortili prorompeva l'urlo arrochito della polonnese dell'opera Iughenia Niegin le preoccupazioni di Ivan Nicolaevic si rivelarono pienamente giustificate i passanti gli rivolgevano attenzione e si voltavano a guardarlo e prese quindi la decisione di abbandonare le vie principali e di passare nei vicoli dove la gente è meno indiscreta e vi sono minori probabilità che importunino un uomo scalzo esasperandolo con delle battute a proposito di quelle mutande che rifiutavano ostinatamente di assomigliare a dei calzoni Ivan fece così si addentrò nella rete misteriosa dei vicoli dell'Arbat e cominciò a rasentare i muri gettando occhiate spaventate voltandosi ad ogni istante nascondendosi a volte sotto i portoni ed evitando gli incroci coi semafori e i lussuosi ingressi delle palazzine delle ambasciate per tutto il difficile percorso fu tormentato in modo indicibile dall'onnipresente orchestra col cui accompagnamento un basso cantava gravemente il suo amore per Tatiana l'antica casa a un piano color crema si trovava sul viale della circonvalazione in fondo a un anemico giardino separato dal marciapiede da una cancellata di ghisa lavorata il piccolo spiazzo davanti alla casa era asfaltato d'inverno vi sorgeva un mucchio di neve in cui era infilata una pala d'estate si trasformava in un meraviglioso ristorante all'aperto riparato da un tendone la casa si chiamava casa di Gribaiedov perché si diceva che fosse appartenuta alla zia del celebre scrittore Aleksandr Sergeevich Gribaiedov beh lo fosse o no appartenuta non lo sappiamo con certezza anzi a quanto pare Gribaiedov non ebbe mai una zia padrona di immobili comunque la casa si chiamava così anzi un ben di frotto le moscovite affermava che al primo piano nella sala rotonda con le colonne il celebre scrittore aveva letto dei brani di che disgrazia l'ingegno eh le aveva letti a questa sua zia che se ne stava sdraiata sul sofà del resto chi lo sa forse li aveva letti per davvero ma non è questo che conta ciò che conta è che in quel tempo la casa apparteneva a quello stesso Massolit a capo del quale era stato il povero Mikhail Aleksandrovich Berlios prima della sua apparizione agli stagni Petriarshi seguendo l'esempio dei membri del Massolit nessuno la chiamava la casa di Gribaiedov tutti dicevano semplicemente Gribaiedov ieri ho sbrigato due ore al Gribaiedov e allora vado a Yalta per un mese se proprio in gamba oppure vada Berlios oggi riceve dalle 4 alle 5 al Gribaiedov e così via il Massolit si era sistemato in quella casa nel modo più confortevole che si possa immaginare chiunque vi entrasse prima di tutto senza volerlo vedeva i comunicati dei vari circoli sportivi nonché i ritratti di gruppo e singoli dei membri del Massolit appesi i ritratti ai muri della scala che portava al primo piano ogni visitatore che non fosse naturalmente del tutto ottuso capiva subito come se la passavano bene i beati membri del Massolit e un'oscura invidia cominciava subito a straziarlo e subito rivolgeva il cielo a mari rimproveri per non averlo dotato alla nascita di ingegno letterario senza il quale si intende non si poteva neppure sognare di avere una tessera di membro del Massolit quella tessera bruna con un largo bordo dorato che odorava di pelle pregiata ed era nota a tutta mosca chi spenderà una parola difesa dell'invidia è un sentimento catalogabile fra i più abbietti ma bisogna mettersi nei panni del visitatore infatti quello che egli aveva visto al piano superiore era ben lungi dall'essere tutto l'intero pianterreno della casa della zia era adibito al ristorante e che ristorante a ragione era considerato il migliore di mosca e non solo perché occupava due grandi sale coi soffitti a volta sui quali erano dipinti cavalli color lilla dalle criniere assire non solo perché su ogni tavolino c'era una lampada coperta da uno scialle non solo perché lì non poteva penetrare il primo venuto ma soprattutto perché per la qualità dei piatti il Gribaidov batteva e strabatteva qualsiasi ristorante di mosca e questi piatti venivano serviti a prezzi più che convenienti per nulla onerosi perciò non vi è nulla di sorprendente ad esempio in questa conversazione sentita un giorno dall'autore di queste veridicissime righe presso la cancellata di ghisa del Gribaidov dove ceni stasera Amoroshi? a che domanda qui naturalmente caro foca Archibald d'Archibaldovic mi ha sussurrato che stasera sulla lista ci sarà del pesce persico au naturel una cosettina da maestro sai vivere tu Amoroshi rispose con un sospiro foca trasandato e magro con un foruncolo sul collo a un gigante delle labbra vermiglie dai capelli dorati dalle guance paffuti Amoroshi il poeta eh sì cose di una volta i vecchi moscoviti si ricordano del celebre Gribaidov pesce persico lesso robetta da niente caro Amoroshi pensi invece allo sterleto allo sterleto in un pentolino argento allo sterleto a pezzetti alternati con cote di gamberi e caviale fresco e le uova in cocotto con un pure di funghi in tazza e i filettini di tordo non le piacevano coi tartufi e le quaglie alla genovese eh nove e cinquanta e il jazz e il servizio cortese e a luglio quando tutta la famiglia è in campagna mentre lei è trattenuto in città da affari letterari improrogabili sulla veranda all'ombra della vita rampicante il piatto di soup quintanier e in una dorata chiazza sulla lindissima tovaglia eh ricorda Ambrosci ma che c'è bisogno di chiederlo vedo dalle sue labbra chi ricorda e lei parla di marene e di pesce persico eh le beccacci i beccaccini i tordi le starne a secondo della stagione le pernici le accegge eh l'acqua minerale che pizzica nella gola ma fermiamoci qui eh ti stai distraendo lettore beh seguimi alle dieci e mezzo della sera in cui Berlioz era perito ai Petre Arci al piano superiore del Gribaiedov era illuminata una sola stanza e in essa languivano dodici letterati giunti lì per la riunione e in attesa di Mikhail Aleksandrovich seduti sulle sedie sui tavoli e persino su bui davanzali nella direzione del Massolit soffrivano molto per l'afa non un soffio d'aria fresca entrava dalle finestre spalancate Mosca restituiva la calura accumulata nell'asfalto durante il giorno ed era chiaro che la notte non avrebbe portato sollievo un odore di cipolla saliva dalla cantina dove si trovava la cucina del ristorante e tutti avevano voglia di bere ed erano nervosi e irritati il narratore Beskudnikov un uomo quieto ben vestito con gli occhi attenti e insieme sfuggenti tirò fuori l'orologio la lancetta avanzava verso le undici Beskudnikov batte il dito sul quadrante lo mostrò al suo vicino il poeta Drobatsky che stava seduto lì su un tavolo dondolando per la noia le gambe calzate di un paio di scarpe gialle dalla suola di gomma però borbottò Drobatsky all'amico sarà rimasto in villeggiatura commentò con voce densa Nastaschia orfana di una famiglia di mercanti moscoviti che diventata scrittrice e componeva racconti di battaglie navali firmandosi con lo pseudonimo capitano Georges scusate disse arditamente Zagribov autore di sketch di successo anch'io me ne starei con piacere sul balcone a prendere il tè invece di cuocere qui dentro la riunione se ben ricordo era fissata per le dieci si sta bene adesso in villeggiatura disse malignamente il capitano Georges sapendo che per leghino luogo di villeggiatura dei letterati era un punto debole per tutti a quest'ora staranno già cantando gli usignoli non so io lavoro sempre meglio fuori città soprattutto in primavera questo adesso non c'entra ponò a vapcov il fatto è che sono le undici e mezzo cominciarono a rumoreggiare e stava per maturare una specie di sedizione si misero a telefonare all'odiata per leghino ebbero la comunicazione con un altro villino con quello di lavrovic e appresero che lavrovic era andato al fiume e questo guastò in modo definitivo l'umore generale telefonarono a casaccio alla commissione per le belle lettere interno 930 e naturalmente non vi trovarono nessuno poteva anche telefonare gridarono Daneishkin Lugariev e Kvant oimè gridavano in vano non poteva telefonare Mikhail Aleksandrovich lontano molto lontano dal Gribaie Dov in una sala enorme illuminata da lampadine di mille candele giaceva su tre tavoli zincati ciò che ancora poco prima era stato Mikhail Aleksandrovich sul primo tavolo un corpo nudo col sangue raggrumato un braccio fracassato la rabbia toracica schiacciata sul secondo la testa con gli incisivi spezzati e gli occhi torbidi aperti che non reagivano più alla luce violenta e sul terzo un mucchio di stracci induriti attorno al cadavere decapitato si trovavano il professore di medicina legale l'anatomo patologo e il suo preparatore rappresentanti delle autorità inquirenti e il letterato Sgelbidin sostituto di Mikhail Aleksandrovich Berlioz al Massolit chiamato telefonicamente dal capezzale della moglie ammalata una macchina era andata a prelevare Sgelbidin e per prima cosa insieme alla polizia lo portò verso mezzanotte nell'alloggio dell'ucciso dove furono messi i sigilli su tutti i documenti e solo dopo raggiunsero l'obitorio Adesso raccolti attorno ai resti del defunto stavano conferendo sul modo migliore di procedere cucire la testa tagliata al corpo oppure esporre il corpo nel salone del Gribaiedov coprendo semplicemente fino al mento la vittima di un drappo nero sì Mikhail Aleksandrovich non poteva proprio telefonare e Denishkin Lukariev e Kvant e Beskudnikov gridavano e si indignavano in vano a mezzanotte in punto tutti e dodici i letterati lasciarono il piano superiore e scesero al ristorante anche qui imprecarono sottovoce contro Mikhail Aleksandrovich i tavolini sulla veranda naturalmente erano già occupati ed essi furono costretti a cenare nelle belle ma affose sale interne a mezzanotte in punto nella prima sala qualcosa si schiantò tintinnò si riversò tamburello e subito una sottile voce maschile urlò con accanimento accompagnata dalla musica alleluia aveva attaccato la celebre orchestra jazz del Gribaidov i volti coperti di sudore sembravano schiarirsi i cavalli dipinti sul soffitto parvero animarsi si sarebbe detto che le lampadine erano diventate più luminose e di colpo come scatenati i clienti dalle sale cominciarono a ballare e poi si misero a ballare anche sulla veranda ballò Glukariev con la poetessa Tamara ballò Kvant ballò il romanziere Tsukopov con un'attrice cinematografica vestita di giallo ballavano Dragunschki il piccolo Denishkin con la gigantesca capitano George ballava la bellissima architetta Semiaschka Gall stretta da uno sconosciuto con i pantaloni di tela bianca ballavano i membri e gli ospiti i moscoviti e i forestieri un regista con una psoriasi violacea su tutta la guancia ballavano i più noti rappresentanti della sezione poetica del Massolit ballavano dei giovincelli di professione ignota con i capelli tagliati a spazzola e le spalle della giacca imbottite ballava un tipo assai anziano con la barba in cui si era impigliato un pezzo verde di cipollina con lui ballava una gracile fanciulla divorata dall'anemia con un vestitino di seta arancione spiegazzato grondando di sudore i camerieri portavano sopra le teste boccali di birra appannati e urlavano arrochiti e pieni di odio scusi signore e in un punto una voce ordinava al megafono la voce sottile non cantava più ma ululava alleluia il fracasso dei piatti dorati del jazz copriva a volte quello delle stoviglie che le lavapiatti facevano scivolare in cucina lungo un piano inclinato insomma un inferno e a mezzanotte in quell'inferno ci fu una visione uscì sulla veranda un bell'uomo in frac gli occhi neri la barba guzza come un pugnale e con uno sguardo maestoso guardò i suoi possidimenti dicevano dicevano i mistici che vi era stato un tempo in cui il bell'uomo non portava il frac ma era fasciato da un largo cinturone di cuoio da cui sporgevano le impugnature delle pistole e i suoi capelli corvini erano stretti da un fazzoletto di seda rossa e ai suoi ordini navigava nel mar dei caraibi un brigantino battente bandiera nera con un teschio ah no no mentono i mistici con le loro rosinghe non esiste nessun mar dei caraibi non vi navigano filibustieri temerari non li insegue una corvetta sui frutti non si stende il fumo dei cannoni non c'è niente non c'è mai stato niente c'è un tiglio anemico c'è un cancello di ghisa e dietro un viale il ghiaccio si scioglie nel secchiello al tavolino accanto si vedono occhi bovini iniettati di sangue e ti prende la paura la paura nomi nomi io voglio del veleno del veleno del veleno a un tratto da un tavolo si levò la parola terlios di colpo il ghiaccio si sfice e si tacque come se qualcuno l'avesse colpito con un pugno cosa 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 perlion e si misero a dar balzi e si misero a gettar gridi un'ondata di dolore si slanciò in alto alla terribile notizia della fine di Mikhail Aleksandrovich qualcuno si agitava gridava che bisognava subito all'istante lì per lì scrivere un telegramma collettivo e spedirlo immediatamente ma quale telegramma chiediamo noi e a chi e perché spedirlo infatti a chi spedirlo a che serve un telegramma quale che esso sia all'uomo la cui nuca schiacciata e stretta ora dalle mani di gomma del preparatore e il cui collo è cucito dagli aghi curvi del professore è morto e non gli serve alcun telegramma tutto è finito non sovraccarichiamo il telegrafo sì è morto morto ma noi siamo vivi sì ci levò in alto un'ondata di dolore rimase per un po' e poi cominciò a decrescere qualcuno era già tornato al suo tavolino e prima di nascosto poi apertamente bebbe un po' di vodka e mandò giù qualcosa infatti non era proprio il caso di lasciare nel piatto le cotolette di volaio di che aiuto possiamo essere a Mikhail Aleksandrovich perché rimanere digiuni siamo vivi noi naturalmente il pianoforte fu chiuso a chiave i suonatori del jazz se ne andarono alcuni giornalisti tornarono nelle loro redazioni a scrivere la necrologia il ristorante intanto riprese la sua solita vita notturna e l'avrebbe vissuta fino alle 4 del mattino ora di chiusura se non fosse successo qualcosa di assolutamente straordinario che colpì gli ospiti del ristorante molto più che la notizia della morte di Berliuz i primi ad agitarsi furono i vetturini in fila davanti al portone del Grebajedov si udì uno di loro che sollevandosi a cassetta esclamò ah ah guarda che roba poi presso la cancellata di Giza si accese una fiammella venuta da chissà dove e si diresse verso la veranda quelli che sedevano ai tavolini cominciarono ad alzarsi per guardare meglio e videro che con la fiammella verso il ristorante avanzava un bianco fantasma quando raggiunse l'inferiata della veranda tutti ai tavolini restarono di ghiaccio coi pezzi di sterleto infilzati nelle forchette e sbarrarono gli occhi il portiere che in quel momento era uscito dal guardaroba per farsi una fumatina spense la sigaretta col tacco e si avviò verso il fantasma con l'evidente intenzione di sbarrargli la strada ma non lo fece e si fermò con un sorriso stupido il fantasma attraversò l'apertura dell'inferiata e arrivò senza ostacoli sulla veranda solo allora i presenti videro che non si trattava affatto di un fantasma ma di Ivan Nikolaevich Bieschdomni il noto poeta era scalzo aveva un paio di mutandone bianchi a righe e indossava un camiciotto bianco stracciato sul cui petto con uno spillo da balia era attaccato un'icona di carta raffigurante un santo sconosciuto in mano Ivan Nikolaevich reggeva un cero nuziale acceso la sua guancia destra presentava una escoriazione di fresca data era addirittura impossibile valutare la profondità del silenzio che si fece sulla veranda si vedeva un cameriere che lasciava scorrere la birra dal boccale inclinato il poeta alzò il cero sopra la testa e disse forte salve amici dopo di che guardò sotto il tavolo più vicino ed esclamò con afflinzione no non è qui si udirono due voci una bassa disse spietata è spacciato delirium tremens l'altra femminile spaventata pronunciò le parole come mai la polizia l'ha lasciata andare in giro in quello stato questo Ivan Nikolaevich lo udì e rispose hanno tentato due volte di fermarmi allo scaterni e qui alla bronnaia ma ho scavalcato uno steccato e vedete mi sono graffiato la guancia poi Ivan Nikolaevich alzò il cero e gridò fratelli in letteratura la sua voce da prima fiocca si rafforzò e divenne più calda ascoltatemi tutti è comparso acchiappatelo subito se no combinerà guai inenarrabili come cosa ti ha detto chi è chi è comparso piovero voci da tutte le parti il consulente rispose Ivan il consulente che ha ucciso Misha Verriose ai patriarcie dalla sala interna la gente si riversò sulla veranda e si strinse intorno al cero di Ivan scusi scusi sia più preciso risuonò all'orecchio di Ivan Nikolaevich una voce sommessa e cortese come sarebbe a dire ha ucciso chi ha ucciso il consulente straniero professore spia rispose Ivan voltandosi ma come si chiama gli chiesero piano all'orecchio come si chiama gridò afflitto Ivan magari lo sapessi non ho fatto in tempo a leggere il nome sul biglietto da visita mi ricordo soltanto la prima lettera un v doppio il nome cominciava con un v doppio che nome può essere col v doppio chiese Ivan a se stesso stringendosi la fronte tra le mani e a un tratto cominciò a verbotare v v v v va va bo bo va va vasciner wagner wainer wagner wainer i capelli sulla sua testa cominciarono a muoversi avanti e indietro dallo sforzo wulf escamò impietosita una donna Ivan si arrabbiò scema gridò cercando la donna con lo sguardo che c'entra wulf wulf non ha nessuna colpa w ah w no così non ci arriverò mai beh signori ecco che cosa vi dico telefonate subito alla polizia perché mandino cinque moto con mitra per prendere il professore e non dimenticate di dire che con lui ce ne sono altri due uno lungo a quadretti con gli occhiali a molla incrinati è un gatto nero grasso io intanto faccio una perquisizione al ribaiedoff sento che è qui Ivan fu preso dall'inquietudine e si fece largo a spintoni tra quelli che lo circondavano cominciò ad agitare il cero facendosi gocciolare la cera addosso e guardò tutti i tavolini si sentì dire un dottore e una fabile faccia carnosa rasata e pasciuta con gli occhiali cerchiati di corno apparve davanti a Ivan compagno vi esdomni disse la faccia con una voce da comizio si calmi lei è sconvolto dalla morte di colui che noi tutti amavamo tanto Mikhail Aleksandrovich dice no semplicemente miscia verglioso noi tutti lo capiamo benissimo lei ha bisogno di riposo adesso i compagni la metteranno a letto e lei prenderà sonno tu lo interroppe Ivan di grignando i denti lo capisci che bisogna prendere il professore e gli vieni a scocciare con le tue scemenze cretino compagno vi esdomni la prego rispose la faccia arrossendo arretrando e rintiangendo di essersi cacciata in quel pasticcio no tu non la passi mica liscia sai disse con odio intenso Ivan Nikolaevich beh uno spasimo distorse i suoi lineamenti si passò rapidamente il cielo dalla mano destra in quella sinistra prese lo slancio e mollò una sventola sull'orecchio alla faccia compassionevole allora ebbero l'idea di gettarsi addosso a Ivan e lo fecero il cero si spense e gli occhiali caduti dal naso furono immediatamente calpestati Ivan lanciò un terribile urlo di guerra che si udì provocando la curiosità generale fin sul viale e cominciò a difendersi tintinoli vasellane cadendo dai tavoli cominciarono a gridare le donne mentre i camerieri legavano il poeta con degli asciugamani nel guardaroba si svolgeva una conversazione tra il comandante del brigantino e il portiere avete visto che era in mutande chiedeva freddo il pirata ma arci baldarci baldovic rispondeva il portiere pieno di fifa come facevo a non lasciare entrare il signore se è membro del massolip ma avete visto che era in mutande ripetè il pirata mi scusi arcibaldarci baldovic diceva il portiere diventando purpurio ma che potevo fare capisco anch'io sulla veranda ci sono delle signore qui le signore non c'entrano alle signore non importa niente rispose il pirata incenerendo il portiere con gli occhi invece alla polizia importa un uomo che indossa soltanto la biancheria intima può girare per le vie di mosca in un unico caso se è accompagnato dalla polizia è in un'unica direzione al commissariato e tu se sei il portiere devi sapere che vedendo un uomo del genere il tuo dovere è di fischiare senza perdere un secondo senti senti che cosa sta succedendo sulla veranda qui il portiere quasi fuori di senno udì arrivare dalla veranda un rombo un fracasso di piatti rotti e grida femminili un quarto d'ora dopo lo stupefatto pubblico non solo del ristorante ma anche quello sul viale e alle finestre delle case che davano sul giardino del ristorante vedeva questa scena dal portone del Gribaiedorf Pantalei il portiere un poliziotto un cameriere e il poeta Riuchin portavano fuori un giovane fasciato come un bambolotto che piangendo a calde lacrime sputava e cercava di colpire proprio Riuchin e urlava in modo da essere sentito per tutto il viale canaglia canaglia l'autista del camion col volto adirato avviava il motore vicino un vetturino incitava il suo cavallo picchiandolo sulla groppa con le redini color lilla e gridava guardate che cavallo da corsa ho già portato gente al manicomio io intorno rombava la folla commentando l'inaudito avvenimento insomma uno schifoso lurido allettante immondo scandalo che finì solo quando il camion portò via dal portone del Gribaidov il povero Ivan Nikolaevich il poliziotto Pantalei e Riuchin quando nella sala di accettazione della celebre clinica psichiatrica costruita da poco presso Mosca sulle rive del fiume entrò un uomo con la barba a punta e con indosso un camice bianco era l'una e mezza di notte tre infermieri non distoglievano gli occhi da Ivan Nikolaevich che era seduto su un divano si trovava lì anche lì il poeta Riuchin estremamente emozionato gli asciugamani con i quali era stato legato Ivan Nikolaevich giacevano in un mucchio sullo stesso divano le braccia e le gambe di Ivan Nikolaevich erano libere vedendo il nuovo venuto Riuchin impallidì tossicchiò e disse con timidezza buongiorno dottore il dottore salutò Riuchin ma intanto guardava non lui bensì Ivan Nikolaevich che si sedeva del tutto immobile col volto cattivo le sopracciglia grottate e non si mosse neppure all'ingresso del medico ecco dottore cominciò Riuchin chissà perché in un sussurro misterioso e voltandosi impaurito verso Ivan Nikolaevich il noto poeta Ivan Viesdomni ecco vede teniamo che si tratti di delirium tremens beveva molto chiese il dottore tra i denti no a volte beveva ma non tanto Oda ha mai cercato di acchiappare scarafaggi topi diavoletti o cani che corrono qua e là no rispose Riuchin trasalendo l'ho visto ieri e stamane era perfettamente a posto perché ha solo le mutande l'avete tirato giù dal letto vede dottore è venuto così al ristorante disse il medico con aria profondamente soddisfatta e perché questi graffi ha litigato con qualcuno è caduto da uno steccato e poi al ristorante ha picchiato uno e poi qualche altro bene 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 disse il dottore e voltandosi verso Ivan Nicolaevich aggiunse buongiorno salve sabotatore rispose Ivan con voce forte e rabbiosa Riuchin si vergognò al punto di non osare alzare gli occhi sul medico cortese ma questi non si offese affatto e con gesto agile e abituale si tolse gli occhiali sollevò la falda del camice li ripose nella tasca posteriore dei pantaloni e chiese a Ivan quanti anni ha mandate un po' tutti al diavolo gridò villanamente Ivan e gli voltò la schiena perché si arrabbia le ho forse detto qualcosa di spiacevole ho ventitré anni disse citato Ivan e vi darò querela a tutti e in particolare a te verme disse rivolto personalmente a Ryukin perché vuole querelarci perché hanno preso me che sono sano e mi hanno portato di forza in un manicomio rispose Ivan pieno di ira a questo punto Ryukin fissò Ivan e si sentì gelare nei suoi occhi non c'era neppure un'ombra di pazzia da torbidi che erano al Gribai e Dov erano di nuovo tornati limpidi come sempre mamma mia pensò spaventato Ryukin ma è proprio normale a che sciocchezza ma allora perché lo abbiamo portato qui di peso è normale normalissimo solo la faccia è piena di graffi lei disse con calma il dottore sedendosi su uno sgabello bianco fissato su un lucido sostegno non è in un manicomio ma in una clinica dove nessuno la tratterà senza bisogno Ivan Nikolaevich lo sbirciò incredulo però borbottò Dio sia allodato finalmente trovo una persona normale tra tanti idioti il primo dei quali è quel babbeo quella nullità di Sashka chi sarebbe Sashka il babbeo si informò il medico eccolo qui è Ryukin rispose Ivan e puntò il dito sporco in direzione di Ryukin quello arse di sdegno che bella riconoscenza pensò con amarezza per la mia premura è proprio un tipaccio ha la psicologia del classico kulak disse Ivan Nikolaevich al quale si vede era saltato in mente di smascherare Ryukin anzi del kulak che fa di tutto per camuffarsi da proletario guardate quella sua faccia ipocrita e confrontatela con le poesie altisonanti che ha scritto per il primo maggio garrite vessilli e sprofondate nemici ma guardategli dentro che cosa pensa e resterete di sasso e Ivan Nikolaevich scoppiò in una risata sinistra Ryukin aveva il respiro pesante era rosso e pensava solo che si era scaldato una serpa in seno e che era stato premuroso con uno che alla prova dei fatti si era rivelato un nemico acerrimo il peggio è che non si poteva farci nulla mica si discute con un malato di mente e perché mai l'hanno portato qui chiese il medico dopo aver ascoltato con attenzione l'invettiva di B.S. Domni il diavolo se li prende a quegli scimuniti mi hanno preso legato con degli stracci e portato qui su un camion posso chiederle come mai è andato al ristorante con la sola biancheria intima addosso niente di strano rispose Ivan sono andato a fare un bagno nella Moscova e mi hanno fregato i vestiti lasciandomi questa robaccia non potevo mica girare per Mosca nudo mi sono infilato quello che c'era perché avevo premura di arrivare al Gribayedov il medico guardò con espressione interrogativa Ryukin che borbottò tetro si chiama così il ristorante ah disse il medico e perché aveva tanta premura un appuntamento d'affari devo acciuffare il consulente rispose Ivan Nikolaevich e si guardò intorno preoccupato che consulente lei conosce Berlioz chiese Ivan con fare significativo chi il compositore Ivan perse la calma ma che compositore d'Egitto ah sì no no il compositore è un omonimo di Mischa Berlioz Ryukin non aveva voglia di parlare ma fu costretto a spiegare il segretario del Massolit Berlioz è stato schiacciato da un tram questa sera ai Patriarchi non inventare quello che non sai invei Ivan contro Ryukin lì c'ero io non tu l'ha fatto andare apposta sotto il tram gli ha dato una spinta che c'entra la spinta esclamò Ivan infuriandosi per la stupidità generale uno come lui non ha bisogno di spingere può giocare certi tiri che ti lasciano a bocca aperta sapeva in anticipo che Berlioz sarebbe finito sotto il tram oltre a lei qualcuno ha visto questo consulente è lì il guaio solo io e Berlioz ha capito e che misure ha preso per catturare l'assassino il medico si voltò e lanciò un'occhiata a una donna in camice bianco seduta a un tavolino appartato quella prese un foglio di carta e cominciò a riempire le parti in bianco delle varie voci che misure ho preso un cero in cucina questo chiese il medico indicando il cero rotto che giaceva sul tavolino davanti alla donna insieme con l'icona proprio questo e l'icona a che serve ah già l'icona Ivan arrossì è stata proprio l'icona a spaventarli più di tutto puntò di nuovo il dito verso Ryukhin ma il fatto è che lui il consulente beh parliamoci chiaro ha legami con il diavolo e non sarà tanto facile prenderlo gli infermieri chissà perché si misero sull'attenti e non distolsero più gli occhi da Ivan già proseguì Ivan ah dei legami è un fatto sicuro ha parlato personalmente con Ponzio Pilato non è proprio il caso di guardarmi così dico la pura verità ha visto tutto e il balcone e le palme insomma è stato da Ponzio Pilato ve lo garantisco io già già allora io mi sono attaccato l'icona sul petto e sono corso via l'orologio batte due colpi esclamò Ivan e salsò sul divano sono le due io sto a perdere tempo con lei scusi scusi dov'è il telefono lasciatelo telefonare disse il dottore agli infermieri Ivan afferrò il ricevitore mentre la donna chiedeva con voce sommessa a Ryukhin e sposato scapolo rispose Ryukhin impaurito scritto al sindacato sì sì polizia gridò Ivan al telefono polizia compagno poliziotto disponga subito che mandino cinque moto con mitra per prendere il consulente straniero come mi passino a prendere li accompagnerò io stesso parla il poeta Vesnomni dal manicomio qual è il vostro indirizzo sussurrò al medico comprendo il ricevitore con la mano e poi gridò di nuovo mi sentite pronto è una vergogna urlò di colpo e sbattì il ricevitore contro il muro poi si voltò verso il medico gli tese la mano e disse seccamente arrivederci e si accinse ad andarsene per carità ma dove vuole andare disse il medico fissando Ivan negli occhi è notte inoltrata con addosso solo la biancheria lei non sta bene resti da noi fatemi passare disse Ivan agli infermieri che si erano messi in fila serrata vicino alla porta mi fate passare sì o no urlò il poeta con voce terribile riohin cominciò a tremare mentre la donna premette un pulsante sul tavolino sulla cui superficie di vetro balzò fuori una lucida scatoletta e una fiala sigillata ah è così proferì Ivan svalordito guardandosi in giro come un animale braccato ah sì eh tanti saluti e si buttò a capofitto verso la tenda della finestra vi fu un rumore piuttosto forte ma il vetro dietro la tenda non si incrinò nemmeno e un attimo dopo Ivan Nikolaevich si dibatteva nelle braccia degli infermieri rantolava cercava di mortare gridava vi siete messi dei bei vetri eh lasciatemi lasciatemi una siringa luccicò in mano al medico la donna squarciò con un solo colpo la logora manica del camiciotto e gli afferrò il braccio con una forza tutt'altro che femminile si sparse un odore di etere Ivan perse la forza nella stretta di quei quattro e agile il medico ne approfittò per infilargli l'ago nel braccio lo tennerò fermo ancora per qualche secondo poi lo adagiarono sul divano anditi urlò Ivan e balzò su dal divano ma poi vi fu riposto non appena lo lasciarono balzò in piedi di nuovo ma si risiedette da solo tacque guardandosi intorno con un certo stupore poi sbadigliò all'improvviso poi sorrise con rabbia e l'avete fatta a rinchiudermi disse sbadigliò ancora si distese di colpo toggiò la testa sul cuscino infilò il pugno sotto la guancia come un bambino e borbottò con voce insonnolita senza più rabbia tanto meglio la pagherete voi io vi ho avvertiti adesso arrangiatevi quanto a me quello che mi interessa di più adesso è Ponzio Pilato Pilato e chiuse gli occhi un bagno la centodiciassette singola sotto sorveglianza ordinò il dottore mettendosi gli occhiali ecco i riocchi ne sussultò di nuovo silenziosamente si era aperta una porta bianca oltre la quale si vedeva un corridoio illuminato dalle azzurre lampadine notturne dal corridoio giunse una lettica su ruote di gomma vi deposerò Ivan che addormentato partì verso il corridoio e dietro gli si richiuse la porta dottore sussurrò Riuchin sconvolto è proprio malato eh sì rispose il medico e che cos'ha chiese Riuchin timidamente stanco il medico guardò Riuchin rispose fiacco ipereccitabilità motoria e logorrea interpretazioni deliranti sembra un caso difficile schizofrenia immagino e per di più l'etilismo Riuchin non capì nulla di quello che diceva il medico salvo che le cose per Ivan Nikolaivich si mettevano piuttosto male sospirò e chiese perché parla sempre di un consulente boh deve aver visto qualcuno che ha colpito la sua immaginazione sconvolta o forse si tratta di un'allucinazione alcuni minuti dopo il camion riportava Riuchin a Mosca alveggiava e la luce dei lampioni ancora accesi lungo le strade non era più necessaria e dava fastidio l'autista arrabbiato per aver perso la nottata andava a tutta velocità e la macchina sbandava in curva superarono il bosco che rimase alle loro spalle e il fiume scomparve in un'altra direzione incontro al camion si riversavano le cose più diverse steccati con garritte e cataste di legna pali altissimi antenne coronate di bobine mucchi di chietrisco campi solcati da canali insomma si sentiva che Mosca era lì subito dopo la curva e che ti sarebbe subito venuta addosso per inghiottirti Ryukin era scosso e sballottato in ogni direzione e il tronco sul quale si era seduto tentava a ogni istante di scivolar via gli asciugamani del ristorante che erano stati buttati sul camion dai poliziotti correvano per tutto il cassone Ryukin voleva raccoglierli ma dopo aver detto fra i denti ma vado alla malora perché devo affannarmi come un cretino li respinse con un calcio e smise di guardarli il suo stato d'animo era spaventoso era chiaro che la visita a quel tristo asilo aveva lasciato in lui una traccia profondissima Ryukin cercò di capire che cosa lo tormentasse il corridoio con le lampadine azzurre che non gli usciva di mente o forse il pensiero che non esiste al mondo di sgrazie peggiore che perdere la ragione beh sì sì naturalmente c'entrava anche questo ma era pur sempre un pensiero troppo generico c'era dell'altro che cosa l'offesa ecco che cos'era sì le parole offensive lanciategli in faccia da Biesdomni il guaio non era che fossero offensive ma che in esse vi fosse una parte di verità ora il poeta non si guardava più intorno ma fissando il fondo sporco del cassone scompassato cominciò a borbottare a lagnarsi e a rodersi sì le poesie aveva 32 anni davvero che futuro aveva anche in futuro avrebbe scritto qualche poesia all'anno fino alla vecchiaia eh sì sì fino alla vecchiaia che gli avrebbero fruttato quelle poesie la gloria no che assurdità non ingannare almeno te stesso la gloria non verrà mai a chi scrive brutte poesie perché sono brutte eh ha proprio detto la verità si diceva spietato Ryukin non credo in nulla di quello che scrivo un quarto d'ora dopo Ryukin se ne stava solo solo rattrappito sopra un piatto di pesce e beveva un bicchierino dopo l'altro comprendendo e riconoscendo che nella sua vita ormai non si poteva correggere nulla e altro non restava che dimenticare mentre gli altri facevano Baldoria il poeta aveva sprecato la sua notte e adesso capiva che recuperarla era impossibile e bastava alzare la testa dalla lampadina e guardare il cielo per capire che la notte era irrevocabilmente perduta con gesti veloci i camerieri strappavano le tovaglie dai tavoli i gatti che scorrazzavano presso la veranda avevano un'aria mattutina e sul poeta cadeva irrefrenabilmente il giorno se al mattino dopo avessero detto a Stiopa Likadieyev Stiopa sarei fucilato se non ti alzi subito Stiopa avrebbe risposto con voce fievole e languida fucilatemi fate di me quello che volete ma non mi alzo altro che alzarsi gli sembrava di non poter neppure aprire gli occhi se lo avesse fatto un fulmine sarebbe esploso e gli avrebbe mandato in pezzi la testa in essa rimbombava una pesante campana tra i globi oculari e le palpebre chiuse fluttuavano macchie brune orlate di un verde fiammeggiante e per di più sentiva una nausea che sembrava collegata ai suoni di un ossessivo grammofono nella penombra qualcosa mandava un fioco riflesso finalmente Stiopa riconobbe la specchiera e capì che giaceva riverso sul suo letto cioè sull'ex letto della gioielliera nella propria camera a questo punto sentì un tale colpo alla testa che chiuse gli occhi e lanciò un gemito spieghiamoci Stiopa Likadeyev direttore del teatro di varietà si svegliò al mattino nell'appartamento che condivideva con il defunto Berlioz in una casa a cinque piani che dava sulla sadovaia si deve dire che quell'appartamento il numero 50 godeva da tempo di una reputazione che se non cattiva era in ogni modo ambigua sino a due anni prima esso apparteneva alla vedova del gioielliere Defugere Anna Franzevna Defugere rispettabile signora cinquantenne molto attiva affittava tre camere su cinque uno degli inquilini si chiamava Pare Belomut e l'altro non aveva più cognome ed ecco che circa due anni fa nell'appartamento erano cominciati avvenimenti inspiegabili gli inquilini cominciarono a sparire senza lasciare traccia sugli scomparsi e sull'appartamento maledetto per lungo tempo nella casa si raccontarono leggende di ogni sorta ad esempio che la gracile e religiosa Anfisa avrebbe portato sul seno inaridito in un sacchetto di camoscio venticinque grossi brillanti di proprietà di Anna Franzevna che nella legnaia della Dacia dove si era arrecata in gran fretta Anna Franzevna sarebbero saltati fuori da soli tesori inestimabili consistenti sempre in brillanti nonché in monete d'oro di conio zarista e altre cose del genere ma quello che non sappiamo non lo possiamo garantire comunque stessero le cose l'appartamento rimase vuoto e sigillato soltanto per una settimana poi vi si stabilirono il defunto Berlioz con la moglie e Stiopa con la consorte è del tutto naturale che non appena si trovarono nell'appartamento maledetto anche a loro cominciò a succedere il diavolo sa che cosa e precisamente prima che fosse trascorso un mese le due consorti erano scomparse però non senza lasciare traccia della consorte di Berlioz si diceva che fosse stata vista a Kharkov con un coreografo mentre quella di Stiopa sarebbe stata individuata sulla Bagedonka dove secondo le dicerie il direttore del Varietà approfittando delle innumerevoli aderenze era riuscito a procurarle una stanza alla condizione che non mostrasse mai il naso sulla Sadovaia Stiopa disserò le palpebre incollate e si vide riflesso nello specchio sotto forma di un uomo coi capelli rizzati in ogni direzione la faccia gonfia coperta di peli neri gli occhi enfiati la camicia sporca col colletto e la cravatta in mutandone e calzini si vide così nella specchiera vicino la quale scorse uno sconosciuto vestito di nero con un berretto nero Stiopa si sedette sul letto e spalancò sullo sconosciuto per quanto gli era possibile gli occhi iniettati di sangue fu uno sconosciuto a rompere il silenzio pronunciando con una voce bassa e grave dall'accento straniero le seguenti parole buongiorno simbaticissimo Stefan Bogdanovic mi fu una pausa dopo la quale facendo una sforza enorme Stiopa farfugliò che cosa desidera e rimase stupito non riconoscendo la propria voce il che l'aveva pronunciato con timbro da soprano il cosa con voce di basso e desidera non gli era venuto fuori affatto lo sconosciuto fece un sorriso amichevole trasse di tasca un grosso orologio d'oro con un triangolo di diamanti sulla calotta lo fece suonare undici volte e disse le undici è esattamente un uovo che aspetta il suo risveglio lei infatti mi aveva fissato un appuntamento per le dieci ed eccomi qua Stiopa trò a tastoni i pantaloni su una sedia vicino al letto e sussurrò mi scusi li infilò e chiese Rauco mi vorrebbe dire il suo cognome gli riusciva difficile parlare a ogni parola qualcuno gli ficcava un ago nel cervello causandogli un dolore infernale come ha divendicato il mio cognome e lo sconosciuto sorrise mi perdoni rantolò Stiopa sentendo che fra i postumi della Svornia era gratificato di un nuovo sintomo gli sembrava che il pavimento vicino al letto fosse scomparso e che in quell'istante egli sarebbe precipitato a capofitto nel centro dell'inferno caro Stipan Bogdanovic disse il visitatore con un sorriso sagace nessun piramidone le sarà d'aiuto via retta ha una vecchia saggia regola curare il simile col simile l'unica cosa che l'eredità ravita sono due bicchierini di vodka accompagnati da uno spuntino caldo e piccante stiopa stiopa era un uomo furbo e per quanto stesse male capì che dal momento che l'avevano trovato in quello stato doveva confessare tutto a dire il vero cominciò muovendo astento la lingua ieri sera io ho un pochino non una parola di più rispose il visitatore e si spostò con la sua poltrona stiopa sbarrando gli occhi vide sul tavolino un vassoio su cui si trovava del pane bianco affettato del caviale pressato in un vasetto funghi porcini marinati su un piattino un tegame e infine della vodka in una voluminosa caraffa della gioielliera ciò che lo sorprese soprattutto era che la caraffa fosse appannata dal freddo del resto la cosa era comprensibile la caraffa infatti si trovava in una bacinella piena di ghiaccio insomma il tavolo era apparecchiato con l'indezza e abilità lo sconosciuto non aspettò che lo svalordimento di stiopa raggiunse un'intensità morbosa e con destrezza gli versò un mezzo bicchiere di vodka e lei pigolò stiopa con piacere con mano saltellante stiopa portò il bicchiere alle labbra mentre lo sconosciuto tracannò donfiato il contenuto del suo mentre masticava un pezzo di caviale stiopa riuscì a dire ma non mangia grazie non mangio mai quando bevo rispose lo sconosciuto e riempì i bicchieri per la seconda volta aprirono il tegame e dentro trovarono dei rius in un intingolo di pomodoro ed ecco che le maledette macchie verdi davanti agli occhi si disciolsero e cominciarono a uscire le parole e quel che più importa stiopa cominciò a ricordare qualcosa cioè che il giorno innanzi tutto era successo a scodnia nella dacia di kustof autore di sketch dove lo stesso kustof aveva portato stiopa col tassì rammentò perfino che avevano preso il tassì vicino al metropole c'era anche uno chissà forse un attore con un grammofono in una valigetta sì 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 tutto era successo nella dacia ricordo anche che i cani urulavano sentendo il grammofono soltanto la signora che stiopa voleva baciare restò inspiegata ma lo sa il diavolo chi era forse lavora alla radio ma forse anche no così la giornata precedente si schiariva poco a poco ma ora stiopa era molto più interessato al giorno in corso e in particolare all'apparizione nella sua camera da letto di uno sconosciuto per di più provvisto di vodka e di vande questo sì che sarebbe stato bello chiarire ebbene spero che adesso lei ricordi il mio cognome ma stiopa fece un sorriso confuso e allargò le braccia e però si prometto che dopo la vodka lei ha bevuto del porto scusi ma è una cosa da fare la pregherei che questo resti fra noi disse stiopa insinuante oh naturalmente naturalmente però per kustof si intende non posso garantire perché lei conosce kustof e ieri nel suo ufficio ho visto di sfuggita quell'individuo ma è bastato una sola occhiata fugace alla sua faccia per capire che un mascalzone un intrigante un gofformist è un lecca piedi giustissimo pensò stiopa colpito da questa giusta esatta e laconica definizione di kustof sì la giornata di ieri si ricuciva dai vari pezzetti eppure un senso di inquietudine non abbandonava il direttore del varietà il fatto è che in quella giornata era spalancato un enorme buco nero quello sconosciuto con il berretto pensate quello che volete stiopa il giorno prima non l'aveva proprio visto nel suo ufficio sono il professore di magia nera volant disse con gravità il visitatore vedendo la difficoltà in cui stiopa si dibatteva e raccontò tutto per ordine ieri era giunto a mosca dall'estero e si era presentato subito da stiopa per proporgli una tournée al varietà stiopa aveva telefonato alla commissione regionale moscovita per gli spettacoli aveva avuto il benestare stiopa impallidì e batte le palpebre e aveva firmato col professor volant un contratto per sette rappresentazioni stiopa spalancò ora la bocca erano rimasti intesi che il professore sarebbe venuto a trovarlo stamane alle dieci per mettere a punto i particolari così volant era venuto al suo arrivo lo aveva accolto la domestica grunia la quale gli aveva spiegato che era appena venuta anche lei che lei veniva solo a ore che berlioz non era in casa e che se il visitatore voleva vedere stipan bogdanovic andasse pure in camera da letto stipan bogdanovic dormiva così sodo che lei a svegliarlo non ce l'avrebbe fatta quando aveva visto lo stato di stipan bogdanovic il mago aveva mandato grunia nella più vicina rosticceria a prendere la vodka e qualcosa da mangiare quindi in farmacia per il ghiaccio e mi permetta allora di regolare il conto piagnucolo stiopa annientato e si mise a cercare il portafoglio ma non dica sciocchezze esclamò l'artista e non ne volle più sentire parlare e così la vodka e lo spuntino erano diventati comprensibili eppure stiopa faceva pena a vedersi non ricordava proprio nulla del contratto e lo avessero anche ammazzato avrebbe giurato di non aver visto quel volant alla vigilia sì kustov c'era stato ma non volant posso vedere il contratto chiese stiopa sotto voce prego prego stiopa guardò il documento e impietrì tutto era a posto per prima cosa la sua firma autografa baldanzosa a margine la scritta sghemba di pugno del direttore finanziario Rinsky con l'autorizzazione a versare a volant un anticipo di diecimila rubli a valere sui trentacinque mila allo stesso spettanti per sette rappresentazioni e non basta c'era anche la ricevuta di volant per i diecimila rubli da lui già riscossi ma che succede pensò il povero stiopa e la testa gli girò cominciavano in fauste amnesie e comunque dopo aver preso visione del contratto qualsiasi ulteriore espressione di sbigottimento sarebbe stata semplicemente indecurosa stiopa chiese al visitatore il permesso di allontanarsi un minuto e così com'era in calzini corse in anticamera e verse il telefono strada facendo gridò in direzione della cucina grunio ma nessuno rispose diede un'occhiata alla porta dello studio di Berlioz vicino all'anticamera e rimase di stucco come si suol dire sulla maniglia vide uno spago con un enorme sigillo di ceralacca caspita esclamò qualcuno nel cervello di stiopa ci mancava anche questa e quei suoi pensieri corsero ormai lungo un doppio binario ma come sempre succede in caso di catastrofe in una sola direzione e il diavolo sa quale è difficile persino descrivere il guazzabuglio che regnava nella testa di stiopa c'entrava anche tutta quella diavoleria del verretto nero della vodka gelata e del contratto incredibile e oltretutto questo come se non bastasse il sigillo sulla porta cioè dite a chi volete che Berlioz ha combinato un pasticcio e non vi crederà non vi crederà neanche ad ammazzarlo eppure eccolo lì il sigillo già poi formicolarono nel cervello di stiopa certi sgradevolissimi pensieruzzi a proposito di un articolo che quasi a farlo apposta egli aveva consegnato a Mikhail Aleksandrovich poco tempo prima per la pubblicazione della sua rivista articolo cretino si è detto fra noi robetta e in tasca ne veniva ben poco subito dopo il ricordo dell'articolo gli venne quello di una conversazione ambigua che rammentava si era svolta la sera del 24 aprile in sala da pranzo mentre stava cenando con Mikhail Aleksandrovich cioè ambigua nel vero senso della parola chiamarla non si poteva stiopa non avrebbe mai accettata una conversazione così però si era parlato di certe cose superfue si sarebbe proprio potuto fare a meno signori miei di avviare quella conversazione prima dei sigilli la si poteva considerare senza dubbio una cosettina da niente ma dopo i sigilli oh berliose berliose turbinava nel cervello di stiopa non mi entra in testa tuttavia non c'era tempo per affliggersi a lungo e stiopa formò il numero dell'ufficio di Rimischi il direttore finanziario del varietà la posizione di stiopa era delicata anzitutto lo straniero poteva offendersi perché egli procedeva a un controllo dopo aver visto il contratto e poi parlare col direttore finanziario era estremamente difficile infatti non gli poteva mica chiedere mi dica un po' ieri non ho forse concluso un contratto di 35.000 rubli con un professore di magia nera non si possono fare domande del genere sì udì nel ricevitore la voce brusca e sgradevole di Rimischi buongiorno Grigori Danilovic disse stiopa sottovoce parla Likadiev ecco di che si tratta c'è qui da me quel l'artista Voland bene io le volevo chiedere che si fa per questa sera ah quello della magia nera rispose Rimischi i manifesti sono quasi pronti ah disse stiopa con voce debole beh ci vediamo lei viene tra poco chiese Rimischi tra mezz'ora rispose stiopa e appeso il ricevitore si strinse tra le mani la testa che scottava che brutta storia era quella che cosa era successo alla sua memoria signori miei nella camera da letto l'ospite non era più solo nella seconda poltrona stava seduto quel tipo che gli era parso di intravedere in anticamera adesso lo si vedeva distintamente baffi a penna un vetro degli occhiali luccicava l'altro non c'era ma scoprì cose anche peggiori sul puff della gioielliera stava sdraiato in una posa disinvolta un terzo essere e precisamente un gatto nero di dimensioni paurose con un bicchierino di vodka in una zampa e nell'altro una forchetta su cui aveva già infilato un fungo marinato la luce già debole della camera da letto si offuscò ancora di più negli occhi di stiopa è così che si impazzisce pensò e si afferrò allo stipide della porta vedo che lei è un poco sorpreso carissimo stipa mogdanovic si rivolse voland a stiopa che batteva i denti ma non è proprio il caso di stupirsi questo è il mio seguito in quel mentre il gatto beve la vodka e la mano di stiopa scivolò lungo lo stipide anche il seguito ha bisogno di spazio continuava voland perciò uno di noi in questo appartamento è di troppo a me pare che questa persona di troppo sia proprio lei loro proprio loro proprio loro canticchiò il lungo personaggio a quadretti con voce da caprone parlando di stiopa al plurale del resto in questi ultimi tempi hanno fatto porcherie spaventose si sbronzano allacciano relazioni con donne approfittando della propria posizione non fanno un accidente e non fanno niente per il semplice motivo che non capiscono niente del lavoro che è stato loro affidato danno a intendere lucciole per lanterne ai loro superiori usano senza una ragione le automobili dell'ufficio spiattellò il gatto masticando un fungo a questo punto nell'appartamento successe il quarto e ultimo avvenimento strano mentre stiopa che ormai era scivolato fino a terra graffiava lo stipide con mano svicorita proprio dal vetro della specchiera uscì un tale piccolo ma straordinariamente largo di spalle con un tubino in testa e una zanna che spuntava dalla bocca rendendo ancora più orrendo un ceffo che era già oltremodo repellente come se non bastasse aveva i capelli di un rosso acceso io entrò nella conversazione il nuovo venuto non capisco proprio come abbia fatto a diventare direttore il rosso parlava con voce sempre più nasale lui è direttore come io sono vescovo tu non assomigli a un vescovo a zazello osservò il gatto riempendosi il piatto di wustel è quello che sto dicendo ribadì il rosso con la sua voce nasale e voltandosi verso volant aggiunse con deferenza mi permette messere di mandarlo al diavolo lontano da mosca cringhiò all'improvviso il gatto rizzando il pelo la camera da letto volticò intorno a stiop e gli urtò con la testa allo stipite della porta e pensò mentre perdeva conoscenza sto morendo ma non morì succhiudendo gli occhi si accorse di sedere su delle pietre intorno a sé udiva un rumore e quando apri ben bene gli occhi capì che era il mare e che anzi un'onda fluttuava proprio ai suoi piedi e che insomma stava seduto all'estremità di un molo e sopra di lui c'era un azzurro cielo rilucente e dietro una bianca città adagiata sui monti non sapendo come si reagisce in casi simili stiopa si erse sulle gambe tremanti e lungo il molo si diresse alla volta della spiaggia sul molo un tale fumava e sputava in mare guardò stiopa con occhi attoniti e smise di sputare allora stiopa la fece bella si inginocchiò davanti al fumatore sconosciuto e disse la sopplico mi dica che città è questa però disse con indifferenza il fumatore non sono ubriaco rispose Raugo stiopa mi è successo qualcosa sono ammalato dove sono che città è questa vabbè i alta stiopa sospirò lievemente si rovesciò su un fianco batte la testa sui caldi massi del molo aveva perso i sensi nicanor ivanovich bosoi presidente della cooperativa degli inquilini della casa numero 302 bis sulla via sadovaia a mosca dove era vissuto il defunto berlioz a partire dalla precedente notte dal mercoledì al giovedì aveva un grande affare a mezzanotte come già sappiamo era giunta nella casa una commissione di cui faceva parte geldibin avevano convocato nicanor ivanovich lo avevano informato della morte di berlioz e con lui si erano recati nell'appartamento numero 50 là furono apposti i sigilli sui manoscritti e sugli oggetti di proprietà del defunto in quel momento nell'appartamento non c'erano né grunia la donna aure né lo spensierato stipan bogdanovic la commissione dichiarò a nicanor ivanovich che avrebbe ritirato i manoscritti del defunto per sistemarli che le tre stanze da lui occupate l'ex studio salotto e sala da pranzo della gioielliera tornavano a disposizione della cooperativa mentre gli oggetti appartenenti al defunto sarebbero rimasti in loco fino a che non si fossero presentati degli eredi al tavolo del defunto stava seduto uno sconosciuto magro lungo con un giacchettino a quadretti un berretto da fantino occhiale a molla insomma quel tale lei che sarebbe signore chiese spaventato nicanor ivanovich urlò l'ospite inatteso con tremolante voce tenorile e balzando in piedi salutò il presidente con una stretta di mano forzata e repentina questo saluto non rallegrò affatto nicanor ivanovich mi scusi disse con sospetto lei chi sarebbe un funzionario nicanor ivanovich esclamò lo sconosciuto con voce cordiale che importanza ha funzionario o non funzionario tutto dipende dal punto di vista da cui si guarda l'oggetto tutto nicanor ivanovich è convenzionale e incerto oggi non sono un funzionario ma domani quando meno te lo aspetti lo divento capita anche il contrario e come questa disquisizione non soddisfisce minimamente il presidente dell'amministrazione della casa essendo già per natura una persona sospettosa concluse che quel tipo che gli sermoneggiava davanti non solo non era un funzionario ma magari era anche un perdigiorno ma insomma lei chi sarebbe come si chiama chiedeva il presidente con modi sempre più severi cominciando perfino ad avanzare verso lo sconosciuto il mio cognome replicò quello per nulla turbato da quella severità e beh diciamo korofiev vuol prendere qualcosa nicanor ivanovich senza complimenti chissà le chiedo scusa disse nicanor ivanovich ormai sdegnato che c'entra prendere qualcosa si deve riconoscere benché sia spiacevole che nicanor ivanovich era per natura alquanto villano non è permesso stare nei locali del defunto che fa lei qui ma si accomodi nicanor ivanovich urlava quello senza il minimo imbarazzo offrendogli strisciante una poltrona completamente infuriato nicanor ivanovich la rifiutò e gridò ma lei chi è io col suo permesso sono l'interprete addetto a uno straniero residente in questo appartamento si presentò a colui che aveva detto di chiamarsi korofiev e sbatté i tacchi delle scarpe rossicce non pulite nicanor ivanovich spalancò la bocca la presenza in quell'appartamento di uno straniero per di più provvisto di un interprete era per lui una totale sorpresa volle delle spiegazioni la questione con l'ufficio turisti stranieri fu risolta per telefono con una celerità straordinaria che svalordì il presidente apprese che erano già informati dell'intenzione del signor volant di abitare nell'appartamento privato di l'ikadiyev e non facevano obiezioni benissimo allora gridava korofiev alquanto intronato dal suo cicaleccio il presidente dichiarò che la cooperativa era pronta ad affittare per una settimana l'appartamento numero 50 all'artista volant dietro corresponsione di nikanor ivanovich esitò e disse 500 rubli al giorno qui korofiev lo svalordì definitivamente ammiccando con aria furbesca in direzione della camera da letto da dove giungeva il rumore degli agili salti del pesante gatto disse rauco per una settimana quindi farebbe 3500 rubli nikanor ivanovich pensò che l'altro avrebbe soggiunto mica stupido il nostro nikanor ivanovich ma korofiev disse una cosa completamente diversa per lui è niente gliene chieda 5000 glieli darà con un sorrisino confuso nikanor ivanovich non si accorse neppure come si ritrovò accanto alla scriemania del defunto dove con rapidità e abilità grandissima korofiev redasse un contratto in due copie poi volò in camera da letto e ne ritornò con le due copie munite della firma svolazzante dello straniero anche il presidente firmò il contratto poi korofiev chiese una ricevutina per 5 scrive lettere il lettere nikanor ivanovich mila rubli 5 mila rubli e aggiunse parole che non sembravano intonarsi alla serietà dell'affare hai zwei trai e pose davanti al presidente cinque pacchettini nuovi di banconote non appena il presidente ebbe lasciato l'appartamento dalla camera da letto giunse una voce bassa a me questo nikanor ivanovich non è piaciuto è uno scoccone un invoglione non si può fare in modo che non venga più qui messere basta che lei ordini riapplicò korofiev con una voce non più tremolante ma limpida e sonora e subito il maledetto interprete fu in anticamera fece un numero e disse nel ricevitore con voce piagnucolosa pronto considero mio dovere comunicare che il presidente della nostra cooperativa inquilini della casa numero 302 bis sulla sadovaia nikanor ivanovich bosoi traffica valuta estera in questo momento nel suo appartamento numero 35 nel condotto di areazione del gabinetto si trovano a volte in carta da giornale 400 dollari parla l'inquilino della stessa casa dell'appartamento numero 11 timofei kvaskov ma vi supplico di mantenere segreto il mio nome temo la vendetta del suddetto presidente e riattaccò il ricevitore il mascalzone che avvenisse poi nell'appartamento numero 50 non si sa ma si sa quello che avvenne da nikanor ivanovich chiusosi nel gabinetto trasse dalla cartella il pacchetto che l'interprete lo aveva costretto a prendere e constatò che conteneva 400 rubli nikanor ivanovich avvolse il pacchetto in un pezzo di giornale e lo cacciò nel condotto di areazione cinque minuti dopo il presidente era a tavola nella sua piccola sala da pranzo sua moglie portò dalla cucina una ringa accuratamente tagliata e ben cosparsa di cipolla verde nikanor ivanovich si versò un bicchierino di vodka lo tracannò ne versò un altro lo tracannò infilzò con la forchetta tre pezzetti da ringa e in quel momento suonarono e la geia antonovna mise a tavola una pentola fumante una sola occhiata la quale bastava far capire che in mezzo alla minestra bollente si trovava il più saporito cibo del mondo un osso col midollo con l'acqualino in bocca nikanor ivanovich ringhiò come un cane badano all'inferno non mi lasciano neanche mangiare non far entrare nessuno non ci sono io sono via per l'appartamento digli che la smettano di agitarsi tra una settimana ci sarà la riunione la moglie corse in anticamera mentre nikanor ivanovich pescava col mestolo lui l'osso in quel momento nella sala da pranzo entrarono due persone accompagnate da pelageia antonovna pallidissima vedendoli si sbiancò anche nikanor ivanovich e si alzò dov'è il cesso chiese preoccupato il primo che indossava un camiciotto bianco alla russa qualcosa batte sul tavolo nikanor ivanovich aveva lasciato cadere il mestolo sulla tela cerata qui qui rispose in fretta pelageia antonovna i nuovi venuti si diressero subito in corridoio che succede chiese piano nikanor ivanovich seguendo i due nel nostro appartamento non c'è niente di proibito ma lei ha dei documenti mi scusi il primo camminando mostrò i documenti a nikanor ivanovich mentre il secondo era già in piedi su uno sgabello nel gabinetto con il braccio infilato nel condotto di areazione a nikanor ivanovich si anneppiò la vista tolsero il giornale ma il pacchetto invece dei rubli risultò contenere denaro sconosciuto fra il verde e l'azzurro con l'immagine di un vecchio del resto nikanor ivanovich vedeva tutto molto confusamente e davanti agli occhi gli ballavano delle macchie dollari nel condotto di areazione disse pensieroso il primo e chiese con dolcezza e urbanità a nikanor ivanovich è suo questo pacchetto no rispose nikanor ivanovich con voce terribile lo hanno messo lì i miei nemici capita acconsentì il primo e aggiunse con la stessa dolcezza beh bisogna consegnare gli altri non ne ho giuro davanti a dio che non ne ho mai avuti gridò disperato il presidente si gettò verso il comò aprì con fracasso un cassetto e ne estrasse la cartella gridando frasi sconnesse ecco il contratto quel verme di interprete mi ha rifilato Korofjev con gli occhiali a molla aprì la cartella vi guardò dentro vi infilò la mano il lividì e lasciò cadere la cartella nella minestra non c'era niente né la lettera di stiopa né il contratto né il passaporto dello straniero né il denaro né il biglietto di favore insomma niente tranne il metro pieghevole compagni urlò frenetico il presidente pigliateli in questa casa c'è lo spirito maligno qui non si sa che cosa saltasse in testa a Pelagheia Antonovna fatto sta che alzando le braccia al cielo esclamò confessa Ivanic ti ridurranno la pena con gli occhi iniettati di sangue Nikanor Ivanovich alzò i pugni sulla testa della moglie rantolando cretina maledetta poi le forze gli mancarono si sedette avendo evidentemente deciso di rassegnarsi all'inevitabile in quel frattempo Timofey Kvaskov sul pienerottolo appoggiava ora l'occhio ora l'orecchio al buco della serratura della porta del presidente struggendosi di curiosità cinque minuti dopo gli inquilini della casa che si trovavano in cortile videro il presidente dirigersi difilato verso il portone accompagnato da due persone dicevano che Nikanor Ivanovich aveva cambiato faccia che barcollava come un ubriaco e che borbottava qualche cosa un'ora dopo nell'appartamento numero undici nel momento in cui Timofey raccontava agli altri andando in sollucchero come avessero messo in gattapuglia il presidente entrò uno sconosciuto il quale chiamò in anticamera Timofey con un movimento del dito gli disse qualcosa e scomparve con lui mentre a Nikanor Ivanovich succedeva questa disgrazia sempre sulla sadovaia a poca distanza dal 302 bis nell'ufficio di Rimsky direttore finanziario del Varietà si trovavano due persone Rimsky stesso e Varenushka amministratore del teatro Rimsky tirò fuori l'orologio vide che segnava le due e cinque e andò su tutte le furie c'era di che l'Ikadiayev aveva telefonato verso le undici dicendo che sarebbe giunto lì a mezz'ora e non solo non era arrivato ma era pure scomparso di casa ho tutto bloccato rugiva Rimsky puntando il dito verso il mucchio di documenti che aspettavano la firma non sarà mica andato a finire sotto un tram come Berlioz diceva Varinushka tenendo incollato l'orecchio ricevitore in cui si sentivano lunghi e inutili squilli non sarebbe male disse Rimsky a denti stretti con voce che astento si poteva sentire in quell'istante entrò nell'ufficio una donna indivisa col berretto a visiera la gonna nera e scarpette basse dalla piccola borsa attaccata alla cintura la donna trasse un quadratino bianco e un quaderno e disse è qui il varietà c'è un telegramma lampo per voi firmi qui Varinushka fece uno scarabocchio nel quaderno della donna e non appena la porta le si chiuse dietro aprì la busta dopo aver letto il telegramma cominciò a sbattere le palpebre e passò il foglio a Rimsky il contenuto del telegramma era il seguente da Yalta a Mosca varietà oggi ore undici e mezzo presentatosi a pubblica sicurezza alienato castano camicia notte pantaloni senza scarpe dichiarandosi Likadyaev direttore varietà stop telegrafate pubblica sicurezza Yalta dove trovasi direttore Likadyaev cose dell'altro mondo esclamò Rimsky e soggiunse altra sorpresa uno pseudodemetrio esclamò Varinushka e disse nel ricevitore telegrammi ad evitare al varietà telegramma lampo pronti pubblica sicurezza Yalta direttore Likadyaev trovasi Mosca firmato direttore finanziario Rimsky senza tener conto della comunicazione sull'impostore di Yalta Varinushka ricominciò a cercare Stiopa per mezzo del telefono a casaccio senza naturalmente trovarlo con gli occhi socchiusi egli si raffigurava Stiopa in camicia da notte senza scarpe che saliva verso le undici e mezzo di quel giorno in un fantastico aereo super veloce e poi sempre lui Stiopa sempre alle undici e mezzo coi soli calzini e i piedi all'aeroporto di Yalta chi diavolo ci capiva qualche cosa forse non era stato Stiopa a parlargli quella mattina al telefono dal proprio appartamento no chi parlava era proprio lui figuriamoci se lui Rimsky non conosceva la voce di Stiopa ma anche se gli avesse telefonato qualcun altro non più tardi di ieri verso sera Stiopa in persona era venuto dal suo ufficio in questo con quello stupido contratto irritando il direttore finanziario con la sua sventatezza come era potuto partire senza dire niente in teatro ma anche se avesse preso l'aereo la sera prima non poteva essere già sul posto a mezzogiorno del giorno successivo oppure poteva in quell'attimo squillò il telefono sì gridò Varenushka Ivan Salevievich si informò il ricevitore con un'antipaticissima voce nasale non è in teatro gridò Varenushka ma il ricevitore lo interruppe subito non faccialo stupido Ivan Salevievich e ascolti non porti in nessun posto quei telegrammi e non li faccia vedere a nessuno chi parla esplose Varenushka la piante di scherzare la scopriranno subito ma da che numero parla Varenushka riprese la stessa voce ributtante lo capisci il russo sì o no non portare i telegrammi da nessuna parte ah lei non la vuole smettere urlò l'amministratore infuriato bestia attento la pagherà lanciò ancora una minaccia ma poi stette zitto perché sentì che nessuno lo ascoltava più allora nell'ufficio cominciò rapidamente a farsi buio Varenushka corse fuori sbatte la porta e attraverso l'uscita laterale si slanciò nel giardino estivo l'amministratore era eccitato e pieno di energia dopo quell'impudente telefonata non dubitava più che una banda di teppisti stesse macchinando qualche brutto tiro e che questo fosse collegato con la sparizione di Likadiev il desiderio di smascherare i malfattori soffocava l'amministratore e per quanto strano nasceva in lui il presentimento di qualcosa di piacevole questo accade quando un uomo cerca di diventare il centro dell'attenzione e di recare una notizia sensazionale ma che razza di stava per dire l'amministratore quando sentì alle spalle una voce gnaolante e lei Ivan Savelyevich Varenushka sussultò si voltò e vide davanti a sé un individuo piccolo e grassottello dalla faccia somigliante a quella di un gatto sì sono io rispose Varenushka con voce ostile piacere molto piacere rispose con voce pegnucolosa il gattesco individuo e all'improvviso preso lo slancio appioppò a Varenushka una sventola tale sull'orecchio che il berretto volò via dalla testa dell'amministratore e scomparve senza lasciare tracce nel buco del gabinetto il colpo del grassone illuminò per un attimo l'intero gabinetto con una luce palpitante e nel cielo echeggiò un colpo di tuono poi lampeggiò ancora e davanti all'amministratore comparve un secondo individuo piccolo ma dalle spalle atletiche con capelli rossi come il fuoco un occhio con l'albugine la bocca con una zanna questo secondo individuo essendo evidentemente mancino pestò l'amministratore sull'altro orecchio in risposta tuonò di nuovo e sul tetto di legno del gabinetto si rovesciò una pioggia torrenziale che cosa hai nella cartella parassita urlò con voce penetrante quello che somigliava a un gatto e telegrammi ti hanno pur avvertito per telefono di non portarli ti hanno avvertito sì o no mi hanno avvertito rispose l'amministratore boccheggiando entrambi presero l'amministratore sotto braccio lo trascinarono fuori dal giardino e lo portarono con sé lungo la sadovaie il temporale imperversava tutto spiano l'acqua tonfando e urlando precipitavano i tombini dovunque si gonfiavano coprendosi di bolle le onde dai tetti l'acqua sgorgava sopra le grondaglie dagli androni uscivano in corsa torrenti schiumosi tutto ciò che era vivo si era ecclissato dalla sadovaia e non c'era nessuno che potesse salvare Ivan Savelyevich saltando tra i fiumi torbidi e illuminandosi coi lampi i banditi trascinarono in un batter d'occhio l'amministratore mezzo morto fino al 302 bis balzarono nell'androne dove si stringevano al muro due donne scalze che tenevano in mano le scarpe e le calze fradice poi si precipitarono verso l'interno sei e Varenushka prossimo alla pazzia fu portato al quinto piano e gettato sul pavimento della semibuia anticamera a lui ben nota dell'appartamento di stiopa Likadiev qui i due briganti scomparvero e al loro posto comparve nell'anticamera una ragazza completamente nuda rossa di capelli con gli occhi che ardevano in un bagliore fosforescente Varenushka capì che quella era la cosa più terribile tra tutto quello che gli era capitato e con un gemito indietreggiò verso la parete la ragazza si avvicinò all'amministratore e gli mise le mani sulle spalle i capelli di Varenushka si rizzarmo perché anche attraverso la staffa fredda imbevuta d'acqua del camiciotto sentì che quelle mani erano ancora più fredde fredde di un freddo di ghiaccio oh ti voglio dare un bacio disse la ragazza con tenerezza e gli occhi lucenti si avvicinarono ai suoi Varenushka perse i sensi e non percepì il bacio sull'altra sfonda del fiume il boschetto che un'ora prima era illuminato dal sole di maggio si intorbidì si stemperò e si dissolse dietro la finestra l'acqua scendeva a formare un velo ininterrotto in alto a ogni istante si accendevano filamenti il cielo scoppiava la camera del malato si riempiva di una luce palpitante e minacciosa Ivan piangeva sommesso seduto sul letto guardando il fiume torbido coperto di bolle ogni tuono gemeva lamentosamente e si copriva il volto con le mani i foglietti da lui scritti erano sparsi sul pavimento gli aveva soffiati via il vento che era volato nella stanza prima dell'inizio del temporale i tentativi del poeta di stendere una dichiarazione a proposito del terribile consulente non erano approdati a nulla non appena la grassa assistente che si chiamava Prascofia Fiedorovna gli aveva dato un mozzicone di matita e della carta si era fregato soddisfatto le mani e si era messo in fretta al tavolino l'inizio gli venne abbastanza facile alla polizia dichiarazione di Ivan Nikolaevich Viesdomni membro del Massolit ieri sera andai col defunto M.A. Berlioso agli stagni patriarcie e subito il poeta si ingarbugliò soprattutto per via della parola defunto fin dalle prime righe veniva fuori un'incongruenza come si faceva a dire andai con il defunto i defunti non camminano così magari lo avrebbero preso sul serio per un matto e dopo questi pensieri Ivan Nikolaevich cominciò a correggere quanto aveva scritto con il seguente risultato con M.A. Berlioso in seguito defunto ma neppure questa forma soddisfece l'autore si dovette ricorrere a una terza variante ma questa risultò ancora peggiore delle precedenti Berlioso che andò a finire sotto un tram qui salto fuori l'altro Berlioso l'omonimo compositore che nessuno conosce e si dovette aggiungere non il compositore beh dopo essersi tormentato con questi due Berlioso Ivan cancellò tutto e decise di cominciare subito con qualcosa di forte per attirare immediatamente l'attenzione dell'attore e scrisse che il gatto era salito sul tram e poi tornò all'episodio della testa muzzata la testa e la predizione del consulente lo fecero pensare a Ponzio Pilato e per riuscire più convincente decise di esporre l'intero racconto sul procuratore e cominciare dal momento in cui egli col mantello bianco foderato di rosso era entrato nel porticato del palazzo di Erode l'ospedale quel tristo asilo si stava addormentando nei silenziosi corridoi si spensero le lampade bianche smerigliate e al loro posto si accesero secondo il regolamento deboli luci azzurre e sempre più raramente dietro le porte si sentivano i passi cauti delle assistenti sulle stuoie di gomma del corridoio disteso in un dolce l'anguore Ivan guardava ora la lampadina sotto il paralume che gettava dal soffitto una luce attenuata ora la luna che spuntava da dietro il bosco e conversava con se stesso perché poi me la sono presa tanto quando Berlioso è finito sotto il tram ragionava il poeta in fin dei conti vado all'inferno chi sono per lui un parente un amico se la questione venisse adeguatamente ventilata verrebbe fuori che in fondo non lo conoscevo neanche bene infatti che cosa sapevo di lui solo che era calvo e terribilmente eloquente per di più signori miei continuava il suo discorso Ivan rivolgendosi a chissà chi esaminiamo un po' la questione perché me la sono presa tanto con quel misterioso consulente mago e professore dall'occhio nero e vuoto che senso ha quell'assurdo inseguimento immutando e con il cero in mano e poi quel pasticciaccio al ristorante un momento disse a un tratto con severità il vecchio Ivan al nuovo parlando non si capiva se dentro di lui o vicino al suo orecchio che a periosa sarebbe stata mozzata la testa lui lo sapeva in anticipo e come si fa allora a non prendersela perché discutere compagni replicava il nuovo Ivan a quello vecchio che le cose siano poco pulite lo capirebbe anche un bambino si tratta di una personalità fuori del comune e misteriosa al cento per cento ma è proprio questo l'interessante un uomo che ha conosciuto personalmente Ponzio Pilato che cosa volete di più e invece di far tanto chiasso ai patriarci non sarebbe stato più intelligente chiedergli con cortesia che cosa fosse poi successo a Pilato e a quel Anosri arrestato che cosa ho combinato invece che avvenimento importante il direttore di una rivista è finito sotto un tram forse chiuderanno la rivista per questo che vuoi farci l'uomo è mortale e come giustamente è stato detto a volte muore all'improvviso beh pace all'anima sua ci sarà un altro direttore magari più eloquente ancora del primo e dopo aver sonnecchiato un po' il nuovo Ivan chiese malignamente al vecchio chi sarei io in tal caso un cretino rispose distintamente una voce di basso che non apparteneva a nessuno dei due Ivan e che somigliava moltissimo a quella del consulente Ivan non si offese per il termine cretino ma rimanendone anzi gradevolmente sorpreso sorrise e si calmò cadendo in dormiveglia il sonno avanzava furtivo verso Ivan e già gli appariva in sogno una palma su una zampa elefantesca e gli passò accanto il gatto non più terribile ma allegro insomma il sonno stava per impadronirsi di Ivan quando all'improvviso l'inferriata si spostò in silenzio da una parte e sul balcone apparve una figura misteriosa che si nascondeva dalla luce lunare e minacciò Ivan con il dito senza il minimo spavento Ivan si sollevò sul letto e vide sul balcone un uomo questo poggiando un dito sulle labbra sussurrò alla straordinaria scomparsa di Likadeyev si era aggiunta ora quella assolutamente imprevedibile di Varenushka Rimsky sapeva dove fosse andato ma lui se n'era andato e non era tornato indietro si stringeva nelle spalle e sussurrava tra sé ma perché e cosa strana per un uomo navigato come il direttore finanziario la soluzione più semplice sarebbe stata quella di telefonare là dove si era diretto a Varenushka per chiedere che cosa gli fosse successo eppure fino alle dieci di sera non poté imporsi di fare questa telefonata alle dieci infine facendo addirittura violenza su se stesso Rimsky afferrò il ricevitore del telefono e si accorse che il suo apparecchio era morto il fattorino riferì che anche gli altri telefoni dell'edificio erano guasti questo fenomeno sgradevole naturalmente ma non soprannaturale scosse definitivamente il direttore finanziario ma nello stesso tempo lo rallegrò era venuta meno la necessità di telefonare quando sopra la sua testa si accese e cominciò a lampeggiare la luce rossa che segnalava l'inizio dell'intervallo entrò il fattorino per comunicare che era giunto l'artista straniero il direttore finanziario ebbe un brivido e fattosi più cupo di un nembo si diresse verso le quinte per accogliere l'artista poiché non c'era nessun altro per farlo dal corridoio dove strepitavano già i cicalini nel grande camerino entravano dei curiosi con vari pretesti vi erano prestigiatori dai camici e turbanti multicolori un pattinatore con un maglione bianco un presentatore pallido di cipria e il truccatore la celebrità straniera stupì tutti per la lunghezza inaudita del suo frac di splendido taglio e perché portava una mezza maschera nera la cosa più strana però erano i due accompagnatori del mago uno spilongone a quadretti con occhiali a molla incrinati e un grasso gatto nero che entrò nel camerino sulle zampe posteriori e sedette con disinvoltura sul divano guardando con gli occhi socchiosi le nude lampade per il tocco rimski cercò di abbozzare un sorriso che gli rese la faccia acida e cattiva e salutò il mago che era seduto in silenzio sul divano vicino al gatto non vi furono strette di mano invece lo sfacciato individuo a quadretti si presentò da solo al direttore finanziario chiamandosi aiutante di sua eccellenza questa circostanza sorprese il direttore e lo sorprese in modo sgradevole nel contratto nessun articolo menzionava un aiutante in modo forzato e secco Grigori Danilovic chiese al tipo a quadretti che gli era capitato tra capo e collo dove fosse l'attrezzatura dell'artista diamante nostro divino preziosissimo signor direttore rispose l'aiutante del mago con voce tremolante i nostri apparecchi sono sempre con noi eccoli ein vai dai e dopo aver rigirato le dita nodose davanti agli occhi di Rimsky estrasse all'improvviso da dietro a un orecchio del gatto l'orologio d'oro di Rimsky con la sua catena che fino a quel momento si trovavano nel taschino del gilet sotto la giacca bottonata con la catena infilata nell'occhiello involontariamente Rimsky si afferrò la pancia i presenti lanciarono esclamazioni e il truccatore che occhieggiava dalla porta emise un grognito di approvazione in quel momento per la terza volta suonarono inquieti i cicalini e tutti pregustando quel numero sensazionale uscirono eccitati dal camerino un minuto dopo nella sala si spensero i globi si accese la ribalta che lanciò sulla parte inferiore del sipario un riflesso rossastro e nella fessura illuminata del sipario apparve davanti al pubblico un uomo grassoccio allegro come un bambino dal volto rasato col frac sgualcito e la camicia non dibucato era il presentatore George Bengalski ben noto a tutta Mosca e così signori cominciò Bengalski con un sorriso da pargolo adesso vedrete qui Bengalski si interruppe e cambiò tono vedo che il pubblico è ancora aumentato per quest'ultima parte dello spettacolo oggi abbiamo qui mezza città qualche giorno fa incontro un amico e gli dico perché non vieni da noi ieri abbiamo avuto mezza città e lui mi risponde io vivo nell'altra mezza Bengalski fece una pausa aspettandosi uno scoppio di risate ma poiché nessuno rise continuò e così vedrete il celebre artista straniero Messier Poland in una seduta di magia nera beh noi tutti sappiamo qui Bengalski fece un sorriso pieno di saggezza che la magia nera non esiste ma non è altro che superstizione ma il fatto è che il maestro Poland padroneggia al massimo grado la tecnica della prestidigitazione come si vedrà nella parte più interessante cioè quando questa tecnica verrà smascherata e perché noi tutti come un solo uomo siamo interessati sia alla tecnica sia al suo smascheramento ecco a voi il signor Poland dopo aver pronunciato tutte queste corbellerie Bengalski riunì le mani palmo contro palmo le agitò in segno di saluto nella fessura del sipario al che questo si è perse con un fruscio l'apparizione del mago con l'aiutante spilungone e col gatto che entrò in scena camminando sulle zampe posteriori piacque molto al pubblico una poltrona ordinò sottovoce Volant e nello stesso istante apparve da chissà dove una poltrona su cui il mago si sedette dimmi gentile fagotto domandò Volant al buffone vestito a quadretti che oltre a quello di Korofiev aveva evidentemente un altro nome che ne dici la popolazione di Mosca è molto cambiata il mago guardò il pubblico silenzioso stupefatto dall'apparizione della poltrona signor sim e sere rispose sommesso fagotto Korofiev hai ragione i cittadini sono molto cambiati esternamente dico come la stessa città del resto non parliamo poi dell'abbigliamento ma sono apparsi quei come si chiamano tram automobili autobus suggerì rispettosamente il fagotto il pubblico seguiva con attenzione quel colloquio pensando che esso fosse un preludio ai trucchi di magia le quinte erano gremite di attori e di macchinisti e tra i loro volti si vedeva quello pallido e teso di Rimischi la faccia di Bengalski che si era rifugiato in un lato del palcoscenico cominciò ad esprimere imbarazzo egli alzò lievemente un sopracciglio e approfittando di una pausa disse l'artista straniero esprime la sua ammirazione per Mosca progredita dal punto di vista tecnico nonché per i moscoviti qui Bengalski sorrise due volte dapprima alla platea e poi alla balconata volant fagotto e il gatto voltarono la testa verso il presentatore ho forse espresse ammirazione chiese il mago a fagotto signor no messere lei non ha espresso ammirazione alcuna rispose quello allora che cosa dice quello lì racconta balle ecco tutto comunicò l'aiutante quadrettato con voce sonora che si sentì in tutto il teatro e rivolgendosi a Bengalski aggiunse mi congratulo con lei signor cantavalle in balconata si sparse un risolino e Bengalski sussultò e sbarrò gli occhi ma naturalmente non mi interessano tanto gli autobus i telefoni e l'altra attrezzatura suggerì il tipo a quadretti giusto grazie diceva lentamente il mago quanto una questione ben più importante sono cambiati internamente questi cittadini sì questa è una questione importantissima signore tra le quinte cominciarono a scambiarsi degli sguardi e a stringersi nelle spalle Bengalski era rosso Rimski pallido ma a questo punto come se avesse intuito la nascente preoccupazione il mago disse però la nostra conversazione è andata per le lunghe caro Fagotto il pubblico comincia ad annoiarsi facci vedere qualcosa di semplice per ingominciare il pubblico fece un movimento di sollievo Fagotto e il gatto si allontanarono in direzione opposta lungo la ribalta e Fagotto schioccò le dita gridò con valdanza tre quattro afferrò dall'aria un mazzo di carte lo mescolò e lo lanciò come una stella filante al gatto questo lo prese al volo e lo rimandò indietro il serpente satinato frusciò Fagotto aprì la bocca come un uccellino e lo inghiottì interamente carta dopo carta poi il gatto si inchinò sbattendo la zampa posteriore destra e riscosse applausi incredibili che classe che classe gridavano rapiti dietro le quinte Fagotto puntò il dito verso la platea e dichiarò adesso un mazzo di carte e greci signori si trova in settima fila dal signor Parshevski esattamente tra un biglietto da tre rubli e una convocazione del tribunale per il mancato pagamento degli alimenti alla signora Zelkova nella platea il pubblico si mosse cominciò ad alzarsi e finalmente un signore che si chiamava proprio Parshevski porpureo dallo stupore trasse dal portafoglio il mazzo di carte e lo scosse in aria non sapendo che farne lo tenga per ricordo gridò Fagotto ma non per niente lei diceva ieri a cena che non fosse per il poker la sua vita mosca sarebbe del tutto insopportabile è un vecchio trucco si udì dal loggione quello della platea è uno dei vostri credi? urlò Fagotto succhiudendo gli occhi per meglio vedere il loggione in questo caso anche lei fa parte della nostra banda perché anche lei ha il mazzo in tasca nel loggione vi fu un sobbulio e si udì una voce gioiosa è vero lo ha proprio qui 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 aspetta ehi ma sono biglietti da dieci rubli quelli che sedevano in platea si voltarono nel loggione un signore sconcertato si era trovato in tasca un pacchetto confezionato con sistema delle banche con la scritta mille rubli i vicini gli si rovesciavano addosso mentre lui smarrito grattava con l'unghia la copertina cercando di capire se erano banconote autentiche o magiche giuro sono veri soldi veri gridavano gioiosamente dal loggione farei anch'io una partita a carte con un mazzo del genere propose con allegria un grassone seduto in platea avec plaisir rispose Fagotto ma perché con lei solo tutti prenderanno parte vivissima e ordinò prego di guardare in alto uno nella sua mano apparve una pistola gridò due la pistola si puntò verso l'altro gridò tre lampeggiò tuono e di colpo cominciarono a cadere in sala da sotto la cupola svolazzando tra i trapezzi dei biglietti bianchi volteggiavano si sparpagliavano cadevano nel loggione si riversavano sull'orchestra e sul palcoscenico alcuni secondi dopo la pioggia di denaro si infittì raggiunse le poltrone e gli spettatori cominciarono ad afferrare i biglietti nel teatro si alzavano centinaia di mani gli spettatori guardavano le banconote contro la luce del palcoscenico e riconoscevano la filigrana più autentica e più sacrosanta anche l'odore non lasciava adito a sospetti era il delizioso odore inconfondibile del denaro appena stampato da prima l'allegria poi lo stupore invase l'intero teatro dovunque ronzava la parola denaro 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 ci sentivano esclamazioni e allegre risate qualcuno era già a quattro zampe nel passaggio tra le poltrone frugava sotto i sedili molti erano saliti sulle poltrone per acchiappare le banconote sventate e capricciose sui volti dei polizoti cominciò a dipingersi la perplessità mentre gli artisti senza tanti complimenti cominciarono a sbucare dalle quinte dal primo ordine di palchi si udì una voce perché la pigli è mia è da me che volava e un'altra non spingere se no te lo do io uno spintone che vedi e a un tratto si udì il rumore di uno schiaffo immediatamente apparve nei palchi l'elmetto di un poliziotto e qualcuno fu condotto via l'eccitazione generale stava aumentando e non si sa come sarebbe andata a finire se Fagotto non avesse interrotto la pioggia di denaro soffiando all'improvviso in aria due giovanotti dopo essersi scambiate un'occhiata allegra e significativa lasciarono i propri posti per andare dritti al bar il teatro rumoreggiava gli occhi di tutti gli spettatori brillavano di eccitazione no non si sa come sarebbe andata a finire se Bengalski non avesse trovato in sé un po' di forza e non si fosse mosso cercando di padroneggiarsi meglio si fregò le mani per consuetudine e con la voce più sonora di cui disponesse disse così ecco signori abbiamo appena visto un caso di cosiddetta ipnosi collettiva un'esperienza prettamente scientifica che dimostra nel modo migliore che nella magia non esistono miracoli vogliamo ora pregare il maestro Volant di spiegarci questo trucco adesso signori vedrete che queste che sembrano banconote da dieci rubli scompariranno all'improvviso come sono apparsi applaudì ma in completa solitudine e nel suo volto alleggiava un sorriso sicuro ma negli occhi questa sicurezza era assente anzi essi esprimevano piuttosto un'implorazione al pubblico il discorso di Bengalski non piacque sovraggiunse un silenzio totale che fu interrotto da fagotto e questo è di nuovo un caso di cosiddetta bugia dichiarò egli con alta voce tenorile da caprone le banconote signove sono autentiche bravo rindhiò brevemente una voce di basso dall'oggione a proposito questo tipo fagotto indicò Bengalski mi ha stufato ficca il naso dappertutto senza esserne richiesto rovina lo spettacolo con osservazioni sballate che cosa ne facciamo strappagli la testa disse una voce severa dall'oggione come dice scusi replicò immediatamente fagotto alla brutta proposta strappargli la testa è un'idea vegemot gridò al gatto dai hai zvai drai e successe una cosa inaudita il pelo del gatto nero si rizzò e l'animale miagolò da spaccare i timpani poi si raccolse su se stesso e balzò come una pantera sul petto di Bengalski di lì saltò sulla sua testa con un borbottio il gatto affondò le gonfie zampe nella rata capigliatura del presentatore e con un urlo tremendo gli strappò la testa dopo averla fatta ruotare due volte sul collo grassoccio duemilacinquecento spettatori gridarono come un solo uomo un getto di sangue zampillò dalle arterie recise del collo e si riversò sullo sparato e sul frac il corpo decapitato strascicò bizzarramente le gambe e si sedette sul pavimento nella sala si udirono grida isteriche di donne e il gatto consegnò la testa a Fagotto che la prese per i capelli e la mostrò al pubblico la testa gridò tremendamente per tutto il teatro un dottore continuerai a dir Fandogne anche in futuro chiese minaccioso Fagotto alla testa piangente no non lo farò più rantolò la testa e rapporti Dio non lo tormentate si udì da un palco una voce femminile che coprì il fracasso e il mago si voltò nella sua direzione allora signori lo perdoniamo chiese Fagotto rivolgendosi agli spettatori lo perdoniamo lo perdoniamo e che giarono delle voci da priva e isolate e in prevalenza femminili poi si fusero in coro con quelle maschili quali sono i suoi ordini messere chiese Fagotto a Volant già rispose quello pensieroso è gente normale ama il denaro ma è sempre stato così l'umanità ama il denaro di qualunque cosa sia fatto di cuoio di carta di buonzo d'oro eh sì è sconsiderata già e la misericordia a volte bussa ai loro cuori oh gente normale in fondo ricorda quella di prima ma è stata rovinata dal problema degli alloggi e ordinò con voce forte io rimetto la testa il gatto prese con cuore la mira e calcò sul collo la testa che riprese il suo posto come se non se ne fosse mai staccato e quel che più conta non rimase neppure una cicatrice sul collo con le zampe il gatto spolverò lo sparato e il frac di Bengalski e le macchie di sangue scomparvero fagotto alzò in piedi Bengalski ancora seduto gli ficò nella tasca del frac un pacchetto di banconote e lo condusse via dal palcoscenico esclamando via di qua senza di lei si sta più allegri guardandosi intorno con occhi privi di espressioni e barcollando il presentatore riuscì ad arrivare soltanto fino ai pompieri di servizio e si sentì male gettò un grido lamentoso la mia testa la mia testa tra gli altri anche Rimski si precipitò verso di lui il presentatore piangeva cercava di afferrare qualcosa in aria borbottando ridatemi la mia testa la mia testa prendetevi l'appartamento prendetevi i quadri ridatemi solo la mia testa un fattorino corse a cercare un medico tentarono di far sdraiare Bengalski su un divano dell'ufficio ma egli cominciò a divincolarsi diventando furioso fu necessario chiamare il pronto soccorso quando portarono via lo sfortunato presentatore Rimski ritornò verso il palcoscenico e vide che succedevano nuovi miracoli a proposito forse in quel momento o forse un po' prima il mago era scomparso dalla scena con la sua poltrona sbiadita e bisogna dire che il pubblico non se n'era affatto accorto trascinato dalle cose straordinarie che andava facendo sul palcoscenico fagotto questi dopo aver accompagnato fuori il presentatore sinistrato dichiarò al pubblico adesso che ci siamo sbarazzati di quel rompiscatole apriamo un negozio di articoli per signora il palcoscenico il palcoscenico si ricoprì subito di tappeti persiani sorsero enormi specchi illuminati ai lati da tubi verdognoli e tra gli specchi delle vetrine in cui gli spettatori allegramente sbalorditi videro esposti vestiti femminili parigini di varie fogge e colori questo in alcune in altri invece apparvero centinaia di cappellini con piume e senza piume con fibbie e senza fibbie nonché centinaia di scarpe bianche, nere, gialle di cuoio, di raso di camoscio con cinghietti con pietre dure tra le scarpe si videro astucci di profumo montagne di borsette di antilope di camoscio di seta e tra di esse mucchi di lunghi astucci d'oro cesellati per il rossetto apparsa da chissà dove una ragazza dai capelli rossi con un abito nero da sera assai piacente ma rovinata da una bizzarra cicatrice al collo sorrise accanto alle vetrine con fare da padrona con un melliflo sorriso fagotto dichiarò che la ditta eseguiva a titolo assolutamente gratuito il cambio di vecchi abiti e scarpe femminili con modelli parigini lo stesso valeva per le borsette e gli altri articoli il gatto strisciava la zampa posteriore facendo nel contempo con l'anteriore i gesti di un portiere che apra una porta con voce un po' rauca ma dolce mangiandosi le R la ragazza cominciò a canterellare qualcosa di poco comprensibile ma oltremodo seducente a giudicare dai volti femminili in platea Guerlain Chanel Mizzuc Narcise Noir Chanel numero 5 vestiti da sera vestiti da cocktail fagotto si contorceva il gatto eseguiva inchini e la ragazza apriva le vetrine si accomodino urlava fagotto senza complimenti e senza cerimonie il pubblico era emozionato ma nessuno ancora si decideva a salire sul palcoscenico finalmente una brunetta uscì dalla decima fila di platea e sorridendo quasi a dire che a lei non importava niente e se ne fregava avanzò e salì sul palcoscenico per la scaletta laterale brava esclamò fagotto dal benvenuto alla prima visitatrice vegemotte una poltrona cominciamo dalle scarpe madame la brunetta sedette in poltrona e fagotto le ambucchiò subito davanti una montagna di scarpe la brunetta si tolse la scarpa destra ne provò una viola premette due o tre volte il tappeto col piede e esaminò il tacco mi faranno male chiese pensierosa al che il fagotto esclamò con voce offesa per carità e anche il gatto mi agolò in tono offeso prendo questo paio messie disse la brunetta con fare dignitoso calzando anche l'altra scarpa le sue vecchie scarpe furono gettate dietro una tenda e nella stessa direzione andò pure la donna accompagnata dalla ragazza dai capelli rossi e da fagotto che portava appesi sulle grucce alcuni motelli il gatto si indaffarava aiutava e per darsi maggiore importanza si appese al collo un metro da sarta un minuto dopo da dietro la tenda uscì la brunetta con un vestito tale che un sospiro passò per tutta la platea l'ardimentosa donna diventata più bella sorprendentemente si fermò davanti a uno specchio alzò le spalle nude si toccò i capelli sulla nuca e si contorse tentando di guardarsi la schiena la ditta la prega di gradire questo a titolo di ricordo disse fagotto porgendo alla brunetta un flacone in un astuccio aperto merci rispose altera la donna e scese in platea mentre avanzava gli spettatori balzavano in piedi per toccare l'astuccio successe il finimondo da tutte le parti le donne cominciarono a salire sul palcoscenico nell'eccitato rumore generale di voci di risate di sospiri si udì una voce maschile non ti permetto e poi una femmine despota borgesuccio mi rompe il braccio le donne scomparivano dietro la tenda vi lasciavano i propri vestiti e ritornavano indossandone dei nuovi su sgabelli dai piedi dorati sedeva tutta una fila di signore che pestavano energicamente il tappeto con il piede calzato a nuovo fagotto si inginocchiava si dava da fare con un calzatorio di metallo e il gatto allo stremo delle forze sotto montagne di borsette di scarpe si trascinava dalla vetrina agli sgabelli e viceversa la ragazza dal collo mutilato ora appariva ora scompariva arrivando al punto di cicalare solo in francese ed era sorprendente che la capissero a volo tutte le donne perfino quelle che non sapevano una parola di quell'idioma un uomo che si intrufolò sul palcoscenico provocò lo stupore generale spiegò che sua moglie aveva l'influenza e pregava quindi di farle avere qualche cosa tramite suo a comprovare il fatto che fosse effettivamente sposato il signore era pronto a esibire la carta di identità la dichiarazione del premuroso marito fu accolta da grandi risate fagotto urlò che anche senza passaporto si fidava come di se stesso e consegnò al signore due paia di calze di seta mentre il gatto prese l'iniziativa di aggiungere un vasetto di crema di bellezza le ritardatarie si precipitarono verso il palcoscenico da cui scendeva una fiumana di donne felici con vestiti da ballo pigiami ricamati con draghi severi taillers cappellini inclinati su un sopracciglio fagotto dichiarò allora che data l'ora il negozio sarebbe stato chiuso fino alla sera successiva tra un minuto esatto e sul palcoscenico scoppiò il finimondo le donne afferravano le scarpe alla svelta senza neppure misurarle una irruppe come un fulmine dietro la tenda si strappò di dosso il vestito e si impadronì della prima cosa che le capitò sotto mano una vestaglia di seta ornata di enormi mazzi di fiori e fece in tempo ad arraffare anche due flaconi di profumo un minuto un minuto esatto più tardi e che giò un colpo di pistola e gli specchi scomparvero sprofondarono vetrine sgabelli il tappeto si sciolse in aria come pure la tenda per ultima sparì l'altissima montagna di vestiti e scarpe vecchie e il palcoscenico ridivenne severo vuoto e nudo fu allora che un nuovo personaggio si mischiò una sgradevole voce baritonale sonora e molto insistente e che giò dal palco numero due sarebbe desiderabile signor artista che lei smascherasse senza ulteriore ritardo davanti agli spettatori la tecnica dei suoi trucchi e in particolare il trucco con le banconote sarebbe anche opportuno il ritorno in palcoscenico del presentatore la sua sorte preoccupa agli spettatori quella voce baritonale non apparteneva ad altri che all'ospite d'onore della serata Arkady Apollonovic Semplejarov presidente della commissione acustica dei teatri di Mosca Arkady Apollonovic si trovava in un palco con due signore l'una anziana che indossava un costoso vestito alla moda l'altra giovane e carina vestita in modo più modesto la prima come si venne a sapere poco dopo quando si stese il verbale era la moglie di Arkady Apollonovic la seconda una sua lontana parente un'attrice principiante di grandi speranze arrivata da Saratov che viveva in casa dei coniugi Semplejarov pardon replicò Fagotto e chiedo scusa qui non c'è niente da smascherare tutto è chiaro no mi perdoni è assolutamente necessario smascherare tutto altrimenti i vostri brillanti numeri lasceranno un'impressione penosa la massa degli spettatori esige una spiegazione la massa degli spettatori lo interrompe l'insolente buffone mi pare non abbia chiesto un bel nulla prendendo tuttavia in considerazione il suo stimabilissimo desiderio Arkady Apollonovic d'accordo procederò allo smascheramento ma a tale scopo mi permetta ancora un numeruccio piccolo piccolo perché no rispose con aria di protezione Arkady Apollonovic ma non deve mancare lo smascheramento signor sì signor sì mi permetta dunque di chiederle dove è stato ieri sera Arkady Apollonovic a questa domanda fuori posto e forse persino villana il volto di Arkady Apollonovic cambiò e cambiò in modo assai forte ieri sera Arkady Apollonovic presenziava una seduta della commissione acustica dichiarò con fare molto altero la moglie di Arkady Apollonovic ma non capisco che rapporto abbia questo con la magia oui madame confermò Fagotto naturalmente lei non capisce in quanto alla seduta lei è in completo errore uscito per recarsi alla predetta seduta la quale tra parentesi non era affatto indetta per ieri Arkady Apollonovic lasciò libero il suo autista presso l'edificio della commissione agli stagni Cistie l'intero teatro stava col fiato sospeso e con l'autobus si recò in via Jelokoskaya a far visita a Milizza Andreevna Pocobatko attrice della compagnia viaggiante rionale e vi rimase per circa quattro ore oi 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 esclamò qualcuno con voce sofferente tra il silenzio generale la giovane parente di Arkady Apollonovic sbottò a ridere con voce bassa e terribile capisco tutto esclamò lo sospettavo da tempo adesso so perché quella nullità ha avuto la parte di Luisa e con un inatteso slancio calò il suo corto e grosso ombrello viola sulla testa di Arkady Apollonovic il vile fagotto ossia Korofiev esclamò ecco egregi signori un esempio di quello smascheramento che Arkady Apollonovic esigeva con tanta insistenza canaglia come hai osato toccare Arkady Apollonovic chiese con voce minacciosa la moglie di Semplejarov ergendosi nel palco in tutta la sua gigantesca statura un secondo scoppio di riso satanico si impadronì della giovane parente se qualcuno ha diritto di toccarlo rispose schignazzando quella sono io e per la seconda volta si udì il rumore secco dell'ombrello che rimbalzò sulla testa di Arkady Apollonovic polizia pigliatela urlò la moglie con voce così tremenda che molti sentirono raggelarsi il cuore e come se non bastasse il gatto balzò verso la ribalta e ringhiò per tutto il teatro con voce umana ma tanto non è finito maestro ci spari una marcia il direttore il direttore d'orchestra mezzo rincretinito senza rendersi conto di quel che faceva alzò la bacchetta e l'orchestra non suonò neppure attaccò neppure scatenò ma secondo la disgustosa espressione del gatto sparò una marcetta inverosimile di una sfacciataggine inaudita per un istante sembrò che un tempo sotto le stelle del sud nei cafés Chantin si fossero già sentite le parole poco comprensibili quasi insensate ma smargiasse di quella marcetta sua eccellenza amava le pollastrelle e proteggeva le pupette belle ma forse non esistevano affatto quelle parole ma altre sullo stesso motivo oltremodo indecenti questo però non importa importa che al varietà cominciò allora una vera vabele verso il palco di sempre Iarov correva la polizia i curiosi si arrampicavano fin sulla balaustra si udivano scoppi di risate infernali urla furiose coperte dal suono dei piatti dorati dell'orchestra si vide il palcoscenico diventare vuoto all'improvviso e fagotto il furfante e l'insolente gattaccio Begemot si disciolsero nell'aria scomparendo come prima era scomparso il mago con la poltrona dalla fodera spiattita e così lo sconosciuto sul balcone minacciò Ivan con un dito e sussurrò shhh Ivan buttò le gambe giù dal letto e guardò con attenzione un uomo sui 38 anni rasato scuro di capelli col naso aguzzo con occhi inquieti e una ciocca di capelli che gli pendeva sulla fronte guardava cautamente nella finestra dal balcone dopo essersi assicurato che Ivan era solo ed essersi messo in ascolto il visitatore misterioso si fece coraggio ed entrò nella stanza Ivan vide che indossava indumenti ospedalieri biancheria intima pantofole sui piedi nudi e sulle spalle aveva buttato una vestaglia bruna l'uomo amicò a Ivan nascose in tasca un mazzo di chiavi e poi chiese posso sedermi e dopo un cenno affermativo di Ivan si sistemò nella poltrona come ha fatto a venire qui chiese Ivan in un sussurro ubbidendo al secco dito minaccioso le inferiate non sono chiuse a chiave certo che lo sono confermò l'ospite ma Praskovia Fiodorovna è una carissima persona ma oimè distratta un mese fa le ho portato via il mazzo di chiavi ottenendo così la possibilità di uscire sul balcone comune che gira lungo tutto il piano e di fare visita a qualche vicino se può uscire sul balcone può anche scappare o è troppo alto si interessò Ivan no rispose con voce ferma allo sconosciuto non posso scappare di qui non perché sia alto ma perché non so dove andare e dopo una pausa soggiunse allora facciamo quattro chiacchiere ma sì rispose Ivan fissando gli occhi castani e molto irrequieti del nuovo venuto già qui l'ospite fu preso da inquietudine lei spero non è pazzo furioso perché sa io non sopporto il rumore lo scompiglio le violenze e ogni cosa di questo tipo mi sono odiose soprattutto le urla della gente siano urla di dolore di rabbia o di ogni altra specie mi tranquillizzi mi dica che non è un pazzo furioso ieri al ristorante ho spaccato il muso a uno confessò virilmente il poeta trasfigurato il motivo chiese con severità all'ospite riconosco che non c'era un motivo rispose Ivan turbato è una vergogna sentenziò l'ospite e aggiunse e poi questo modo di parlare ho spaccato il muso in fondo non si sa se l'uomo abbia un volto o un muso forse piuttosto un volto no allora sa i pugni no guardi la smetta e per sempre e dopo questa paternale l'ospite si informò la sua professione poeta confessò Ivan controvoglia il nuovo venuto si rattristò oh come sono sfortunato esclamò ma si riprese subito si scusò e chiese come si chiama B.S. Domni oh eh feci l'ospite con una smorfia perché non le piacciono le mie poesie chiese Ivan con curiosità non mi piacciono proprio per niente quali ha letto non ho mai letto poesie sue esclamò inervosito il visitatore allora come fa a dire che non le piacciono che c'è di male rispose l'ospite come se non avessi mai letto quelle degli altri però magari un miracolo bene sono pronto a fidarmi mi dica lei stesso sono buone le sue poesie orrende disse Ivan con coraggio e sincerità non ne scriva più prego l'uomo con voce implorante prometto e giuro dichiarò Ivan solennemente il giuramento fu suggellato da una stretta di mano e in quell'istante dal corridoio giunse un rumore di voci e di passi felpati e balzò sul balcone richiudendo l'inferiata entrò Praskovia Fiodorovna e chiese a Ivan come si sentiva e se desiderava dormire al buio o con la luce Ivan la pregò di lasciare la luce accesa e Praskovia Fiodorovna si allontanò dopo aver augurato al malato una buona notte quando tutto tacque l'ospite ritornò in un sussurro raccontò a Ivan che nella stanza numero 119 avevano portato uno nuovo un grassone dalla faccia purpurea che borbottava continuamente qualcosa a proposito di certa valuta estera nel condotto di aereazione e che giurava che nella sua casa sulla Sadovaia aveva preso alloggio lo spirito maligno se la prende con Pushkin e urla di continuo Kurolesov bis bis diceva l'ospite sussultando inquieto poi si calmò si sedette e disse del resto Dio sia con lui e continuò la conversazione con Ivan beh perché è capitato qui dentro per colpa di Ponzio Pilato rispose Ivan fissando cupo il pavimento come? gridò l'ospite dimenticando la prudenza e si coperse la bocca con la mano che coincidenza sconvolgente la sopplico la sopplico mi racconti Ivan che senza saperne il perché sentiva fiducia nello sconosciuto cominciò a raccontare la storia degli stagli patriarce da prima pieno di timidezza tartagliando e poi con coraggio beh è tutto concluse Ivan con la faccia triste e offuscata dopo aver raccontato gli avvenimenti al Gribaiedov ed eccomi qui con compassione l'ospite mise la mano sulla spalla del povero poeta e disse così infelice poeta ma è lei caro amico che a colpa di tutto non doveva comportarsi con lui con tanta disinvoltura per non dire insolenza che adesso la sconta e può ancora dir grazie se se l'è cavata relativamente a buon mercato ma insomma chi è chiese Ivan scotendo i pugni con eccitazione e l'ospite lo fissò e rispose con un'altra domanda lei non perderà la calma noi tutti qua dentro siamo gente in fida non ci vorrà un intervento del medico una puntura o altri fastidi del genere no 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 esclamò Ivan ma mi dica solo chi è bene rispose l'ospite e disse in tono autorevole e staccando le parole ieri agli stagni patriarce lei ha incontrato Satana Ivan non perse la calma come aveva promesso però rimase sbalordito in sommo grado non è possibile non esiste per carità proprio lei me lo viene a dire è stato lei no uno dei primi a rimetterci per colpa sua lei come ben sa se ne sta rinchiusa in una clinica psichiatrica e continua a dire che non esiste è davvero strano Ivan sconcertato tacqui non appena si è messa a descrivermelo continuò l'ospite ho subito cominciato a indovinare con chi ha avuto il piacere di conversare ieri però mi sorprende Berlioz lei naturalmente è una mente vergine e l'ospite si scusò di nuovo ma Berlioz a quanto ne ho sentito dire almeno qualcosa aveva pur letto le prime parole di quel professore hanno dissipato ogni mio dubbio non si può non riconoscerlo amico mio del resto lei mi scusi ancora ma se non mi sbaglio lei è un ignorante senza dubbio ammise l'irriconoscibile Ivan vede ma perfino la faccia che mi ha descritta gli occhi disuguali le sopracciglie mi perdoni ma lei magari non ha neppure visto l'opera il Faust Ivan si vergognò terribilmente e con il volto in fiamme borbottò qualcosa circa un viaggio in una casa di riposo agli alta ecco lo dicevo non c'è di che stupirsi ma Berlioz ripeto mi sorprende non solo aveva letto molto ma era anche molto furbo anche se a sua difesa devo dire che Voland è in grado di buttare polvere negli occhi a gente ancora più furba come gridò a sua volta Ivan tacque per qualche istante e sconvolto fissando la luna che galleggiava oltre l'inferriata riprese allora poteva essere stato per davvero da Ponzio Pilato era già nato allora e mi danno del pazzo soggiunse Ivan indicando sdegnato la porta una piega amara si formò agli angoli della bocca dell'ospite guardiamo la verità in faccia volto il viso verso l'astro notturno che correva attraverso una nuvola sia lei che io siamo pazzi inutile negarlo vede lui l'ha sconvolto e le ha dato di volta il cervello perché lei evidentemente aveva una predisposizione tuttavia ciò che lei racconta è accaduto davvero non c'è alcun dubbio ma è talmente fuori dal comune che perfino Stravinsky psichiatra geniale naturalmente non le ha prestato fede l'ha esaminato Ivan annoì il suo interlocutore è stato da Pilato ha fatto colazione con Kant e adesso visita Mosca ma chissà che diavolerie combinerà bisogna pure acchiapparlo in qualche modo l'Ivan vecchio non ancora del tutto vinto sollevò la testa nell'Ivan nuovo anche se con qualche incertezza lei ha già provato e le basta replicò ironico l'ospite neanche agli altri consiglierei di tentare ma che ne combinerà delle belle e può star sicuro come mi dispiace che si sia incontrato con lei e non con me anche se nel mio animo tutto è bruciato e incenerito giuro che in cambio di quell'incontro avrei dato il mazzo di chiavi di Praskovia Fiedorovna perché non possiedo null'altro non ho niente e che bisogno ne ha per un po' l'ospite scosso da un tremito si chiuse nella sua tristezza ma infine disse vede che caso strano sono qui per lo stesso suo motivo cioè per colpa di Ponzio Pilato si voltò impaurito e poi riprese il fatto è che un anno fa ho scritto un romanzo su Pilato lei è scrittore chiese con interesse il poeta l'ospite l'ospite si incubì e minacciò Ivan col pugno e poi disse io sono un maestro si fece severo e trasse dalla tasca un berretto nero lucido dall'uso con una M ricamata in seta gialla si mise il berretto in testa e si mostrò a Ivan di fronte e di profilo per comprovare di essere un maestro me l'ha cucito con le sue stesse mani aggiunse con fare misterioso qual è il suo nome? non ho più nome rispose lo strano ospite con un cupo di sprezzo l'ho rifiutato come del resto ho rifiutato tutto nella vita scordiamocene mi dica almeno del romanzo pregò Ivan con delicatezza volentieri la mia vita bisogna dire cominciò l'ospite non si è svolta in modo del tutto comune laureato si in storia ancora due anni prima lavorava in un museo di Mosca facendo anche delle traduzioni e di che lingua lo interruppe Ivan interessato conosco cinque lingue oltre alla russa rispose l'ospite inglese francese tedesco latino e greco e leggo un po' di italiano accidenti sussurrò invidioso Ivan lo storico viveva solo non aveva parenti e quasi nessun conoscente a Mosca e un giorno figurati vinse centomila rubli si immagini il mio stupore sussurrava l'ospite dal berretto nero quando infilai la mano nel cesto della biancheria sporca e vidi lo stesso numero pubblicato sul giornale le obbligazioni me le avevano date al museo dopo che ebbe vinto centomila rubli si comportò in questo modo comperò dei libri e lasciò la sua camera sulla mia sniscaia un maledetto buco rugì affittò da un capomastro in un vicolo presso l'Arbat due camere nello scantinato di una casetta col giardino lasciò il lavoro del museo e cominciò a scrivere un romanzo su Ponzio Pilato oh era l'età dell'oro sussurrava il narratore con gli occhi scintillanti un appartamentino indipendente con il suo ingresso e nell'ingresso un lavandino e sottolineò con particolare orgoglio chissà poi perché le piccole finestrelle sopra il marciapiede che portava al cancello di fronte a due passi lungo la palizzata lì là tigli e un acero oh oh d'inverno molto raramente vedevo dalla finestra dei piedi neri e odivo il loro scricchiolio sulla neve nella stufa il fuoco era sempre acceso all'improvviso giunse la primavera continuò il maestro e attraverso i vetri torbidi io vi dice spugli del lilla da prima nudi e poi rivestiti di verde in quel periodo la primavera scorsa successe qualcosa di molto più meraviglioso che la vincita di centomila rubli eppure ne convenga si tratta di una somma enorme senz'altro riconobbe Ivan che ascoltava con attenzione avevo aperto la finestrella e me ne stavo nella seconda stanza che era piccola piccola l'ospite si mise a indicarne la pianta con le mani qui c'era un divano di fronte un altro divano in mezzo un tavolino e sopra una bellissima lampada più vicino alla finestra dei libri e qui una piccola scrivania invece nella prima stanza una stanza enorme quattordici metri libri e ancora libri e la stufa come ero sistemato bene e lì là un profumo straordinario e la mia testa diventava leggera dalla stanchezza e Pilato volava verso la fine il mantello bianco la fodera rossa capisco esclamò Ivan proprio così Pilato volava verso la fine verso la fine e sapevo già che le ultime parole del romanzo sarebbero state il quinto procuratore della giudea il cavaliere Ponzio Pilato beh naturalmente facevo delle passeggiate centomila rubli sono una somma enorme e avevo un vestito magnifico oppure andavo a mangiare in un ristorante a prezzo economico sull'Arbat c'era un ottimo ristorante non so se esista ancora gli occhi dell'ospite si spalancarono ed egli continuò a sussurrare guardando la luna lei aveva in mano orribili fiori gialli inquieti non so come si chiamino ma sono sempre i primi ad apparire a mosca questi fiori si stagliavano nettamente sul suo soprabito nero primaverile aveva fiori gialli un brutto colore dall'Atvirskaia svoltò in un vicolo e si voltò conosce l'Atvirskaia no? eh lungo l'Atvirskaia camminavano migliaia di persone ma le garantisco che essa vide me solo e mi guardò non dico preoccupata ma addirittura in un certo qual modo morboso e fui colpito non tanto dalla sua bellezza quanto dalla straordinaria mai vista solitudine dei suoi occhi obbediendo a quel richiamo giallo anch'io svoltai nel vicolo e la seguì camminavamo in silenzio lungo il vicolo triste e storto io da un lato lei dall'altro e si figuri che non c'era anima viva mi tormentavo perché mi sembrava che fosse necessario parlarle e tenevo che non sarei riuscita a pronunciare neppure una parola e lei se ne sarebbe andata e non l'avrei mai più rivista e si immagini a un tratto fu lei a parlare le piacciono i miei fiori mi ricordo chiaramente il suono della sua voce alquanto bassa ma con brusche variazioni di tono e sciocco lo so parve che un eco risuonasse nel vicolo e si ripercuotesse nel muro giallo e sporco passai in fretta sull'altro marciapiede e avvicinandomi a lei risposi no mi guardò a sorpresa e di colpo in modo del tutto inatteso sentì che per tutta la vita avevo amato proprio quella donna che storia lei dirà naturalmente che sono pazzo non dico niente esclamò Ivan e soggiunse la sopplico continui e l'ospite continuò sì mi fissò sorpresa e poi dopo avermi fissato chiese non le piacciono i fiori nella sua voce mi parve di sentire dell'ostilità le camminavo accanto cercando di tenere il passo e con mio grande stupore non mi sentivo affatto imbarazzato no mi piacciono i fiori ma non questi dissi e quali le piacciono le rose o rimpiansi le mie parole perché lei aveva un sorriso contrito e gettò i suoi fiori nel rigagnolo li raccattai un po' confuso e glieli porsi ma lei sorridendo li respinse ed essi mi rimasero in mano camminammo così silenziose per un po' finché lei non mi tolse i fiori di mano e li gettò sul selciato e poi infilò sotto il mio braccio la mano col guanto nero svasato e proseguimmo vicini quello che successe poi lo può indovinare lei stesso disse il maestro Ivanna e inaspettatamente si asciugò una lacrima con la manica destra e proseguì l'amore ci si parò dinnanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo quasi uscisse dalla terra e ci colpì subito entrambi così colpisce il fulmine così colpisce un coltello a serramanico del resto lei affermava in seguito che non era così e che ci amavamo da molto tempo pur senza esserci mai visti eppur vivendo lei con un altro e io allora con quella come si chiama con chi? chiese Biesnomni con quella ma sì quella quella rispose l'ospite schioccando le dita lei era sposato ma sì perché crede che schiocchi le dita con quella Varenschka Manecchka no Varenschka il vestito a strisce il museo ma non ricordo ebbene lei diceva che con quei fiori gialli in mano era uscita quel giorno perché io la potessi finalmente incontrare e che se questo non fosse avvenuto si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota sì l'amore ci colpì in un valino lo sapevo già quel giorno dopo un'ora mentre eravamo senza accorgerci dell'esistenza della città sul lungo fiume sotto le mura del Cremlino parlavamo come se ci fossimo lasciati il giorno prima come se ci conoscessimo da molti anni ci accordammo per trovarci l'indomani nello stesso posto sulla Moscova e ci incontrammo il sole di maggio splendeva per noi e ben presto quella donna divenne la mia moglie segreta veniva da me quotidianamente di giorno e ad aspettarla io cominciavo sin dal mattino questa attesa si manifestava col fatto che spostavo gli oggetti sul tavolo nessuno sapeva del nostro legame glielo garantisco anche se questo non succede mai non lo sapeva suo marito non lo sapevano i conoscenti nella vecchia casetta dove possedevo quello scantinato naturalmente sapevano vedevano che mi veniva a trovare una donna ma non ne conoscevano il nome e chi è? chiese Ivan interessato in sommo grado a quella storia d'amore l'ospite fece un gesto a significare che non l'avrebbe mai detto a nessuno e e continuò il suo racconto Ivan seppe che il maestro e la sconosciuta si amavano talmente che divennero assolutamente inseparabili Ivan ora si immaginava con chiarezza le due camere dello scantinato della casetta dove regnava sempre il crepuscolo a causa degli là e della palizzata i logori mobili di Mogano lo scrittoio con l'orologio che suonava ogni mezz'ora i libri i libri che andavano dal pavimento di legno lucido fino al soffitto annerito dal fumo e la stufa Ivan apprese che sin dai primi giorni della loro relazione il suo ospite e la moglie segreta erano venuti alla conclusione che a farli incontrare all'angolo della Tvierskaya con il vicolo era stato il destino e che erano stati creati eternamente l'uno per l'altro dal racconto dell'ospite Ivan apprese anche come gli innamorati trascorsero le loro giornate appena arrivava lei si infilava un grembiule e nello stretto ingresso dove si trovava il lavandino di cui il povero malato era tanto fiero accendeva sul tavolo di legno il fornellino a petrolio e preparava la colazione e la serviva nella prima stanza sul tavolo ovale quando scoppiavano i temporali di maggio e davanti alle finestre poco luminose l'acqua scorreva rumorosa nel portone minacciando di inondare l'ultimo rifugio gli innamorati accendevano la stufa e vi facevano cuocere le patate nella cenere dalle patate si alzavano nubi di vapore la buccia nera sporcava le loro dita e nello scantinato si udivano risate e nel giardino gli alberi dopo la pioggia si scrollavano di dosso i ramoscelli spezzati e grappoli di fiori bianchi quando finirono i temporali e giunse la fosa estate nel vaso apparvero le rose tanto attese e amate da entrambi colui che si chiamava maestro lavorava febbrilmente al suo romanzo e questo romanzo assorbì anche la sconosciuta davvero a volte nero geloso sussurrava l'ospite notturno arrivato dal balcone illuminato dalla luna con le dita sottili dalle unghie appuntite affondate nei capelli lei lei rileggeva senza fine la parte già scritta e dopo averla letta cuciva quel berreto a volte si accoccolava accanto agli scaffali inferiori oppure stava ritta presso quelli superiori con uno straccio spolverava centinaia di libri gli annunciava la gloria lo spronava e fu allora che cominciò a chiamarlo maestro aspettava con impazienza le ultime parole già promesse sul quinto procuratore della giudea ripeteva a voce alta cantinellando singole frasi che le piacevano e diceva che in quel romanzo c'era la sua vita fu terminato in agosto e consegnato a una dattilografa sconosciuta che lo battè in cinque copie e infine chiunse l'ora di abbandonare il rifugio segreto e di entrare nella vita entrai nella vita col romanzo in mano e fu allora che la mia vita finì sussurrò il maestro chinando il capo e a lungo ondeggiò col mesto berretto nero con la lettera gialla M riprese il suo racconto ma questo divenne così sconclusionato che Ivan poté capire solo che all'ospite era successa una catastrofe capitavo per la prima volta nel mondo della letteratura ma ora che tutto è finito e che la mia rovina è un fatto compiuto lo ricordo con orrore sussurrò solennemente il maestro e alzò la mano sì mi colpì profondamente oh come mi colpì chi sussurrò Ivan con una voce appena percettibile temendo di interrompere l'eccitato narratore il direttore della rivista le sto dicendo il direttore sì sì lo lesse mi guardava come se avesse una guancia gonfia per un ascesso svirciava un angolo e ridacchiava persino con imbarazzo spiegazzava senza una ragione il manoscritto e tossicchiava le domande che mi faceva mi sembrarono pazzesche senza dir niente in sostanza sul romanzo mi chiese chi fossi e da dove venissi e se scrivessi da molto tempo e perché non avessero mai parlato di me prima mi fece persino una domanda secondo me assolutamente idiota chi mi aveva suggerito di scrivere un romanzo su un soggetto così strano alla fine mi stufò e gli chiesi a bruciapelo se intendeva o no pubblicare il libro cominciò allora a dimenarsi a abbalbettare qualcosa e dichiarò che non poteva prendersi la responsabilità di una decisione e che altri membri della redazione avrebbero dovuto leggere il mio lavoro e precisamente i critici Latunschki e Armand e il letterato Lavrovic mi pregò di tornare dopo due settimane io lo feci e fui accolto da una ragazza che aveva gli occhi strabici a furia di mentire è la Lapsiennikova segretaria di redazione disse sghinezzando Ivan che conosceva molto bene quel mondo descritto con tanta ironia dal suo ospite ah può darsi lo interruppe l'altro ebbene mi restituì il mio romanzo piuttosto stazzonato e unto cercando di fare in modo che i suoi occhi non incontrassero i miei la Lapsiennikova mi comunicò che la redazione aveva i programmi al completo per i due anni successivi per cui il problema della pubblicazione del mio romanzo come si espresse lei veniva meno che altro ricordo dopo? murmurava il maestro fregandosi le tempie sì i petali rossi caduti sulla prima pagina gli occhi della mia compagna sì quegli occhi li ricordo il racconto il racconto dell'ospite diventava sempre più confuso sempre più pieno di reticenze e parlava di una pioggia che cadeva a svembo e di disperazione nell'ospitale scantinato ricordava di essersi recato in un posto sussurrava con voce rotta che non accusava affatto qualei che lo aveva spinto alla lotta no no non l'accusava poi come ebbe a udire Ivan successe qualcosa di improvviso e di strano un giorno l'autore aprì un giornale e vi trovò un articolo del critico Arriman intitolato un attacco del nemico dove questi avvertiva ogni lettore che lui cioè il nostro eroe aveva fatto il tentativo di far passare un'apologia di Gesù Cristo ah sì ricordo ricordo esclamò Ivan ma ho dimenticato il suo nome ripeto lasciamolo stare non ho più un nome rispose l'ospite non si tratta di questo il giorno successivo in un altro giornale apparve affirma Lavrovic ancora un articolo in cui l'autore proponeva di colpire e di colpire forte il pilatismo e il baciapile che aveva avuto l'idea di farlo passare rimasto di stucco per l'inaudita parola pilatismo aprì un terzo giornale qui vi erano due articoli uno di Latunschki l'altro firmato con la sigla n.e. le assicuro che i parti critici di Ariman e di Lavrovic potevano essere considerati uno scherzo in confronto a quello che aveva scritto Latunschki le basterà sapere che il suo articolo era intitolato un vecchio credente vellicoso ero talmente preso dalla lettura di questi articoli dedicati alla mia persona che non mi accorsi avevo dimenticato di chiudere la porta come lei mi sorse davanti con in mano un ombrello bagnato e i giornali pure bagnati i suoi occhi lanciavano fiamme le mani le tremavano ed erano fredde prima si slanciò a baciarmi poi con voce rauca dando un pugno sul tavolo disse che avrebbe avvelenato Latunschki giunsero tristi giornate autunnali continuò l'ospite la mostruosa sfortuna di quel romanzo sembrava mi avesse tolto una parte dell'anima in sostanza non avevo più nulla da fare e vivevo da un appuntamento all'altro fu allora che qualcosa mi successe e il diavolo sa che cosa ma Stravinsky deve averlo capito da tempo cioè mi piombò addosso l'angoscia e ebbe strani presentimenti noti che gli articoli non cessavano dei primi ridevo ma più ne apparivano più il mio atteggiamento verso di essi cambiava il secondo stadio fu quello dello stupore in ogni riga di quegli articoli si sentiva qualcosa di estremamente falso e incerto nonostante il loro tono minaccioso e insicuro mi sembrava sempre non riusciva a togliermi questo pensiero che gli autori di quegli articoli dicessero cose diverse da quelle che avrebbero voluto dire e che proprio questo suscitasse la loro furia poi capisce giunse il terzo stadio quello della paura no non paura di quelle recensioni mi creda ma paura di fronte ad altre cose che non riguardavano assolutamente né gli articoli né il romanzo così ad esempio cominciai a temere l'oscurità insomma era cominciata la fase dell'alienazione mi sembrava soprattutto quando stavo per addormentarmi che una piovra agilissima e gelida avvicinasse furtivamente i suoi tentacoli al mio cuore nudo senza sbagliare un colpo dovete dormire con la luce accesa la mia compagna era molto cambiata non le parlavo naturalmente della piovra ma lei vedeva che mi stava succedendo qualcosa di strano era dimagrita impallidita non rideva più e mi chiedeva continuamente perdono per avermi consigliato di tentare la pubblicazione diceva che dovevo lasciare ogni cosa per andare sul mar nero spendendo per il mio viaggio tutto quello che mi era rimasto dei centomila rubli insisteva molto e per non discutere qualcosa mi diceva che non sarei mai riuscito ad andare sul mar nero io le promisi di farlo nei prossimi giorni ma lei disse che mi avrebbe comperato il biglietto presi allora tutto il denaro che mi restava cioè diecimila rubli e glieli diedi perché me ne dai tanti si stupì dissi pressa poco che tenevo i ladri e la pregavo di custodirmi il denaro fino alla mia partenza lei lo prese lo mise nella borsetta e mi baciò dicendo che le sarebbe stato più facile morire che abbandonarmi solo in questo stato ma che era aspettata e che si rassegnava alla necessità e che sarebbe venuta all'indomani e mi supplicò di non temere nulla era un crepuscolo di metà ottobre lei se ne andò mi coricai sul divano e mi addormentai senza accendere la lampadina mi svegliai per la sensazione che la piovra era lì e tastando nell'oscurità a fatica accesi la luce l'orologio da tasca segnava le due di notte mi ero coricato con un principio di malattia mi svegliai malato del tutto mi parvi a un tratto che l'oscurità autunnale avrebbe sfondato i vetri si sarebbe riversata nella stanza io vi sarei annegato come nell'inchiostro mi alzai come un uomo che non è più padrone di se stesso gridai mi venne l'idea di correre da qualcuno magari al piano di sopra dal capomastro e lottavo come un folle con me stesso e mi bastarono le forze per arrivare alla stufa e accendervi la legna e quando questa cominciò a crepitare e lo sportello a vibrare mi sembrò di stare un po' meglio mi precipitai in anticamera vi accesi la luce trovai una bottiglia di vino bianco la storai e cominciai a bere garganella questo diminuì un po' la mia paura almeno abbastanza perché non corressi dal capomastro e ritornai alla stufa aprì lo sportello in modo che il calore uscendo cominciò a bruciarmi il viso e le mani e sussurrai indovina che sono nei guai vieni 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 ma nessuno veniva nella stufa rombava il fuoco le finestre erano flagellate dalla pioggia allora avvenne l'ultimo atto tolsi dal cassetto del tavolo le pesanti copie del romanzo e i quaderni di appunti e cominciai a bruciarli oh era difficilissimo perché la carta scritta non brucia volentieri spezzandomi le unghie laceravo i quaderni li ponevo ritti tra i pezzi di legno e ne scotevo le pagine con l'attizzatoio a volte la cenera vinceva spegneva le fiamme ma io continuavo a lottare il romanzo pur difendendosi tenacemente periva le parole familiari mi balenavano davanti un giallore saliva irresistibile lungo le pagine eppure le frasi trasparivano ancora scomparivano soltanto quando la carta sanneriva e con l'attizzatoio dava loro furiosamente il colpo di grazia in quel momento grattarono alla finestra il mio cuore sobbalzò e affondato l'ultimo quaderno nel fuoco mi precipitai ad aprire alcuni gradini di mattoni portavano dallo scantinato alla porta del cortile io corsi verso di lei inciampando e chiesi sottovoce chi è e la voce la sua voce mi rispose sono io non ricordo come riuscì a maneggiare la catenella e la chiave non appena ebbe fatto un passo nell'interno si estrense a me tutta bagnata con le guance bagnate e i capelli disfatti tremante riuscì a pronunciare solo tu tu la mia voce si spezzò e e corremmo da basso in anticamera si tolse il cappotto ed entrammo in fretta nella prima stanza con un grido lieve trasse dalla stufa e buttò sul pavimento con le mani nude l'ultimo residuo una pila di fogli che cominciava a bruciare dal basso il fumo riempì subito la stanza e pestai il fuoco con i piedi mentre lei si buttò riversa sul divano e scoppiò in un pianto convulso è irresistibile e quando si calmò disse ho preso in odio a questo romanzo ho paura sono malato ho terrore e si alzò e parlò di io come sei malato perché perché eh ma io ti salverò ti salverò che cos'è tutto questo io vedevo i suoi occhi gonfi per il pianto e il fumo e sentivo le sue mani fredde accarezzarmi la fronte ti guarirò sai ti guarirò mormorava mormorava stringendomi le spalle lo scriverai di nuovo perché non ne ho tenuta una copia e dirignò i denti dalla rabbia disse altre cose incomprensibili e poi stringendo le labbra si mise a raccogliere e stirare i fogli bruciacchiati era un capitolo centrale nel romanzo non ricordo più quale raccolse con cura i fogli li avvolse in un pezzo di carta e li legò con un nastro tutte le sue azioni mostravano che era piena di risolutezza e ormai padrona di sé chiese del vino e dopo averne bevuto parlò con più calma ecco come si ripagano le menzogne diceva non voglio più mentire rimarai con te anche subito ma ma non vorrei farlo in questo modo non vorrei che a lui resti per sempre il ricordo che sono scappata di casa di notte non mi ha mai fatto un torto è stato chiamato all'improvviso per un incendio scoppiato nella fabbrica dove lavora ma tornerà presto avrò una spiegazione con lui domattina dirò che amo un altro e tornerò da te per sempre rispondimi forse non vuoi povera cara cara le dissi io non ti permetterò di farlo con me starai male e io non voglio che tu perisca con me e questo è l'unico motivo chiese avvicinando i suoi occhi ai miei l'unico oh si animostra ordinariamente si strense a me abbracciandomi il collo e disse perisco con te domattina sarò da te ecco l'ultima cosa della mia vita che io ricordi è una striscia di luce della mia anticamera e in questa striscia una ciocca di capelli soddisfatta il suo berretto e i suoi occhi pieni di risolutezza ricordo anche la sagoma nera sulla soglia della porta esterna e il pacchetto bianco ti accompagnerei ma non ho più la forza di tornare indietro da solo ho paura non avere paura abbi pazienza solo per poche ore domattina sarò da te queste furono le sue ultime parole nella mia vita l'ammalato si interrompe all'improvviso e alzò il dito è inquieta questa notte di luna e scomparve sul balcone Ivan udì una lettiga a passare in corridoio qualcuno si igniozzò o gemette l'ospite stava per aprire la bocca ma la notte era davvero movimentata si sentirono ancora delle voci nel corridoio e il visitatore cominciò a parlare all'orecchio di Ivan così piano che il suo racconto fu sentito soltanto dal poeta ad eccezione della prima frase un quarto d'ora dopo che mi ebbe lasciato bussarono alla mia finestra ciò che il malato sussurrava all'orecchio di Ivan gli causava evidentemente una profonda emozione delle contrazioni alteravano continuamente il suo viso nei suoi occhi alleggiavano e si agitavano la paura e il furore il narratore puntava la mano in direzione della luna che da tempo aveva abbandonato il balcone solo quando dall'esterno cessarono di arrivare i rumori l'ospite si scostò da Ivan e parlò con voce più forte sì e allora a metà gennaio di notte con quello stesso soprabito che avevo ormai i bottoni strappati mi rannicchiavo dal freddo nel mio cortile dietro di me mucchi di neve avevano coperto i lillà davanti a me e sotto c'erano le mie finestre coperte dalle tende e debolmente illuminate mi appoggiai alla prima e stetti in ascolto nelle mie stanze suonava un grammofono fu la sola cosa che udì ma non riuscii a vedere nulla rimasi lì un po' quindi uscii dal cancello nel vicolo mi soffiava la tormenta mi spaventò un cane che mi si buttò sotto i piedi e per sfuggirlo attraversai di corsa la strada il freddo e la paura che era diventata la mia compagna inseparabile mi portavano all'esasperazione non avevo dove andare la cosa più semplice naturalmente sarebbe stata buttarmi sotto uno dei tram che transitavano nella via in cui sboccava il mio vicolo da lontano vedevo quei cassoni ricoperti di ghiaccio e pieni di luce e udivo il loro ripugnante stridore nel cielo ma caro mio vicino il fatto era che la paura dominava ogni cellula del mio corpo e come temevo il cane temevo anche il tram sì in questo edificio non c'è malattia peggiore della mia glielo assicuro poteva ben farglielo sapere disse Ivan pieno di compassione per il povero ammalato inoltre il suo denaro non ce l'ha lei glielo avrà conservato no non dubiti certo che l'ha conservato ma si vede che lei non mi capisce o meglio io ho perso la capacità che possedevo un tempo di descrivere le cose del resto non mi dispiace molto perché non ne avrò più bisogno si troverebbe davanti e l'ospite guardò con venerazione il buio della notte una lettera dal manicomio mi dica lei se si può mandare una lettera quando si ha un indirizzo del genere un malato di mente lei scherza amico mio renderla infelice no non ne sono capace Ivan non seppe replicare ma muto compativa l'ospite ne sentiva pietà e quelli tormentato dai ricordi scuoteva la testa coperta dal berretto nero e diceva povera donna del resto spero che mi abbia dimenticato ma lei può guarire disse con timidezza Ivan sono inguaribile rispose calmo l'ospite quando Stravinsky dice che mi restituirà alla vita io non gli credo è pieno d'umanità e vuole semplicemente consolarmi non voglio negare peraltro di stare meglio adesso ah ah sì e dove ero rimasto ah il gelo quei tram che filavano sapevo che avevano già aperto questa clinica e attraversai la città a piedi per venirci follia sarei certamente morto congelato nella campagna ma un caso mi salvò un camion aveva avuto un guasto io mi avvicinai all'autista era circa quattro chilometri oltre la cinta d'Aziaria e con mia grande sorpresa egli ebbe pietà di me la macchina era diretta alla clinica e mi diede un passaggio me la cavai con un congelamento delle dita del piede sinistro ma me lo guarirono e adesso sono qui da oltre tre mesi sa trovo che qui non ci si sta poi tanto male non bisogna proporsi piani grandiosi oh caro vicino io ad esempio volevo fare il giro del mondo si vede che non è il mio destino conosco solo un piccolissimo pezzetto di mondo penso che non sia il migliore ma ripeto non è poi male adesso arriva l'estate e sul balcone ci sarà l'edera le chiavi hanno allargato le mie possibilità di notte ci sarà la luna oh oh se n'è andata fa fresco eh è ormai mezzanotte passata e ora che io vada mi dica cos'è successo poi a Yeshua e a Pilato chiese Ivan la supplico lo voglio sapere oh no 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 rispose l'ospite con una smorfia di dolore non posso ricordare il mio romanzo senza rabbrivedire il suo conoscente dei patriarci lo farebbe meglio di me grazie della conversazione e arrivederci e prima che Ivan reagisse l'inferiata si rinchiuse con un lieve tintinio e l'ospite sparì seguimi lettore che ti ha detto che non c'è al mondo un amore vero fedele e eterno gli taglino la lingua malefica a quel bugiardo seguimi lettore mio seguimi solo e io ti mostrerò un simile amore no si ingannava il maestro quando all'ospedale verso mezzanotte diceva con amarezza a Ivanushka che essa l'aveva dimenticato questo non poteva accadere lei naturalmente non l'aveva dimenticato sveleremo prima di tutto un segreto che il maestro non aveva voluto svelare a Ivanushka la sua amante si chiamava Margherita Nikolaevna tutto quello che egli aveva detto di lei al povero poeta era la pura verità aveva descritto fedelmente la sua diletta essa era bella e intelligente a questo va aggiunto qualcos'altro si può dire con sicurezza che molte donne avrebbero dato qualunque cosa per scambiare la loro sorte con quella di Margherita Nikolaevna trentenne senza figli era la moglie di un insigne specialista il quale inoltre aveva fatto una grandissima scoperta di importanza nazionale era un uomo giovane bello onesto e adorava sua moglie e Margherita Nikolaevna e il marito occupavano da soli tutto il piano superiore di una bellissima palazzina con giardino in uno dei vicoli vicino all'Arbat o un sito incantevole chiunque potrà convincersene se vorrà recarsi in quel giardino basterà rivolgersi a me gli darò l'indirizzo gli insegnerò la strada la palazzina è tuttora intatta Margherita Nikolaevna non era accorto di quattrini e poteva comprarsi tutto quello che voleva fra i conoscenti di suo marito c'erano anche degli uomini interessanti Margherita Nikolaevna non toccava mai il fornello a petrolio non sapeva quanto fosse orribile la vita in un appartamento in comune insomma era una donna felice no nemmeno per un minuto da quando a 19 anni si era sposata ed era andata a vivere nella palazzina non aveva conosciuto la felicità oh numi di che cosa dunque aveva bisogno quella donna di che cosa aveva bisogno quella donna nei cui occhi ardeva sempre un incomprensibile focherello di che cosa aveva bisogno quella strega lievemente strabica da un occhio che in quella primavera si era adornata di mimose non lo so lo ignoro evidentemente essa diceva la verità aveva bisogno di lui del maestro e non di una palazzina gotica né di un giardino particolare né di quattrini essa lo amava e diceva la verità anche a me narratore veridico ma persona estranea si stringe il cuore pensando a quel che provò Margherita quando arrivò il giorno dopo nella casetta del maestro senza aver potuto per fortuna parlare col marito che non era tornato allora stabilita e apprese che il maestro non c'era più essa fece di tutto per sapere qualcosa di lui e naturalmente non riuscì a scoprire nulla allora ritornò alla palazzina e qui riprese a vivere ma non appena scomparve la neve sudicia dai marciapiedi e dai selciati non appena dallo sportellino della finestra entrò il primo soffio di vento primaverile umidiccio e inquieto Margherita Nicolaevna si sentì più depressa che durante l'inverno spesso piangeva di nascosto un lungo amaro pianto non sapeva se amava un vivo o un morto e più passavano i giorni desolati tanto più spesso e soprattutto al crepuscolo le veniva da pensare che era legata a un morto bisognava che lo dimenticasse o morisse a sua volta non poteva infatti continuare a far quella vita non poteva dimenticarlo a ogni costo dimenticarlo ma lui non si lasciava dimenticare questo era il guaio sì 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 questo fu lo sbaglio diceva Margherita seduta davanti alla stufa e guardando il fuoco acceso in memoria di quello che ardeva ai tempi in cui egli scriveva a Ponzio Pilato perché andai via da lui quella notte perché fu una vera pazzia io tornai il giorno dopo lealmente come avevo promesso ma era tardi ormai sì tornai come l'infelice Levi Matteo troppo tardi beh tutti questi discorsi erano naturalmente assurdi perché e diciamo la verità che cosa sarebbe cambiato se quella notte essa fosse rimasta dal maestro l'avrebbe forse salvato che idea ridicola esclameremmo noi ma non lo faremo di fronte a una donna ridotta alla disperazione il giorno stesso in cui successe tutto l'assurdo scompiglio provocato dall'arrivo del mago nero a Mosca il venerdì in cui lo zio di Berlioz fu spedito indietro a Kiev in cui fu arrestato il ragioniere e accaddero tante altre cose stupide e incomprensibili Margherita si destò verso mezzogiorno nella sua camera da letto in cui c'era un bovindo che terminava con la torre della palazzina a suo risveglio Margherita non scoppiò a piangere come le succedeva spesso già che si era svegliata col presentimento che quel giorno finalmente qualcosa sarebbe avvenuto appena fu conscia di questo presentimento si diede a scaldarlo e alimentarlo nella sua anima per timore che esso lo abbandonasse ci credo sussurrava solennemente Margherita ci credo qualcosa accadrà non può non accadere poiché infatti per qual motivo dovrei essere condannata a un tormento che dura tutta la vita riconosco d'aver mentito e ingannato d'aver vissuto una vita segreta celata alla gente ma non si può punirmi per questo così crudelmente qualcosa accadrà di sicuro giacché è impossibile che qualcosa duri in eterno e inoltre il mio era un sogno profetico questo lo garantisco così sussurrava Margherita Nikolaevna mentre guardava le tende color rosso acceso inondate dal sole si vestiva febbrilmente si pettinava davanti allo specchio a tre luci i corti capelli arricciati il sogno che Margherita aveva fatto quella notte era veramente insolito è un fatto che durante il suo martirio invernale essa non aveva mai sognato il maestro di notte la lasciava ed essa si tormentava soltanto durante le ore diurne ma quella volta l'aveva sognato Margherita aveva sognato un sito sconosciuto desolato triste sotto il cielo fosco della primavera precoce aveva sognato quel cielo grigionnolo pezzato di nuvole trascorrenti e sotto uno stormo silenzioso di cornacchi un piccolo ponte rozzo sotto di esso un torbido fiumicello primaverile alberi malinconici stenti semispogli una tremula solitaria e più lontano fra gli alberi al di là di un orto una casupola di tronchi o forse una cucina isolata oppure un capanno da bagno o sa il diavolo che cosa tutto intorno un non so che di morto e di così triste che veniva voglia di impiccarsi a quella tremula vicino al ponticello che sito infernale per una persona viva ed ecco figuratevi si spalanca la porta di questo edificio di tronchi e appare lui è piuttosto lontano ma chiaramente visibile è lacero non si riesce a capire che cosa indossi ha i capelli arruffati la barba lunga occhi da ammalato pieni d'apprensione le fa un cenno con la mano la chiama soffocando nell'aria morta Margherita corse sulle zolle verso di lui e in quel momento si destò questo sogno significa soltanto due cose ragionava fra sé Margherita Nikolaevna se è morto e mi faceva cenno significa che è venuto a prendermi e che presto morrò o sarebbe una bella cosa perché così avrei finito di soffrire oppure vivo e allora il sogno può significare una cosa sola che gli si ricorda di me vuol dire che ci rivedremo ancora sì 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 ci rivedremo molto presto in quello in quello stesso stato di eccitazione questo appartamento questo appartamento che a Mosca e che al primo di essi aprì il cassetto inferiore e di sotto a un mucchio di ritagli di seta trasse l'unica cosa preziosa che possedesse nella vita fra le mani di Margherita comparve così un vecchio album di pelle bruna in cui c'era una fotografia del maestro un libretto di risparmio con deposito di diecimila rubli intestato a lui i petali di una rosa secca appiattiti in mezzo a fogliette di carta velina e un pezzo di quaderno tutto un quinterno scritto a macchina e col margine inferiore bruciacchiato tornata con queste ricchezze nella sua camera da letto Margherita Nicolaevna collocò le foto sullo specchio a tre luci e rimase seduta circa un'ora tenendo sulle ginocchia il quaderno rovinato dal fuoco sfogliandolo e leggendo quello che dopo la bruciatura non aveva né capo né coda le tenebre venute dal mediterraneo coprirono la città odiata dal procuratore scomparvero i ponti sospesi che univano il tempio alla terribile torre Antonia calò dal cielo un gorgo che sommerse gli dei alati sopra l'ippodromo il palazzo degli asmonei con le sue feritoie i mercati i caravanserragli i vicoli gli stagni sparì Yerushalayim la grande città come se non fosse mai esistita o margarita avrebbe voluto leggere più avanti ma più avanti non c'era nulla all'infuori di una frangia disuguale carbonizzata asciugandosi gli occhi margarita Nicolaivana depose il quaderno appoggiò i gommiti sul tavolinetto che reggeva la specchiera e riflessa nello specchio rimase a lungo seduta senza staccare gli occhi dalla fotografia poi le lacrime si esaurirono margarita rimise insieme accuratamente i suoi averi e pochi minuti dopo erano di nuovo sepolti sotto gli straccetti di seta e la serratura si chiuse risonando nella stanza buia margarita Nicolaievna indossò il mantello nell'ingresso per andare a passeggio la bella Natascia la sua cameriera chiese che cosa doveva preparare come secondo piatto e ricevuta la risposta che ciò era indifferente tanto per divertirsi avviò un discorso con la sua padrona e si mise a raccontare cose inaudite per esempio che la sera prima al teatro un prestigiatore aveva eseguito certi giochi per cui tutti erano rimasti di stucco aveva distribuito gratis a ognuno due boccette di profumo importato dall'estero e calze ma poi finito lo spettacolo il pubblico era uscito nella via e tacchete tutti erano apparsi nudi margherita nicolaivana si lasciò cadere sulla sedia sotto lo specchio dell'anticamera e scoppiò a ridere di gusto natacia via ma come non si vergogna diceva margherita nicolaivana una ragazza istruita intelligente come lei mentre fanno la coda raccontano tante di quelle frottole e lei le ripete natacia rossia replicò tutta infervorata che nessuno aveva raccontato frottole e che lei stessa quel giorno aveva vista con i suoi occhi nella drogheria sull'arvat una signora che era entrata nel negozio con le scarpe e mentre pagava la cassa le scarpe le erano scomparse dai piedi ed era rimasta con le sole calze aveva sgranato gli occhi nel calcagno c'era un buco ed erano scarpe fatate provenienti da quello stesso spettacolo e se n'è andata via così? sì se n'è andata via così gridò natacia arrossendo sempre di più perché non le credevano e ieri notte margherita nicolaivana la polizia ha messo dentro un centinaio di persone dopo quello spettacolo c'erano delle signore che correvano per la Vietvierskaia con le sole mutandine addosso questo naturalmente l'avrà raccontato Daria disse margherita nicolaivana o da un pezzo mi sono accorta che è una gran bugiarda il comico discorso terminò con una sorpresa piacevole per natasha margherita nicolaivana andò in camera da letto e ne uscì tenendo in mano un paio di calze e un flacone d'acqua di colonia dicendo a natasha che anche lei voleva fare un gioco di prestigio margherita nicolaivana le regalò sia le calze che la boccetta e disse che la pregava di una cosa sola di non correre in calze per la tverscaia e di non dar retta a Daria dopo essersi abbracciate e baciate padrona e cameriera si separarono appoggiata al comodo soffice schienale della poltrona del filobus margherita nicolaivana procedeva lungo l'arbat e a tratti pensava ai casi suoi e a tratti porgeva l'orecchio a quel che si bisbigliavano due signori seduti davanti a lei ma quei due che si voltavano ogni tanto per timore che qualcuno li sentisse si sussurravano una storia assurda il tipo robusto bene in carne dai rispiocchietti porcini seduto accanto al finestrino parlava sottovoce col suo piccolo vicino di una bara che avevano dovuto chiudere con un panno nero ma non può essere sussurrava il piccoletto svalordito è una cosa inaudita e che ha fatto geldibin in mezzo al rombo uniforme del filobus si sentiva dire dal finestrino istruttoria penale uno scandalo insomma un vero mistero con quei pezzetti frammentari margherita nicolaivana mise insieme alla meglio qualcosa di coerente i due si sussurravano la storia di un defunto di cui però non facevano il nome al quale quel mattino avevano rubato la testa dalla bara era questo il motivo per cui ora quello stesso geldibin era così turbato e anche quei due che vi sbigliavano in filobus dovevano avere a che fare col defunto derubato della testa avremo il tempo di andare a comprare i fiori chiese il piccoletto preoccupato la cremazione è fissata per le due hai detto no? alla fine margherita nicolaivana si stancò di stare ad ascoltare quelle chiacchiere misteriose su una testa trafugata dalla bara e si rallegrò che fosse venuto per lei il momento di scendere pochi minuti dopo essa sedeva già su una panchina sotto il muro del cremlino in un posto dal quale poteva vedere il maneggio margherita socchiudeva gli occhi al sole smagliante ripensava al sogno della notte ricordava che esattamente un anno prima giorno per giorno e ora per ora essa sedeva su quella stessa panchina vicino a lui e proprio come allora la sua borsetta nera le stava accanto sulla panchina quel giorno egli non era lì vicino ma ciononostante margherita nicolaivana discorreva nel pensiero con lui se t'hanno mandato al confino perché non dai notizie di te dal confino si può scrivere non mi ami più no non so perché ma non ci credo dunque t'hanno mandato al confino e sei morto allora ti prego lasciami stare dammi finalmente la libertà di vivere di respirare l'aria margherita nicolaivana rispondeva lei stessa per lui sei libera ti trattengo forse e poi ribatteva no ma che risposta è questa no esci mi di mente allora diventerò libera la gente passava davanti a margherita nicolaivana un uomo sbirciò quella donna ben vestita attratto dalla sua bellezza e dalla sua solitudine tossicchiò e si accomodò all'estremità della panchina sulla quale sedeva margherita nicolaivana fattosi coraggio egli cominciò a dire indiscutibilmente fa bel tempo oggi ma margherita gli diede un'occhiata così cupa che gli si alzò e se ne andò eccoti un esempio disse mentalmente margherita a colui che la possedeva perché in fondo ho cacciato via da quell'uomo mi annoio e in quel don giovanni non c'era nulla di brutto eccetto forse quella stupida parola indiscutibilmente perché siedo come un barbagianni sola sotto il muro perché sono esclusa dalla vita si malinconi tutta e chino il capo sconsolata ma a questo punto un'ondata d'attesa e di eccitazione sì la stessa che al mattino le urtò ad un tratto il petto sì accadrà l'onda l'urtò una seconda volta e allora essa comprese che era un'onda sonora attraverso il rumore della città si udivano sempre più distinti i colpi di un tamburo e il suono di alcune trombe stonate che si avvicinavano apparve per primo un poliziotto a cavallo che andava al passo lungo la cancellata del giardino e dietro di lui altri tre a piedi poi un autocarro con la banda che avanzava lentamente e più lontano procedeva ad agio un autofurgone funebre aperto nuovo di zecca e sopra di esso una bara coperta di corone e agli angoli della piattaforma quattro persone in piedi tre uomini e una donna anche da lontano Margherita poteva notare che le persone che stavano nell'autofurgone funebre e accompagnavano il defunto nel suo ultimo viaggio avevano delle facce stranamente sconcertate questo valeva soprattutto per la signora in piedi lì nell'angolo posteriore sinistro del furgone sembrava che qualche segreto piccante gonfiasse dall'interno le guance di questa signora già di per sé paffute e che nei suoi occhietti sepolti nel grasso brillassero piccole luci equivoche si aveva l'impressione che da un momento all'altro la signora non potendo più resistere avrebbe ammiccato accennando al defunto e avrebbe detto se mai visto nulla di simile un vero mistero non meno sconcertate erano le facce delle trecento persone all'incirca che seguivano a piedi lentamente l'autofurgone funebre margherita seguiva con gli occhi il corteo e intanto porgeva orecchie alla lugubre crancassa che gli leguava in lontananza emettendo sempre lo stesso boom 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 e pensava che strano funerale e che tristezza mette addosso quel boom davvero io darei impegno l'anima al diavolo pur di riuscire a sapere se lui è vivo o no ma sarei curiosa di sapere chi portano a seppellire con quelle facce così strane Mikhail Aleksandrovich Berlioz disse accanto a lei una voce maschile un po' nasale presidente del Massolit margherita di Kolaivna stupita si voltò e vide sulla sua panchina un signore che evidentemente le si era seduto a fianco senza far rumore mentre essa si incantava a guardare il corteo e come è da presumere nella sua distrazione aveva formulato ad alta voce la sua ultima domanda il corteo nel frattempo si era soffermato trattenuto probabilmente dai semafori che aveva davanti già continuò lo sconosciuto la loro situazione è straordinaria accompagnano un morto e si chiedono soltanto dove si è andata a finire la sua testa che testa domandò margherita guardando attentamente il suo inatteso vicino il quale vicino risultò essere un individuo di piccola statura di pelo rosso fiamma con una zanna che fuoriusciva una camicia inamidata un vestito a righe di buona qualità scarpe basse di coppale e in testa una bombetta aveva una cravatta sgarciante ma quel che colpiva in lui era il fatto che dal taschino dove di solito gli uomini portano un fazzoletto o la stilografica spuntasse fuori un osso di pollo rosicchiato insomma spiegò il rosso voglia considerare che questa mattina nella sala del gribaiedoff hanno portato via dalla bara la testa del defunto ma com'è possibile chiese suo malgrado margherita ricordandosi in quel momento del bisbiglio in filobus lo sai il diavolo come rispose impertinentemente il rosso io però credo che non sarebbe male chiederlo a Begemot l'hanno sgraffignata con un'abilità straordinaria una cosa mai vista e quel che più conta è che non si capisce a chi e per quale uso possa servire quella testa per quanto assorta nei suoi pensieri margherita Nicolaivena fu tuttavia colpita dalle strane fandonie dello sconosciuto permetta esclamò un tratto quale Berlioz quello che oggi sui giornali già già sicché dunque sono letterati quelli che camminano dietro la bara chiese margherita e a un tratto digrignò i denti beh naturalmente lo sono e lei li conosce di vista sì tutti quanti rispose il rosso dica un po' presa a dire margherita e la sua voce si fece fioca non c'è fra di loro il critico Latjunski come potrebbe non esserci rispose il rosso è quello là l'ultimo della quarta fila quel biondino domandò margherita succhiudendo le palpebre biondo cedere vede quello che ha alzato gli occhi al cielo a quello che assomiglia un prete cattolico proprio lui margherita non chiese altro intenta com'era a esaminare Latjunski lei però come vedo riattaccò sorridendo il rosso lo odia quella Latjunski ce n'è ancora un altro che odio rispose margherita fra i denti ma non è interessante parlarne il corteo intanto era passato e dietro di esso cominciavano a sfilare delle automobili per lo più vuote certo ha ragione che c'è di interessante in questo margherita Nicolae a margherita si stupì lei mi conosce invece di rispondere il rosso si tolse la bombetta e la riacchiappò al volo un vero ceffo da malandrino pensò margherita guardando con attenzione il suo interlocutore occasionale io però non la conosco disse seccamente margherita e come potrebbe conoscermi invece io sono stato mandato da lei per un affaruccio margherita impallidi e si scostò bisogna cominciare subito da questo disse e non far tante chiacchiere a proposito di una testa tagliata lei mi vuole arrestare ah nemmeno per sogno esclamò il rosso ma le pare quando si attacca discorso con qualcuno è soltanto per arrestarlo secondo lei no ho semplicemente un affaruccio da proporle non ci capisco niente che affare il rosso si guardò attorno e disse misteriosamente mi hanno mandato a invitarla in casa di qualcuno per questa sera cosa va a far meticando in casa di chi di un illustrissimo straniero disse significativamente il rosso strizzando gli occhi margherita andò su tutte le furie è spuntato una nuova razza quella del ruffiano di strada disse alzandosi per andarsene ecco quel che si guadagna ad accettare certi incarichi esclamò il rosso offeso e brontolò dietro le spalle di margherita che se ne andava stupida ma scalzone replicò lei voltandosi e subito dopo udì dietro di sé la voce del rosso le tenebre venute dal mediterraneo copriranno la città odiata dal procuratore scomparvero i ponti sospesi che univano il tempio alla terribile torre Antonia sparì Jerusalim la grande città come se non fosse mai esistita così sparisca lei definitivamente col suo caderno bruciacchiato e la sua rosa secca lei che sta qui seduta da sola sulla panchina e lo sopplica di lasciarla in libertà di lasciare respirare l'aria di uscirle dalla memoria spiancandosi in viso Margherita tornò verso la panchina il rosso la guardava socchiudendo gli occhi non capisco nulla presa a dire sotto voce Margherita Nikolaevna o quanto ai foglietti era ancora possibile riuscire a scoprire a insinuarsi e spiare Natascia si è lasciata corrompere vero ma come ha fatto a conoscere i miei pensieri essa contrasse il viso in una smorfia di dolore e poi soggiunse mi dica chi è lei da che ufficio è stato mandato uffa che noia borbottò il rosso e alzò la voce scusi le ho pur detto che non vengo da parte di nessun ufficio si sieda per favore Margherita obbedì senza protestare ma non di meno mentre si sedeva domandò ancora una volta chi è lei e va bene mi chiamo Asasello ma comunque questo non le dice proprio nulla e non vuol dirmi come è venuto a sapere dei foglietti di quello che penso no non lo dico rispose asciutto Asasello lei però sa qualcosa di lui sussurrò Margherita con tono implorante diciamo che so la supplico dica una cosa sola è vivo non mi tormenti beh per vivo è vivo rispose a malincuore Asasello oh dio per favore niente pateni e niente strilli disse Asasello rannuvolandosi scusi scusi mormorò Margherita ormai soggiogata io naturalmente ero arrabbiata con lei ma ammetterà che quando si invita per la strada una donna ad andare da qualcuno non ho preconcetti le assicuro Margherita sorrise ora mestamente ma non vedo mai stranieri non ho nessuna voglia di frequentarli inoltre mio marito il mio dramma sta in questo che vivo con un uomo che non amo ma ritengo che sarebbe indegno rovinare la sua vita io da lui non ho mai avuto altro che bene Asasello ascoltò con visibile noia questo discorso sconclusionato e disse poi severamente la prego di star zitta un momentino Margherita tacque docilmente la invito da uno straniero che non è affatto pericoloso e nessuno al mondo saprà nulla di questa visita questo poi glielo garantisco e perché avrebbe bisogno di me disse Margherita con fare insinuante lo saprà in seguito capisco devo darmi a lui disse pensierosa Margherita a questa frase Asasello grugnì con un'espressione altera e rispose qualsiasi donna al mondo possa assicurarle sognerebbe di poterlo fare la faccia di Asasello si storse in un sogginio ma la deluderò questo non avverrà che cos'è questo straniero esclamò nel suo sgomento Margherita a voce così alta che coloro che passavano davanti alla panchina si voltarono verso di lei e quale interesse avrei ad andare da lui Asasello si chinò verso di lei e sussurrò molto significativamente beh un interesse molto grande lei approfitterebbe dell'occasione cosa esclamò Margherita e sgranò gli occhi se la capisco bene lei insinua che là potrei sapere qualcosa di lui Asasello annui col capo senza parlare andrò esclamò con forza Margherita e afferrò Asasello per il braccio andrò dovunque Asasello sbuffando dal sollievo si lasciò andare sullo schienale della panchina coprendo con la schiena la parola miura che vi era incisa a grosse lettere e disse ironicamente che gente difficile queste donne si ficcò le mani in tasca lungo le gambe perché ad esempio hanno mandato me per questa faccenda fosse venuto Bejamot lui ha tanto fascino Margherita disse con un sorriso forzato e amaro la smetta di mistificarmi e di tormentarmi con i suoi enigmi io sono un infelice e lei ne approfitta mi sto cacciando in uno strano pasticcio ma le giuro soltanto perché mi ci ha tirato lei con quel che ha detto di lui mi fanno girare la testa tutti quei misteri niente drammi niente drammi rispose a Zasello facendo le boccacce lei deve anche mettersi nei miei panni prendere a ceffoni un amministratore o sbatter fuori lo zio o sparare a qualcuno o qualche altra bazzicola dello stesso genere rientra nella mia vera specialità ma discorrere con donne innamorate questo poi no è già mezz'ora che cerco di persuaderla dunque ci andrà? sì ci andrò rispose semplicemente Margherita Nicolaio e allora favorisca prendere questo disse a Zasello e cavando di tasca una scatoletta d'oro rotonda la forse a Margherita con queste parole la nasconda però se no i passanti guarderanno o le farà comodo Margherita Nicolaievna negli ultimi sei mesi lei è parecchio invecchiata dal dolore a Margherita Rossi ma non rispose e a Zasello continuò questa sera alle nove e mezzo in punto si metta nuda e poi favorisca passarsi questo unguento sul viso e su tutto il corpo dopodiché faccia quel che vuole ma non si allontani dal telefono alle dieci la chiamerò e le dirò tutto quello che occorre non dovrà preoccuparsi di niente la porteranno dove è necessario e non le daranno il minimo disturbo è chiaro? Margherita tacque per un po' e poi rispose sì è chiaro questo oggetto è di oro vero si vede dal peso beh pazienza capisco benissimo che mi stanno corrompendo e trascinando in una losca faccenda che dovrò pagare caro ma come sarebbe a dire si infuriò quasi a Zasello siamo da capo no 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 aspetti mi dia indietro la crema Margherita strinse più forte la scatoletta in mano e proseguì no 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 aspetti io so a che cosa vado incontro ma per lui sono pronto a tutto perché non c'è più per me altra speranza al mondo ma una cosa le voglio dire se lei mi rovina dovrà vergognarsene sì vergognarsene perché mi sarò rovinata per amore e battendosi il petto Margherita alzò gli occhi verso il sole me la ridia gridò a Zasello infuriato me la ridia e vada tutto al diavolo mandino becemot no esclamò Margherita facendo stupire i passanti sono pronta a tutto sono pronta a eseguire la commedia del massaggio con l'uguento sono pronta ad andare a casa del diavolo non gliela ridò oibo urlò un tratto a Zasello e sbarrando gli occhi cominciò a indicare col dito la cancellata del giardino Margherita si volse dalla parte che a Zasello indicava ma non scoperse nulla di particolare allora si voltò verso Zasello per farsi spiegare quell'incongruo oibo ma non c'era più nessuno per dare questa spiegazione il misterioso interlocutore di Margherita Nicolae era scomparso Margherita ficcò la mano nella borsetta dove prima di quel grido aveva riposto la scatoletta e si accertò che ci fosse ancora allora senza più pensare a nulla scappo via di corsa dal giardino Aleksandrovski attraverso i rami dell'acero si vedeva la luna piena nel cielo limpido della sera i tigli e le acace coprivano la terra del giardino di un complicato arabesco di macchie la trifora del bovindo aperta ma velata dalla tenda era rischiarata da una violenta luce elettrica nella camera da letto di Margherita Nicolae erano accese tutte le lampade e illuminavano il gran disordine della stanza sulla coperta del letto piacevano camiciuole calze e cape di biancheria altri capi spiegazzati erano sparsi semplicemente sul pavimento accanto a una scatola di sigarette schiacciata nel trambusto c'erano scarpette sul tavolino da notte vicino a una tazza di caffè semipiena e a un portacedere in cui fumigava una cicca sullo schienale di una seggiola era appeso un abito da sera nero la stanza odorava di profumo in essa inoltre arrivava da chissà dove un odore di ferro da stiro arroventato Margherita Nicolae sedeva davanti alla specchiera vestita soltanto di un accappatorio da bagno gettato sul corpo nudo e con scarpette nere scamosciate un braccialetto d'oro con orologino era posato davanti a lei accanto alla scatoletta ricevuta da asasello ed ella non staccava gli occhi dal quadrante in certi momenti Margherita cominciava ad avere l'impressione che l'orologio si fosse rotto e che le lancette non si muovessero ma si muovevano seppur molto lentamente come se si appiccicassero e alla fine la lancetta lunga calò sul ventinovesimo minuto delle nove il cuore di Margherita batte così forte che se non riuscì neppure a prendere subito la scatoletta riavutasi la perse e vide in essa una crema grassa giallognola le sembrò che sapesse di limo di palude con la punta di un dito Margherita depose un piccolo fiocco di crema sulla palma mentre diventava più intenso l'odore di erbe di palude e di bosco e poi con la mano cominciò a spalmarsi la crema sulla fronte e sulle guance la crema si spalmava facilmente e come sembrò a Margherita si volatizzava subito dopo aver fatto alcune frizioni Margherita diete un'occhiata allo specchio e lasciò cadere la scatoletta proprio sul vetro dell'orologio che si coprì di inclinature Margherita chiuse gli occhi poi guardò ancora una volta e scoppiò a ridere sfrenatamente le sopracciglia depilate all'estremità e ridotte a un filo dalla pinzetta si erano infoltite e come nerri archi uniformi sormontavano gli occhi divenuti verdi era svanita senza lasciar tracce la sottile ruga verticale che tagliava la radice del naso che era comparsa quella volta in ottobre quando era sparito il maestro erano svanite anche le ombre giallognone alle tempie e ai due reticoli appena visibili nell'angolo esterno degli occhi la pelle delle guance era soffusa in un uniforme color roseo la fronte si era fatta bianca e pura e si era disfatta l'ondulazione artificiale dei capelli dallo specchio una donna ventenne quei capelli neri ricciuta di natura guardava la Margherita trentenne e rideva irrefrenabilmente mostrando i denti dopo aver riso a sazietà con un balzo solo Margherita sgusciò fuori dall'accappatoio attinse abbondantemente la leggera crema grassa e picchiettando forte cominciò a stenderla sulla pelle del corpo che prese subito una tinta rosea e abbronzata istantaneamente come se le avessero estratto un ago dal cervello cessò il dolore alla tempia che l'aveva fatta soffrire tutta la sera dopo l'incontro del giardino alexandrovski i muscoli delle braccia e delle gambe si rassodarono dopodiché il corpo di Margherita perdette il suo peso essa fece un salto e rimase sospesa in aria a poca distanza dal tappeto e poi qualcosa la trasse in basso lentamente ed essa calò giù che crema che crema gridò Margherita buttandosi nella poltrona le frizioni non l'avevano mutata solo esteriormente adesso in lei in tutto il suo essere in ogni minima particella del suo corpo ribolliva una gioia che si sentiva come se ci fossero tante bollicine che le pungessero tutto il corpo Margherita si sentì libera libera di ogni cosa essa comprese inoltre con la massima chiarezza che era avvenuto per l'appunto ciò che quel mattino le diceva il suo presentimento e che essa avrebbe abbandonato per sempre la palazzina e la sua vita di prima ma da questa vita di prima s'era separata non di meno l'idea che le restava di adempiere un ultimo tovere prima che iniziasse la cosa nuova straordinaria che l'attirava in alto nell'aria ed essa nuda come era saltando di continuo corse dalla camera da letto nello studio del marito e accese la luce si precipitò la scrivania su un foglio strappato da blocnotes scrisse in fretta e a matita senza cancellature e a grossi caratteri questo biglietto perdonami e cerca di dimenticarmi al più presto ti lascio per sempre non cercarmi sarebbe inutile il dolore e le sventure che mi hanno colpito mi hanno fatto diventare una strega devo andare addio margherita e le sventure Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, per ricordo ho detto, si prenda tutto quello che c'è nella stanza. Come stupidita Natascia la guardò immobile per un po' di tempo, poi le si appese al collo, baciandola e gridando. Sembra raso, luminosa, sembra raso, e le sopracciglia? Oh, le sopracciglia! Prenda tutti i miei stracci, prenda i profumi e li porti in camera sua e li nasconda nel baule, gridava Margherita. Ma non prende gioielli. L'accuserebbero di furto. In quel momento, dall'altra parte della strada, da una finestra aperta, si sprigionò e prese il volo un fragoroso waltzer brillante e si sentì lo sbuffare di una macchina che si avvicinava al portone. Fra un attimo telefonerà a Zasello, esclamò Margherita, ascoltando il waltzer che si spargeva per il vicolo. Telefonerà! E quello straniero non è affatto pericoloso. No, 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 adesso capisco che non è pericoloso. La macchina rompò, allontanandosi dal portone, il cancello sbatté e si udirono dei passi sulle mattonelle del fiale. È Nicolai Ivanovic! Lo riconosco dal passo, penso Margherita. Prima d'andarmene, dovrei fare qualcosa di buffo e di curioso. Margherita tirò via la tenda e sedette di sghembo sul davanzale, ciggendosi il ginocchio con le braccia. Alzò il capo verso la luna e prese un'aria pensosa e poetica. I passi risonarono ancora un paio di volte e poi ci saranno di colpo. Continuando ad ammirare la luna, sospirando come di prammatica, Margherita volse la tessa verso il giardino e scorse infatti Nicolai Ivanovic che abitava al piano inferiore di quella stessa palazzina. La luna inondava di luce Nicolai Ivanovic. Egli sedeva sulla panchina e tutto faceva capire che vi si era lasciato cadere di schianto. Gli occhiali a molla gli stavano un po' storti sul viso ed egli stringiva fra le mani la sua cartella. In quel momento, alle spalle di Margherita, il telefono squillò in camera da letto. Margherita saltò giù dal davanzale e, dimenticando Nicolai Ivanovic, afferrò il ricevitore. «Parla Sasello!» disse qualcuno nel ricevitore. «Ah, caro, caro Sasello!» esclamò Margherita. «E ora, pigli il volo!» disse Sasello. E dal suo tono si capiva che era contento del sincero, gioioso slancio di Margherita. «Quando sorvolerà il portone, gridi sono invisibile. Poi voli sulla città per abituarsi e quindi verso il sud, fuori città, e poi dritto al fiume. L'aspettano!» Margherita riattaccò e, in quel momento, nella stanza attiva, un coso di legno si mise in moto, zoppicando e cominciò a battere contro la porta. Margherita la spalancò e la spazzola da pavimenti, col corpo di setola all'insù, irruppe danzando nella camera da letto. Con l'estremità del manico picchierellava, scalciava e cercava di raggiungere la finestra. Per l'entusiasmo, Margherita cacciò uno strillo e saltò a cavallo della spazzola. Ecco, solo in quel momento venne in mente all'amazone, che in quella confusione essa aveva dimenticato di vestirsi. E galoppò verso il letto e afferrò la prima cosa che le capitò, un camicino celeste. Brandendolo come uno stendardo, spiccò il volo verso la finestra. E il waltzer rimbombò più forte sopra il giardino. Dal finestrino Margherita scivolò giù e scorse Nicolai Ivanovic sulla panca. Sembrava raggelato su di essa e completamente sbalordito. Ascoltava le grida e il tramestio che giungevano dalla camera da letto illuminata degli inquilini di sopra. «Addio, Nicolai Ivanovic!» gridò Margherita, ballonzolando davanti a lui. E gli mandò un gemito. Strisciò lungo la panchina, passandoci sopra le mani e buttando in terra la sua cartella. «Addio per sempre!» «Io volo via! Volo via!» gridava Margherita, soverchiando il waltzer. In quel punto si rese conto che il camicino non le serviva a niente e con una risata sinistra coperse con esso la testa di Nicolai Ivanovic. Nicolai Ivanovic, accecato, piondò giù dalla panchina sui mattoni del fiale. Margherita si voltò a guardare per un'ultima volta la palazzina dove aveva sofferto per tanto tempo e alla finestra fiammeggiante scorse il viso di Natascia, stravolta dallo stupore. «Ciao, Natascia!» gridò Margherita e tirò sulla spazzola. «Sono invisibile! Sono invisibile!» gridò ancora più forte ed i tra i rami dell'acero che le sferzavano il viso, dopo aver superato il portone, sbucò volando nella strada. E dietro di lei spiccò il volo il waltzer, completamente impazzito. «Sono invisibile e libera! Sono invisibile e libera!» Dopo aver volato per un po' sopra il suo vicolo, Margherita capitò sopra un altro che tagliava il primo ad angolo retto. In un attimo percorse questo vicolo rappezzato, rammendato, storto e lungo e a quel punto realizzò che, pur essendo perfettamente libera e invisibile, doveva però essere un po' giudiziosa, anche nel piacere. Soltanto per essere miracolosamente riuscita a frenarsi, non era andata a sfracellarsi contro il vecchio e storto lampione dell'angolo. E dopo averlo scansato, Margherita strense più forte la spazzola e si inise a volare più lentamente, badando ai fili dell'elettricità e all'insegna appese trasversalmente al marciapiede. Il terzo vicolo portava diritto all'arbat. A questo punto Margherita si era del tutto avezzata a guidare la spazzola. Aveva compreso che essa obbediva al minimo tocco delle mani e dei piedi e che sorvolando la città doveva stare molto attenta a non folleggiare troppo. Inoltre, fin dal vicolo, era apparso ben chiaro che i passanti non vedevano la volatrice. Nessuno alzava il capo, nessuno gridava guarda, guarda, nessuno si tirava bruscamente in là. Nessuno strillava o svegliva o scoppiava in una risata balurda. Margherita diede un altro strattone e allora la massa di tetti sprofondò sottoterra e al suo posto apparve in basso un lago di tremolanti luci elettriche. Questo lago si sollevò un tratto verticalmente, dopodiché comparve sopra la testa di Margherita e la luna brillò sotto i suoi piedi. Margherita capì che si era ribaltata, ripresa la sua posizione normale e voltandosi indietro vide che il lago non c'era più e che laggiù, dietro di lei, era rimasto soltanto un bagliore rosato all'orizzonte. Anch'esso svanì dopo un attimo e Margherita si accorse ad essere sola con la luna che volava a sinistra sopra di lei. Oh, da un pezzo i capelli di Margherita si erano aggrovigliati insieme e il chiaro di luna le lambiva il corpo con un sibilo. Dal fatto che in basso le due file di luci rade si erano fuse in due linee ininterrotte e dalla rapidità con la quale esse scomparvero, Margherita intuì che volava a una fantastica velocità e fu sorpresa di non rimanere senza fiato. Trascorsi pochi secondi, laggiù, in lontananza, nel nerume della terra s'accese un nuovo bagliore di luce elettrica che venne ad abbattersi sotto i piedi della volatrice, ma subito dopo si avvitò e precipitò sulla terra. Dopo qualche secondo, di nuovo, lo stesso fenomeno. La città! La città! Grida Margherita! E dopo di questo, per due o tre volte, essa vide sotto di sé delle specie di sciavole baluginanti racchiuse entro nere guaine aperte e comprese che erano fiumi. Volgendo la testa in su e a sinistra, essa mirava la luna che, come impazzita, filava indietro sopra di lei verso Mosca e, cosa strana, nello stesso tempo rimaneva immobile, cosicché si vedeva distintamente su di essa un che di misterioso e di scuro, forse un drago, forse un cavallino alato col muso a guzzo rivolto verso la città abbandonata. In quel punto Margherita fu assalita dal pensiero che, in fondo, non avrebbe dovuto far volare così freneticamente la spazzola, perché si privava della possibilità di osservare bene le cose ed inebriarsi nel volo, come si conviene. Qualcosa le diceva che là, dove era diretta, l'avrebbero aspettata e che quindi era inutile sottoporsi al fastidio di una velocità e di un'altezza così insensate. Margherita inclinò in avanti la spazzola la cui coda si sollevò e, rallentando molto, scese verso terra. E questo scivolare giù, come in toboga, le procurò un grandissimo piacere. La terra si alzò verso di lei e in quella che era stata fino allora un'uniforme massa nera si andavano palesando i segreti e i fascini della terra in una notte di luna. La terra saliva verso Margherita e già l'investiva l'odore dei boschi verdeggianti, sorvolò, sfiorandola quasi, la bruna che copriva un prato rugiadoso, poi uno stagno sotto di lei. Le rane cantavano in coro e da lontano giungeva il rumore di un treno che la commuoveva profondamente e chissà perché. E Margherita non tardò a scorgerlo. Strisciava lento come un bruco, seminando scintille nell'aria. Oltrepassatolo, essa volò ancora sopra uno specchio d'acqua in cui galleggiava una seconda luna. Poi si abbassò ancora di più e proseguì, sfiorando quasi coi piedi, le vette degli pini giganteschi. Dietro si sentiva un greve rumore di aria solcata che cominciava a raggiungere Margherita. A poco a poco questo rumore di un oggetto volante, forse un proiettile, si unì a una risata femminile, udibile a molte verste di distanza. Margherita si voltò e si accorse che era inseguita da un oggetto scuro e complicato. Via via che si avvicinava a lei si profilava sempre meglio e si cominciava a vedere che era qualcuno che volava a cavallo. Infine si delineò completamente. Rallentando, Natascia raggiunse Margherita, interamente nuda. Con i capelli scarmigliati che volavano per aria, essa cavalcava un grosso verro, il quale stringeva fra le zampe anteriori una cartella e con le posteriori martellava l'aria. Di quando in quando, un paio di occhiali a molle che sfavilavano al chiaro di luna e poi si spegnevano cadendogli dal naso, svolazzavano a fianco del verro e il cappello gli scivolava tutto il tempo sugli occhi. Esaminatolo ben bene, Margherita riconobbe nel verro Nicolai Ivanovic. E allora la sua risata risuonò sopra il bosco, mischiandosi con quella di Natascia. — Natascia! — gridò Margherita con voce acuta. — Ti sei data la crema? — Gioia mia! — rispose Natascia, ridestando con i suoi schiamazzi la pineta addormentata. — Mia regina francese! Gliel'ho data anche a lui sulla zucca pelata! Anche a lui! — Principessa! — urlò il verro con voce piagnucolosa, portando al galoppo la sua cavalcatrice. — Margherita Nicolai Ivano! — Gioia mia! — gridava Natascia, galloppando a fianco di Margherita. — Lo confesso, ho preso la crema. — Anche noi altri, sa, vogliamo vivere e volare, mi perdoni sovrana, ma io non tornerò, neppure di pinta tornerò. — Ah, che bellezza Margherita Nicolai Ivano! — Ha chiesto la mia mano! — E Natascia indico col dito il collo del verro, anzimante e vergognoso. — Me l'ha chiesta! — Come mi hai chiamata, eh? — gridò Natascia, chinandosi all'orecchio del verro. — Oddea! — ululò questi! — Non posso volare così presto, potrei perdere qualche carta importante, Natalia Prokofievna. — Io protesto! — Va un po' il diavolo, tu e le tue carte! — gridò Natascia, ridendo sguagliatamente. — Che dice mai, Natalia Prokofievna? — Potrebbero sentirci! — urlò il verro, in tono di implorazione. E mentre volava a fianco di Margherita, Natascia le raccontò, fra le risa, quanto era accaduto nella palazzina, dopo che Margherita Nicolai Ivano aveva valicato a volo il portone. Natascia confessò che senza più toccare alcuna delle cose a lei regalate, si era spogliata in furia, si era buttata sulla crema e se l'era immediatamente passata. E le era accaduto lo stesso che alla sua padrona. E mentre Natascia, ridendo di gioia, si inebriava della sua magica bellezza davanti allo specchio, la porta si era aperta e le era comparso dinnanzi Nicolai Ivanovic. Era agitato, teneva in mano il camicino di Margherita Nicolai Ivano, nonché il proprio cappello e la cartella. Vedendo Natascia, Nicolai Ivanovic era allibito, ha riavutosi un po', rosso come un gambero, aveva dichiarato che si era creduto in dovere di raccattare il camicino e di riportarlo personalmente. «Cosa non ha detto quel mascalzone?» strillava e rideva Natascia. «Cosa non ha fatto per adescarmi? Quanto denaro ha promesso!» Diceva che Claudio Petrovna non avrebbe saputo nulla. «Su parla! Dico bugie!» gridò Natascia al verro e questi tutto vergognoso si limitò a voltare il muso dall'altra. Dopo aver folleggiato in camera da letto, Natascia aveva un tocco la crema Nicolai Ivanovic e lei stessa era rimasta sbalordita. La faccia del rispettabile inquilino del piano di sotto si era ridotta a un grugno. Ai piedi e alle mani gli erano spuntati gli zoccoli. Guardatosi nello specchio, Nicolai Ivanovic aveva cacciato un urlo selvaggio e disperato, ma era troppo tardi. pochi secondi dopo cavalcato da Natascia egli volava via da Mosca e sa il diavolo dove si ingiozzando di dolore. «Esico che mi venga restituito il mio aspetto normale!» rantolò e grugnì a un tratto il verro con tono fra il disperato e il supplichevole. «E non intendo volare a un assembramento illegale!» grita Nicolai Ivana «Lei ha l'obbligo di ridurre alla ragione la sua cameriera!» «Ah, sì che adesso sarei la cameriera per te? La cameriera!» gridava Natascia pizzicando l'orecchio del verro «E non ero una regina! Non mi chiamavi così!» «Venere!» rispose lamentosamente il verro volando sopra un torrente spumeggiante fra le rocce e sfiorando con gli zoccoli i cespugli di Avellana. «Venere! Venere!» proclamò vittoriosamente Natascia mettendosi una mano al sul fianco e protendendo l'altra verso la luna «Margherita! Regina! Interceda per me affinché mi lasciano continuare a essere strega! Per lei faranno tutto! Lei è potente!» e Margherita rispose «Va bene! Lo prometto!» «Grazie!» esclamò Natascia e all'improvviso si mise a gridare in tono brusco e anche un po' malinconico «Arri! Arri! Più presto! Più presto! Su dai! Dai! e la strizze fra i calcagni i fianchi del verro dimagriti durante la folle galoppata ed egli diede una strappata tale che riprese a fendere l'aria dopo un attimo Natascia non era più che un puntino nero poi scomparve del tutto e il rumore del suo volo si dileguò Margherita con la sua guida intanto era già presso la porta dell'appartamento numero 50 non suonarono Asasello senza far rumore apri l'uscio con la sua chiave la prima cosa che colpì Margherita fu la tenebra in cui si trovò faceva buio come in un sotterraneo cosicché si aggrappò istintivamente al mantello di Asasello per timore di inciampare ma in quel punto il lume di una piccola lucerna ammiccò in lontananza e dall'alto e cominciò ad avvicinarsi Asasello continuando a camminare trasse via la spazzola di sotto al braccio di Margherita e la spazzola scomparve senza mandare un suono nell'oscurità allora imboccarono una scala con certi larghi gradini e Margherita cominciò ad avere l'impressione che non avrebbero avuto fine la sorprendeva il fatto che nell'anticamera di un comune appartamento di Mosca potesse trovare posto questo straordinario scalone invisibile ma ben percepibile tuttavia la salita finì e Margherita comprese che si trovava su un pianerottolo il lumicino si accostò e Margherita scorse il volto illuminato di un uomo alto e nero che teneva in mano una piccola lucerna coloro che in quei giorni avevano avuto la disgrazia di capitare sulla sua strada l'avrebbero naturalmente riconosciuto subito anche alla luce fioca della fiammella della lucerna era Korofiev altrimenti detto fagotto il mago il maestro di cappella l'incantatore l'interprete ossa il diavolo cosa fosse in realtà Korofiev insomma si inchinò e muovendo per aria la lucerna con ampio gesto invitò Margherita a seguirlo a sasello sparì anche alla luce incerta della piccola lucerna di Korofiev Margherita capì che si trovava in un immenso salone buio con un colonnato per giunta e a prima vista sterminato arrivato vicino a un piccolo divano Korofiev si fermò depose la lucerna su un mobiletto con un gesto invitò Margherita a sedersi e si accomodò accanto a lei in una posa pittoresca appoggiando i gomiti sul mobiletto mi permetta di presentarmi gracchiò Korofiev si meraviglia che non ci sia la luce ah per fare economia avrà certo pensato lei ma che ma che il primo venuto fra i boia fosse anche uno di quelli che avrà fra poco l'onore di baciarle il ginocchio mi taglie pure la testa su questo stesso comodino se è così semplicemente Messere non ama la luce elettrica e la daremo proprio all'ultimo momento e allora mi creda non scarseggerà forse anzi sarebbe bene che ce ne fosse un po' meno Korofiev piacque a Margherita e le sue chiacchiere magniloquenti producevano su di lei un effetto calmante dunque signora dunque veniva dicendo Korofiev noi siamo nemici di tutte le reticenze e di tutti i misteri ogni anno Messere dà un ballo si chiama ballo del plenilunio di primavera o ballo dei cento re la gente che ci viene a questo punto Korofiev si afferrò la guancia come se un dente cominciasse a dolergli del resto spero che se ne convincerà lei stessa dunque Messere è scapolo come anche lei naturalmente avrà capito ma ci vuole una padrona di casa Korofiev qui allargò le braccia ammetterà anche lei che senza padrona di casa Margherita ascoltava Korofiev cercando di non perdere una parola sentiva freddo al cuore la speranza della felicità le faceva girare la testa e invalsa alla tradizione proseguiva intanto Korofiev secondo cui con lei che fa gli onori di casa deve assolutamente portare il nome di Margherita questo in primo luogo e in secondo luogo che essa deve essere nativa del posto a Mosca abbiamo scoperto ben 121 Margherite e ci crede Korofiev si sbatté la coscia con un gesto di disperazione non ce n'è una che sia adatta e alla fine per un caso felice Korofiev sogginò espressivamente inclinando il corpo e di nuovo Margherita sentì freddo al cuore a questo punto Korofiev spense la sua lucerna e essa gli svanì dalle mani e Margherita vide sul pavimento davanti a lei una striscia di luce sotto una porta scura e a questa porta Korofiev bussò sommessamente allora Margherita fu presa da un tale orgasmo che cominciò a battere i denti e un brivido le percorse la schiena la porta si aprì apparve una stanza tutt'altro che spaziosa Margherita scorse un vasto letto di rovere con lenzuola e guanciali sudici svalciti e scompigliati la stanza odorava di zolfo e di catrame le ombre dei lumi si intrecciavano sul pavimento fra gli astanti Margherita riconobbe subito a Zasello che aveva già indossato la marsina e stava in piedi al capezzale del letto a Zasello tutto azimato non assomigliava più al malandrino sotto il cui aspetto si era presentata Margherita Nikolaiavna nel giardino ed egli le si inchinò con straordinaria galanteria una strega ignuda quella stessa ella che aveva tanto turbato il rispettabile barista del barietè e oimè quella stessa che molto fortunatamente era stata spaventata dal gallo nella notte della famosa rappresentazione sedeva in terra sul tappetuccio rimescolando qualcosa in una casseruola dalla quale uscivano vortici di vapore sul fureo oltre a questi due c'era nella stanza seduto su un altro sgabello davanti al tavolino con la scacchiera un gattone nero di spropositata grandezza che teneva nella zampa destra il cavallo degli scacchi ella si alzò e si inchinò a margherita lo stesso fece anche il gatto balzato giù dallo sgabello per strisciare in terra la zampa anteriore destra egli lasciò cadere il cavallo e si infilò sotto il letto per cercarlo raggelata dalla paura margherita distinse alla meglio tutto questo tra le ombre insidiose delle candele il suo sguardo era attratto dal letto sul quale sedeva colui al quale così poco tempo prima nei patriarci il povero ivan aveva cercato di dimostrare che il diavolo non esiste ed era per l'appunto questo inesistente che sedeva sul letto due occhi si affissarono sul volto di margherita il destro con una scintilla dorata del fondo che avrebbe penetrato fin nell'intimo qualsiasi anima il sinistro vuoto e nero una specie di stretta cruna angolare un orifizio nel pozzo senza fondo di tutte le tenebre e di tutte le ombre la faccia di volant era storta da un lato l'angolo destro della bocca tirato in giù sulla fronte alta e stempiata erano incise rughe profonde parallele alle sopracciglia puntite la pelle del viso di volant era come se un sole ardente l'avesse abbronzata per sempre finalmente volant prese a parlare sorridendo e sembrò che questo sorriso facesse sfolgorare il suo occhio sfavillante dunque disse volant rivolto a margherita le presento il mio seguito donna questo qui che fa lo scemo è il gatto Begemot a Zasello e Korofiev li conosce già le presento la mia domestica ella è svelta intelligente e non c'è servizio che essa non sia in grado di rendere la bella ella sorrideva volgendo verso margherita gli occhi dai riflessi verdi senza per questo cessare di attingere un guento nel cavo della mano e di spalmarlo sul ginocchio di volant la mezzanotte si avvicinava e bisognava affrettarsi margherita vedeva confusamente quanto la circondava le rimasero in mente le candele e la vasca di pietre preziose quando poi si fu messa in piedi sul fondo di questa vasca ella e Natascia che la aiutava le versarono addosso un liquido caldo denso e rosso margherita sentì un sapore di sale sulle labbra e comprese che la lavavano con il sangue il manto insanguinato fu sostituito da un altro spesso trasparente roseo e l'olio di rose fece venire il capogiro a margherita poi fu messa su un letto di cristallo e con certe grandi foglie verdi cominciarono a frizionarla fino a lustrarle la pelle in quel momento il gatto entrò a precipizio e si diede ad aiutare si accoccolò ai piedi di margherita e si mise a strofinarglieli con un'aria come se lustrasse le scarpe per la strada margherita non ricorda chi le facesse le scarpette con petri di rosa pallida né come queste scarpette s'affibbiassero da sole con figlie d'oro una forza ignota la tirò su e la mise davanti allo specchio e nei suoi capelli sfolgorò una corona regale di diamanti comparve Korofiev e le appese sul petto attaccata a una grossa catena la pesante effigie di un cambarbone nero in una cornice ovale questo monile sovra affaticò la regina la catena cominciò subito a sfregare il collo l'effigie la faceva piegare in due qualcosa però compensò margherita del disagio cagionatole dalla catena e dal cambarbone nero cioè la deferenza con la quale Korofiev e Begemot cominciarono a trattarla niente 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 mormorò Korofiev quando furono alla porta della stanza con la vasca non ci si può far niente bisogna 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 mi permetta regina di darle un ultimo consiglio ci saranno invitati di vario genere molto vario ma a nessuno regina margò a nessuno nessuna preferenza anche se qualcuno non le andrà genio capisco che lei naturalmente non lo darà a vedere no 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 nemmeno da pensarci ma accorgersene accorgersene sul momento bisogna volergli bene volergli bene regina di questo la patrona di casa sarà ricompensata al centuplo e un'altra cosa non trascurare nessuno almeno un sorrisetto se non ci sarà tempo di buttarla due parole almeno girare un pochino il capo tutto quel che vuole ma non la mancanza di riguardo questo li farebbe intristire allora Margherita scortata da Korofiev e Mejemot penetrò dalla vasca in una completa oscurità io io sussurrò il gatto le darò io il segnale io dai rispose nel buio Korofiev il ballo strillò il gatto con voce acuta e subito Margherita mandò un grido e per qualche secondo chiuse gli occhi il ballo le era piommato addosso di colpo sotto forma di luce e insieme di suono e di odore Margherita era in alto e ai suoi piedi scendeva giù un grandioso scalone coperto da un tappeto in basso lontano come se Margherita avesse guardato alla rovescio attraverso un binocolo essa vedeva un immenso atrio con un cammino di grandezza spropositata nelle cui fauci avrebbe potuto comodamente entrare un autocarro da cinque tonnellate sia l'atrio che la scala inondata da una luce da far male agli occhi erano deserti il suono delle trombe adesso giungeva a Margherita da lontano e si rimasero così immobili per circa un minuto ma dove sono gli invitati chiese Margherita Korofiev verranno Regina verranno saranno qui a momenti non ce ne sarà scarsità mancano solo dieci secondi a mezzanotte e disse Korofiev a momenti si incomincia quei dieci secondi parvero straordinariamente lunghi a Margherita all'apparenza erano già trascorsi e non era accaduto proprio nulla ma all'improvviso qualcosa piovò giù nell'immenso cammino e ne salto fuori una forca dalla quale dondolava un mucchietto di cenere che si sfaldava questa cenere si liberò dalle corde e ne salto fuori un bellissimo uomo dai capelli neri in marsina e scarpini di caupale dal cammino uscì di corsa una piccola bara il suo coperchio cadde in terra e da essa uscì altra cenere il bell'uomo in un balzo le si accostò galantemente e le porse il braccio a ciambella la seconda cenere si ricompose in una donna irrequieta con scarpette nere e penne nere in testa e allora tutte e due l'uomo e la donna si affrettarono su per le scale i primi esclamò Korofiev il signor Jacques e consorte mi presento regina uno degli uomini più interessanti falsario convinto traditore della patria ma un più che discreto alchimista e si rese celebre sussurrò Korofiev all'orecchio di Margherita per aver avvelenato l'amante del re e questa è una cosa che non capita a tutti guardi com'è bello divenuta pallida a bocca aperta Margherita guardava giù e vedeva sparire da un'uscita laterale dell'atrio sia la forca che la bara felicissimo urlò il gatto in faccia al signor Jacques che era arrivato in cima alle scale da giù oramai la folla saliva compatta come una muraglia quasi volesse dar l'assalto al pianerottolo sul quale stava Margherita corpi ignudi di donne spiccavano fra gli uomini in marsina corpi bruni e bianchi del colore di un chicco di caffè o del tutto neri affluivano verso Margherita nel torrente di luce tra i capelli rossi neri castani biondolino le pietre preziose brillavano e danzavano mandavano scintille e come se qualcuno avesse sparso gocce di luce sulla colonna degli uomini che si muoveva all'assalto i bottoni di brillanti sprizzavano luce dai vetti ogni secondo ormai Margherita sentiva labbra che le sfioravano il ginocchio ogni secondo porgeva la mano al bacio il suo volto si era irrigidito in una immobile maschera di benvenuto poi Margherita si trovò in una piscina di spropositate dimensioni incorniciata da un colonnato un gigantesco nettuno nero eruttava dalle fauci un largo frutto rosio un odore inebriante di champagne saliva dalla vasca colonne di spuma schizzavano in alto il fondo cristallino della piscina brillava di una luce proveniente da sotto che trapelava dalla massa del vino e rischiarava i corpi argenti delle mutatrici le donne saltavano fuori dalla vasca completamente ubriache le risate squillavano sotto le colonne e rimbombavano come jazz scortata da Korofiev Margherita apparve di nuovo nella sala da ballo ma adesso non ballavano più e la folla innumerevole degli ospiti si assiepava tra le colonne lasciando libero il centro della sala Margherita non ricordava chi l'aiutasse a salire su un podio apparso lì in mezzo allo spazio libero della sala quando vi fu salita sentì con sua meraviglia che da qualche parte scoccava la mezzanotte mentre secondo i suoi calcoli doveva essere passata da un pezzo con l'ultimo rintocco dell'orologio che non si sapeva dove fosse il silenzio cadde sulla folla degli invitati fu allora che Margherita rivide Volant egli veniva avanti attorniato da Abadonna a Zasello ed alcuni altri bruni e giovani somiglianti ad Abadonna Margherita si accorse allora che di fronte al suo podio era stato preparato un altro per Volant soppicando leggermente Volant si fermò accanto al suo podio e subito a Zasello comparve dinnanzi a lui con un piatto fra le mani e sopra questo piatto Margherita vide la testa tagliata di un uomo con i denti davanti rotti continuava a regnare il più completo silenzio che fu interrotto soltanto una volta da una scampanellata lontana incomprensibile in quelle circostanze come se qualcuno avesse suonato all'ingresso principale Mikhail Aleksandrovich disse Volant con voce contenuta rivolgendosi alla testa e allora le palpebre dell'ucciso si sollevarono e sul volto del morto Margherita rabbrividendo vide gli occhi vivi pieni di pensiero e di sofferenza un nuovo invitato era entrato solo nella stanza e si dirigeva verso Volant all'aspetto non si differenziava in nulla dagli altri numerosi ospiti di sesso maschile se non in una cosa sola era così agitato che parcollava il che si vedeva anche da lontano l'invitato fu tuttavia accolto con grande gentilezza ah carissimo barone meigel disse Volant sorridendo affabilmente all'invitato che sbarrava gli occhi in quel momento Margherita vide che Asasello consegnava a Korofiev il piatto col cranio già a proposito barone disse Volant abbassando a un tratto confidenzialmente la voce sono corse dicerie sulla sua curiosità si dice che essa unita alla sua non meno notevole loquacità abbia cominciato ad attirare l'attenzione generale inoltre le male lingue hanno già fatto circolare la voce che un delatore è una spia e per di più si presume che ciò la condurrà a una triste fine non più tardi che fra un mese e così per risparmiarle l'attesa angosciosa abbiamo deciso di venirle in aiuto approfittando della circostanza che lei si è fatto invitare appunto con lo scopo di spiare e di origliare tutto quello che potrà il barone divenne più pallido di Abadonna il quale era per natura estremamente pallido dopodiché accadde una cosa strana Abadonna apparve davanti al barone e per un attimo si tolse gli occhiali in quello stesso istante qualcosa lampeggiò tra le mani di Asesello ci fu un piccolo schiocco come un batter di mani e il barone cominciò a cadere riverso un sangue vermiglio gli sprizzò dal petto e bagnò la camicia inabidata il panciotto Korofiev mise una coppa sotto il rigagnolo che sgorgava e quando fu piena la porse a Voland nel frattempo il corpo inanimato del barone era già sul pavimento bevo alla vostra salute signori disse Voland senza alzare la voce e levando in alto la coppa la costò alle labbra allora avvenne la metamorfosi la camicia rattoppata e le ciabatte scalcagnate sparirono Voland apparve in una clamide nera con la sciabola d'acciaio al fianco egli si avvicinò rapido a Margherita le porse la coppa e disse in tono di comando bevi Margherita si sentì girare il capo e si arretrò ma alla coppa le sfiorava già le labbra due voci ma non riuscì a capire di chi fossero le sussurrarono in tutte e due gli orecchi non abbia paura regina non abbia paura il sangue è già disceso da molto tempo nella terra e là dove è stato versato crescono adesso grappoli di uva Margherita senza aprire gli occhi inghiottì un sorso e un dolce frutto trascorse per le sue vene le orecchie cominciarono a risonare le sembrò che i galli cantassero a squarciagola che da qualche parte suonassero una marcia la folla degli invitati cominciò a perdere il suo sembiante sia gli uomini che le donne si disgregarono in cinere sotto gli occhi di Margherita tutta la sala si decompose e sopra di essa cominciò ad alleggiare un odore di cripta le colonne si sfasciarono si spensero le luci tutto si restrinse e non ci furono più zampilli cameli e tulipani ma ci fu semplicemente quel che c'era il modesto salotto della gioielliera dalla cui porta socchiusa usciva una striscia di luce e da questa porta socchiusa Margherita entrò nella camera da letto di Voland tutto era come prima del ballo Voland sedeva sul letto in camicia solo che invece di frizzonargli la gamba ella stava apparecchiando per la cena sulla tavola dove avevano giocato agli scacchi Korofiev e Asasello deposta la marsina sedevano davanti alla tavola e accanto a loro naturalmente aveva preso posto il gatto il quale non aveva voluto separarsi dalla sua cravatta ben che questa si fosse convertita in uno straccetto lurido Margherita si accostò vacillando alla tavola e vi si appoggiò allora Voland la chiamò a sé con un cenno e le fece segno di sedergli accanto grazie messere disse Margherita con voce che si sentiva appena e diede un'occhiata interrogativa a Voland questi le rispose con un sorriso cortese e indifferente e di colpo una nera angoscia strinse il cuore di Margherita si sentì ingannata nessuno a quanto pareva aveva in mente di offrirle una ricompensa per tutti i servizi prestati durante il ballo e nessuno tentava di trattenerla e d'altra parte le era ben chiaro che uscendo di lì non avrebbe più avuto dove andare l'idea balenata lì in mente che avrebbe dovuto tornare alla palazzina scatenò dentro di lei un accesso di disperazione e se avesse chiesto lei stessa come le aveva consigliato lusinghevolmente a Zasello nel giardino alle Skandrovski no a nessun costo disse Frassi stia bene messere disse ad alta voce e pensò se soltanto riesco a uscire di qua arriverò fino al fiume e mi annegherò su si sieda disse all'improvviso Voland in tono di comando Margherita si mutò in viso e si mise a sedere forse ha qualcosa da dire prima di andarsene no messere non ho niente da dire rispose con fierezza Margherita eccetto che se lei ha ancora bisogno di me sono pronto a fare tutto quello che vorrà non sono affatto stancare mi sono molto divertita al ballo e quindi anche se fosse ancora continuato avrei di nuovo offerto il mio ginocchio affinché migliaia di pendagli da forca e da sassini lo baciassero Margherita guardava Voland come attraverso un velo gli occhi gli si erano riempiti di lacrime è giusto lei ha pienamente ragione gridò Voland con voce tonante e terribile così bisognava fare così bisognava fare ripete come un eco il seguito di Voland noi abbiamo voluto metterla alla prova disse Voland non chieda mai nulla a nessuno mai nulla a nessuno e tantomeno a quelli che sono più forti di lei ci penseranno loro a offrire e daranno tutto si mette a sedere donna orgogliosa Voland le strappò di dosso la sudicia vestaglia e Margherita si ritrovò di nuovo seduta sul letto accanto a lui dunque Margaux proseguì Voland addolcendo la voce cosa vuole per aver fatto oggi gli onori di casa mia che cosa desidera per aver partecipato nuda a questo ballo quanto stima il suo ginocchio quali perdite le hanno cagionato i miei invitati che lei ha chiamato di anzi pendagli da forca parli e adesso parli pure senza soggezione dato che gliel'ho proposto io il cuore di Margherita si mise a battere forte essa sospirò forte e cominciò a riflettere su avanti si faccia animo l'incoraggiò Voland svegli la sua fantasia la sproni il solo fatto di aver assistito all'assassino di quel furfante matricolato ad un barone merita che una persona sia ricompensata specie se questa persona è una donna dunque signora voglio che subito in quest'attimo stesso mi venga restituito il mio amante il maestro disse Margherita e uno spasimo le contrasse il viso allora una folata di vento irruppe nella stanza cosicché la fiamma delle candele nei candelabri si smorzò la tenda pesante davanti alla finestra si scostò da un lato la finestra si spalancò e lontano su in alto si scoperse la luna piena ma non quella del mattino bensì quella di mezzanotte dal davanzale cade sul pavimento un drappo verdognolo di luce notturna e in esso apparve il visitatore notturno di Ivaniuszka che aveva detto di chiamarsi il maestro era vestito come all'ospedale in vestaglia pantofole e col berrettino nero dal quale non si separava mai il suo volto non rasato era contratto da una smorfia e gli storceva gli occhi pieni di un dissennato timore verso le fiamme delle candele mentre un torrente di luce lunare ribolliva intorno a lui margarita lo riconobbe subito diede in un gemito alzò le mani battendole insieme e le corse incontro lo baciava sulla fronte sulle labbra si stringeva la sua guancia ispida e le lacrime a lungo trattenute le fluivano ora giù per il viso aveva pronunziato una parola sola e la ripeteva come insensata tu 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 il maestro l'allontanò da sé e disse con voce sorda non piangere margot non tormentarmi sono gravemente ammalato si aggrappò con la mano al davanzale come se volesse balzarvi sopra e fuggire gli grignò i denti e guardando attentamente quelli che stavano seduti gridò ho paura margot ricomincio a soffrire di allucinazioni o i singhiuzzi soffocavano margherita essa sussurrava con voce strozzata no no non devi temere nulla ci sono io con te ci sono io con te korofjev con una mossa abile e quasi impercettibile spinse una sedia verso il maestro e questi vi si lasciò cadere margherita si gettò in ginocchio si strense al fianco del malato e non si mosse più nel suo orgasmo non si era accorta che quasi repentinamente aveva cessato di essere nuda adesso aveva indosso una mantella di seta nera il malato aveva chinato il capo e guardava in terra con occhi torvi e tolenti già disse volant dopo una pausa e l'hanno conciato per le feste e ordinò a korofjev su cavaliere da qualcosa da bere a quest'uomo margherita cercava di persuadere il maestro con voce tremante bevi dai bevi hai paura no 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 credi a me essi ti aiuteranno il malato prese il bicchiere e beve quel che c'era dentro ma la sua mano sussultò il bicchiere cadendosi in france ai suoi piedi porta fortuna porta fortuna sussurrò korofjev a margherita vede sta già tornando in sé infatti lo sguardo del malato non era più così truce e inquieto ma sei tu margot chiese l'ospite lunare non dubitare sono io rispose margherita ancora ordinò volant quando il maestro ebbe traccannato il secondo bicchiere i suoi occhi divennero vivi e coscienti oh bene adesso è un'altra cosa disse volant socchiudendo le palpebre ora parleremo chi è lei adesso non sono nessuno rispose il maestro e un sorriso gli storse la bocca di dove arriva da una casa di dolore sono un malato di mente rispose il nuovo venuto margherita non pote sopportare quelle parole e scoppiò di nuovo in lacrime e poi asciugandosi gli occhi gridò che parole orribili che parole orribili messere l'avverto che egli è un maestro lo curi egli lo merita lei sa con chi sta parlando chiese volant al nuovo arrivato sa in casa di chi si trova lo so rispose il maestro al manicomio avevo per vicino quel ragazzo i bambi e sdomni mi ha parlato di lei già è vero rispose volant ho avuto il piacere di incontrarmi con quel giovanotto agli stagni patriarce per un pelo non ha fatto impazzire anche me dimostrandomi che io non esisto ma ci crede che io sono veramente io bisogna crederci disse il nuovo venuto ma naturalmente sarebbe assai più comodo ritenere che lei è il prodotto di un'allucinazione mi scusi soggiunse il maestro riprendendosi ah beh perché no se è più comodo lo ritenga pure rispose cortesemente volant no no disse margherita spaventata e scosse il maestro per le spalle rientra in te innanzi a te c'è realmente lui a questo punto il gatto intervenne di nuovo io però assomiglio per davvero a un'allucinazione osservate un po' il mio profilo al chiaro di luna il gatto si infilò nella striscia di luce lunare e stava per aggiungere ancora qualcosa ma fu pregato di star zitto ed egli rispose bene bene sono pronto a tacere sarò un'allucinazione e taccitorna e non fiato più dica un po' perché margherita la chiama maestro domandò volant e l'altro sughignò e disse è una debolezza perdonabile essa ha un concetto troppo alto del romanzo che ho scritto ha un romanzo su che cosa un romanzo su ponzio pilato a questo punto le fiammele delle candele ripresero a ondeggiare e a guizzare i piatti tintinnarono sulla tavola volant scoppiò in una risata attonante ma quel riso non spaventò e non meravigliò nessuno vejamot chissà perché applaudì su che cosa su che cosa su chi disse volant e smise di ridere ah questa è grossa e non poteva trovare un altro argomento faccio un po' vedere e volant tese la mano con la palma in su io purtroppo non posso farlo rispose il maestro perché l'ho bruciato nella stufa ah scusi ma non ci credo replicò volant non può essere i manoscritti non bruciano si voltò verso bejamot e disse su bejamot dammi qua quel romanzo il gatto all'istante saltò giù dalla seggiola e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di manoscritti con un inchino il gatto porse a volant l'esemplare che stava sopra gli altri margarita si mise a tremare e gridò commuovendosi di nuovo fino alle lacrime eccolo il manoscritto eccolo si precipitò verso volant e aggiunse rapita onnipotente onnipotente volant prese in mano l'esemplare che gli era stato dato lo rivoltò lo mise da parte e in silenzio senza sorridere piantò gli occhi in faccia al maestro ma a questi non si sa perché fu preso dalla tristezza e dalla paura si alzò dalla seggiola si torse le mani e rivolto alla luna lontana cominciò a mormorare sussultando anche nelle notti di luna non ho pace perché mi hanno disturbato numi oh numi e margarita si aggrappò la vestaglia da ospedale si strense ad essa e cominciò anche lei a mormorare angosciata e piangente oddio ma perché la medicina non ti giova non è niente niente ho ancora un bicchierino e anch'io per farle compagnia e il bicchierino amiccò scintillò al chiaro di luna e questo bicchierino giovò il maestro fu fatto sedere al suo posto e il volto del malato prese un'espressione tranquilla ah beh adesso è tutto chiaro disse Volant e batte le lunghe dita sul manoscritto chiarissimo confermò il gatto dimentico della sua promessa di diventare un'allucinazione taciturna adesso la linea maestra di quest'opera mi è del tutto chiara che sta dicendo a Zasello chiese rivolgendosi al silenzioso a Zasello dico rispose quello con voce nasale che sarebbe bene affogarti si misericordioso replicò il gatto e non suggerire quest'idea mio signore credi a me ti apparirei ogni notte nello stesso abbigliamento lunare del povero maestro e ti farei cenno di seguirmi come ti sentiresti a Zasello beh Margherita riattaccò Volant dica pure tutto quello che le occorre mi permetta di sussurrare con lui Volant annui col capo e Margherita serrandosi all'orecchio del maestro gli bisbigliò qualcosa si sentì che egli rispondeva no è troppo tardi non voglio altro dalla vita se non vedere te ma te lo consiglio di nuovo lasciami andresti in malora con me no non ti lascerò rispose Margherita e ora si rivolse a Volant la prego la prego di farci tornare allo scantinato nel vicolo vicino all'Arbat e che si accenda la lampada e tutto sia di nuovo come prima allora il maestro si mise a ridere e cingendo la testa di Margherita sulla quale i riccioli si erano disfatti da tempo disse ah messere non di retta una povera donna in quello scantinato abita da tanto tempo qualcun altro e in genere non si dà il caso che tutto sia di nuovo come prima appoggiò la guancia alla testa della sua amica abbracciò Margherita e intanto mormorava poveretta poveretta non si dà il caso dice lei disse Volant ah è vero ma noi proveremo e chiamò a zasello immediatamente un signore sbigottito e prossimo alla frenesia precipitò dal soffitto sul pavimento era in camicia ma chissà perché aveva una valigia in mano e il berretto in testa quest'uomo traballava e s'accosciava per lo spavento mogaric domandò a zasello all'individuo piovuto dal cielo aloisi mogaric rispose colui tremando e lei che dopo aver letto l'articolo di latiunschi sul romanzo di quest'uomo scrisse un reclamo contro di lui informando che egli teneva in casa letteratura illegale domandò a zasello il neo apparso signore illividi e si sciolse in lacrime di contrizione lei voleva trasferirsi nelle sue stanze chiese a zasello con tutta la cordialità possibile parlando nel naso si udì nella stanza uno sbuffare di gatta inferocita e margherita urlando ecco che cos'è una strega ecco e piantò le unghie in faccia ad aloisin mugaric successe un putiferio che fai gridò il maestro addolorato margò non disonorarti protesto questo non è un disonore sbraitò il gatto margherita fu trascinata via da koroviev io ci ho aggiunto lo stanzino da bagno gridava mugaric insanguinato battendo i denti e nel suo spavento cominciò a straparlare la sola imbiancatura il vetriolo beh è una bella cosa che ci abbia aggiunto lo stanzino da bagno di sasasello in tono d'approvazione lui ha bisogno di fare dei bagni e gridò via allora mugaric fu rivoltato che i piedi all'insù e portato via dalla camera da letto di volant attraverso la finestra aperta il maestro profondamente sbalordito si guardò intorno e disse infine al gatto chiedo scusa sei tu e lei si confuse non sapendo come ci si rivolge a un gatto e lei quel gatto che fu fatto salire in tram si sono io confermò il gatto lusingato e soggiunse mi fa piacere sentire come tratta cortesemente un gatto ai gatti di solito si dà del tocchi sa perché anche se nessun gatto ha mai fraternizzato con qualcuno trincando insieme mi sembra che lei non sia proprio un gatto rispose esitando il maestro all'ospedale si accorgeranno lo stesso della mia assenza soggiunse timidamente rivolto a volant di che cosa vuol mai che si accorgano lo rassicurò Korofiev e i libri e carte gli apparvero tra le mani e la storia della sua malattia si Korofiev scaraventò la storia della malattia nel caminetto se non esistono i documenti non esiste neppure la persona disse soddisfatto e questo è il registro degli inquilini del capomastro si ma che nome vi è registrato Aloisi Mogaric Korofiev soffiò su una pagina del registro questa è fatta lui non c'è e noti bene non c'è mai stato se poi il capomastro si stupisce gli dica che se l'è sognato quella Aloisi Mogaric chi sarebbe questo Mogaric non c'è mai stato nessun Mogaric a questo punto il registro legato in brossura si volatilizzò dalle mani di Korofiev e adesso è già sul tavolo del costruttore lei ha detto bene disse il maestro stupito della perfezione del lavoro di Korofiev quando non ci sono documenti non c'è neppure la persona ecco io per esempio non esisto perché non ho documenti mi scusi esclamò Korofiev questa è per l'appunto un'allucinazione eccole la sua carta d'identità poi volse gli occhi e sussurrò suavemente a Margherita ed ecco qua anche i suoi averi Margherita Nikolaevna e Korofiev consegnò a Margherita il quaderno dai margini bruciacchiati la rosa secca le foto e con particolare premura il libretto di risparmio diecimila rubli come li ha depositati lei Margherita Nikolaevna noi non sappiamo che farcene della roba altrui mi si paralizzino le zampe piuttosto che toccare la roba altrui esclamò il gatto con sussiego ballando sulla valigia per piegarvi dentro tutti gli esemplari dello sfortunato romanzo e qui c'è anche la sua carta d'identità continuò Korofiev porgendo il documento a Margherita dopodiché rivolto a Voland riferì rispettosamente è tutto messere no non è tutto rispose Voland staccandosi a malincuore dal globo che ne facciamo del suo seguito mia cara donna eh io personalmente non so che farne in quel momento Natascia irruppe dalla porta aperta nuda come l'aveva fatta sua madre batte le mani e gridò a Margherita sia felice Margherita Nikolaevna salutò il maestro con un cenno del capo e si volse di nuovo verso Margherita io vede ho sempre saputo dove lei andava i cameriere sanno tutto osservò il gatto sollevando la zampa con un gesto molto significativo è un errore pensare che siano cieche che vuoi Natascia chiese Margherita tornatene alla palazzina Margherita Nikolaevna tesoro presa a dire Natascia in tono supplichevole e si mise in ginocchio ottenga da sua signoria accenò con gli occhi a Voland che mi lasci continuare a essere una strega non voglio più tornare alla palazzina non sposerò né un ingegnere né un tecnico ieri durante il ballo il signor Jacques ha chiesto la mia mano Natascia gli schiuse il pugno e mostrò alcune monete d'oro Margherita rivolse a Voland un'occhiata interrogativa questi assentì col capo allora Natascia si buttò al collo di Margherita la baciò e la ribaciò e con un grido di vittoria si involò dalla finestra al posto di Natascia comparve Nicolai Ivanovic aveva riacquistato il suo sembiante umano ma era estremamente cupo e forse irritato eccone uno che metterò in libertà con particolare piacere disse Voland guardando con avversione Nicolai Ivanovic con un piacere straordinario tanto egli è superfluo qui chiedo vivamente che mi venga rilasciato un certificato in merito al luogo dove ho trascorso quest'ultima notte disse Nicolai Ivanovic guardandosi timidamente intorno ma con grande insistenza per quale uso? domandò con severità il gatto per esibirlo alla polizia e alla mia consorte prespose con fermezza Nicolai Ivanovic di solito non rilasciamo certificati prespose il gatto con aria burbera ma pazienza per lei faremo un'eccezione e prima che Nicolai Ivanovic si fosse riavuto ella ignuda sedeva già alla macchina da scrivere e il gatto le stava dettando si attesta che l'atore del presente certificato Nicolai Ivanovic ha trascorso la detta notte al ballo in casa di Satana essendo stato quivi comandato in qualità di mezzo di trasporto parentesi ella e fra le parentesi scrivi verro firmato vegemot e la data frignò Nicolai Ivanovic la data non la mettiamo con la data il documento non sarebbe più valido rispose il gatto scarabocchiando la firma sulla carta poi non si sa di dove trasse un timbro vi soffiò sopra regola d'arte stampò sulla carta la parola pagato e la consegnò a Nicolai Ivanovic dopo di che Nicolai Ivanovic sparì adesso tutti voi lasciatemi solo con loro comando a Voland indicando il maestro in Margherita l'ordine di Voland fu eseguito all'istante dopo un po' di silenzio Voland si rivolse al maestro e che dunque tornerà nello scantinato vicino all'Arbat ma chi dunque scriverà i sogni l'ispirazione oh non ho più nessun sogno e non ho neppure l'ispirazione rispose il maestro intorno a me non c'è nessuno che mi interessi eccetto lei e posò di nuovo la mano sul capo di Margherita mi hanno spezzato ma annoio e voglio andare nello scantinato e il suo romanzo Pilato lo detesta quel romanzo rispose il maestro ne ho passate troppe per causa sua ti supplico chiese lamentosamente Margherita non parlare così ma perché mi tormenti sai bene che ho messo tutta la mia vita in questa tua opera Margherita soggiunse ancora rivolgendosi a Voland non gli dia retta messere l'hanno tormentato troppo ma bisogna pur descrivere qualcosa n'è vero disse Voland se ha esaurito quel procuratore comincia almeno a ritrarre che so io Aloisi il maestro sorrise quello la Lambschenikova non lo pubblicherebbe mai e del resto non è neppure interessante ma di che cosa vivrà le toccherà chiedere l'elemosina volentieri rispose il maestro attirando a sé Margherita le cinse le spalle col braccio e soggiunse e sa rinsavirà mi abbandonerà oh non credo disse Voland fra i denti e poi continuò sicché dunque l'uomo che ha scritto la storia di Ponzo Pilato si ritira in uno scantinato con l'intenzione di accomodarsi là sotto la lampada e di andare a chiedere l'elemosina Margherita si stacò dal maestro e presa a dire molto impetuosamente ho fatto tutto quello che potevo e gli ho sussurrato quanto c'è di più seducente al mondo ma l'ha rifiutato quello che gli ha sussurrato lo so ribatte Voland ma non è la cosa più seducente le dirò e si volse sorridendo al maestro che il suo romanzo gli arriccherà ancora delle sorprese ciò è molto triste rispose il maestro oh no non è triste disse Voland non c'è più da aver paura di nulla ordunque Margherita Nicolaevna tutto è stato fatto ha qualche richiesta da rivolgermi che dice ma che dice messere allora accetti questo mio ricordo disse Voland e trasse di sotto al guanciale un piccolo ferro da cavallo d'oro tempestato di diamanti no 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 e perché poi vuole mettersi a litigare con me chiese sorridendo Voland e siccome il suo mantello non aveva tasche Margherita ripose il ferro da cavallo in un tovagliolino che strinse insieme con un nodo in quel momento qualcosa la stupì essa diede un'occhiata alla finestra in cui brillava la luna e disse c'è una cosa che non capisco come mai è sempre ancora mezzanotte mentre da un pezzo dovrebbe già essere mattino fa piacere protrarre un poco una mezzanotte di festa rispose Voland beh le auguro buona fortuna e Margherita protese verso Voland le due mani in atto di preghiera ma non osò avvicinarsi a lui ed esclamò sommessamente addio addio arrivederci disse Voland e Margherita in mantella nera il maestro in vestaglia da ospedale uscirono nel corridoio dell'appartamento della gioielliera dove ardeva una candela e dove erano attesi dal seguito di Voland quando sboccarono dal corridoio ella portava la valigia contenente il romanzo e i modesti averi di Margherita Nicolaevna e il gatto aiutava ella alla porta dell'appartamento Korofiev si inchinò e scomparve mentre gli altri si avviarono ad accompagnarli per le scale esse erano deserte mentre attraversavano il pianerottolo del terzo piano qualcosa di soffice cadde con un tonfo ma nessuno vi badò arrivati all'uscita della scala numero 6 Asasello soffiò in aria e non appena uscirono nel cortile in cui la luna non era tramontata scorsero un uomo in berretto e stivaloni che dormiva sul pianerottolo e a quanto pareva dormiva della grossa come pure davanti al portone una grande macchina nera coi fari sprinti dal parabrezza si intravedeva vagamente la sagoma di un gracchio stavano già per salire allorché Margherita disperata esclamò a mezza voce oddio ho perso il ferro da cavallo salite in auto disse Asasello e aspettatemi torno subito vedo soltanto di che si tratta e rientrò nell'ingresso ed ecco di che si trattava poco prima che Margherita e il maestro uscissero con i loro accompagnatori dall'appartamento numero 48 situato sotto quello della gioielliera era sbucata sulle scale una donna smilza con un bidoncino e una sporta in mano era quella stessa gnusca che al mercoledì aveva rovesciato disgraziatamente per Berlios l'olio di semi davanti al tornello nessuno sapeva e nessuno forse saprà mai che lavoro facesse questa donna né quali fossero i suoi mezzi di sussistenza di lei si sapeva soltanto che la si poteva vedere ogni giorno ora col bidoncino ora con bidoncino e sport insieme o nella bottega del petrolio o al mercato o sotto il portone della casa o per le scale o il più delle volte nella cucina dell'appartamento numero 48 dove per l'appunto abitava questa annusca inoltre e soprattutto era noto che dovunque essa si trovasse o apparisse subito nasceva in quel luogo uno scompiglio e che per giunta era soprannominata peste peste annusca si alzava chissà perché molto presto ma quel giorno qualcosa l'aveva fatta saltar giù dal letto a notte fonda poco dopo mezzanotte la chiave girò nella toppa il naso di annusca spuntò dalla porta dopodiché spuntò anche lei tutta intera richiuse l'uscio dietro di sé e stava già per mettersi in moto quando sul pianerottolo soprastante una porta si chiuse con un tonfo qualcuno rotolò giù per le scale e investendo annusca la buttò da un lato con un impeto tale che essa batté la nuca contro il muro a dove diamolo vai così in mutande strillò annusca afferrandosi la nuca l'individuo in camicia e mutande con una valigia in mano e un berretto in testa rispose a occhi chiuse ad annusca con una strana voce insonolita lo scaldabagno il vetriolo l'imbiancatura da sola è costata un occhio della testa e scoppiando a piangere sbraitò via e si slanciò di corsa non giù per le scale ma indietro verso l'alto dove c'era la finestra col vetro rotto dal piede dell'economista e da questa finestra volò a capofitto giù in cortile annusca dimenticò perfino la sua nuca e gemette e si precipitò a sua volta verso la finestra distesa bucconi sul pianerottolo mise fuori la testa aspettandosi di vedere sull'asfalto del cortile illuminato da un lampione il corpo sfracellato dell'uomo con la valigia ma sull'asfalto del cortile non c'era un bel niente restava da presumere che lo strano individuo insonnolito fosse volato via dalla casa senza lasciar traccia di sé annusca si fece il segno della croce e pensò non c'è che dire l'appartamento numero 50 non per niente la gente dice che accipicchia che appartamento non aveva ancora finito di pensare questo che la porta in alto sbatte di nuovo e qualcun altro si mise a correre in giù annusca si strense al muro e si vide sgattagliolare davanti un cittadino abbastanza rispettabile con la barbetta ma con una faccia così almeno sembrò ad annusca evidente suina anche costui come già l'altro abbandonò la casa passando dalla finestra e anche lui non si sognò neppure di straccellarsi sull'asfalto annusca aveva ormai dimenticato per quale scopo fosse uscita e rimase per le scale segnandosi gemendo e discorrendo fra di sé. Il terzo, senza barbetta, con una faccia rotonda e glabra, in camiciotto alla Tolstoi, scese poco dopo di corsa e esattamente allo stesso modo frullò via dalla finestra. Eva ha detto a onore di Annushka che essa era curiosa e aveva deciso di aspettare ancora un po' per vedere se non ci sarebbero stati altri prodigi. In altro la porta si aperse di nuovo e tutta una comitiva cominciò a scendere, non di corsa, ma a passo abituale, come camminano tutti. Annushka scattò via dalla finestra, scese verso la sua porta, l'aprì in fretta, si nascose dietro di essa e dallo spiraglio lasciato aperto baluginò il suo occhio pieno di frenetica curiosità. Un tizio, malato o non malato, ma strano, pallido, con la barba lunga, un berrettino e una specie di vestaglia, scendeva a passi malfermi. Una signora in tonaca nera, così almeno sembrò ad Annushka in quella semi-oscurità, lo conduceva primurosamente sotto braccio. Era una madama scalza, oppure con certe scarpette trasparenti, evidentemente importate dall'estero, tutte sbrindellate. Altro che scarpette, la madama era nuda, ma certo s'era infilata la tonaca sul corpo nudo. Accipicchia, che appartamento! L'anima di Annushka era tutto un inno di gioia, pregustando quel che avrebbe avuto da raccontare l'indomani ai vicini. Dietro la madama, bizzarramente vestita, ne veniva un'altra, tutta nuda, con una valigetta in mano, e accanto alla valigetta arrancava un enorme gatto nero. Annushka trattenne astento uno strillo e si stropicciò gli occhi. Chiudeva il corteo uno straniero di piccola statura, soppicante, guercio da un occhio senza giacca, in panciotto bianco da marsina e con tanto di cravatta. Tutta questa comitiva sfilò davanti ad Annushka e proseguì verso le scale. In quel momento qualcosa cadde con un tonfo sul pianerotto. Quando sentì che i passi si smorzavano, Annushka sgusciò fuori dalla porta, come una serpe, appoggiò il bidoncino al muro, si gettò boccone sul pianerottolo e cominciò a tastare intorno a sé. E a un tratto si trovò fra le mani un tovagliolino con qualcosa di pesante. Quando ebbe sciolto l'involtino, Annushka strabiliò, accostò il gioiello agli occhi e in questi occhi ardeva un fuoco come in quelli di un lupo. Nella testa di Annushka orticava una bufera. Non so niente, non ho visto niente. portarlo da mia nipote o segarlo in tanti pezzettini. Le pietre si possono cavare fuori e venderle una alla volta, una alla Petrovka, un'altra allo Cimolevsky. E io non so niente, non ho visto niente. Annushka nascose in seno quello che aveva trovato. Afferrò il bidoncino e stava per infilarsi di nuovo nell'appartamento, rinviando il suo viaggio in città. Allorché le sorse davanti, sai il diavolo di dove fosse spuntato, quello stesso tipo dal petto bianco senza giacca e sussurro piano. Fuori il ferro da cavallo e il tovagliolino. Che tovagliolino? Che ferro da cavallo? Che zannushka, recitando molto abilmente la commedia. Non so di nessun tovagliolino. Amico, lei è ubriaco e senza aggiungere altro, con dita dure come le maniglie di un autobus e altrettanto fredde, il tizio dal petto bianco strense la gola di annushka così forte da impedire all'aria qualsiasi accesso al di lei petto. Il bidoncino le cade dalle mani e finì per terra. Dopo averla tenuta un po' di tempo a mezz'aria, lo straniero privo di giacca tolse le dita dal suo collo. Inghiottita una boccata d'aria, annushka sorrise. Un piccolo ferro da cavallo? disse. Subito, subito. Ah, sì, che è suo, quel ferro. E io guardo, eccolo lì, nel tovagliolino. L'ho messo via apposta perché non lo raccattasse qualcuno e poi, chi si è visto, si è visto. Ricevuto il ferro e il tovagliolino, lo straniero cominciò a strisciare riverenze davanti ad annushka, a stringerle forte la mano e a ringraziarla calorosamente con un fortissimo accento straniero dicendo «Le sono profondamente grato, madame, questo piccolo ferro da cavallo mi è caro perché è un ricordo, mi permette, già che l'ho messo al sicuro di porgere duecento rubli» e immantinente trasse del denaro dal taschino del panciotto e lo porse ad annuska. Questa sorridendo perdutamente si limitava a gridare «Ah, la ringrazio! umilissimamente!» «Merci, merci!» Il munifico straniero scivolò giù in un batter d'occhio per tutta la rampa ma prima di sparire definitivamente gridò da sotto senza più nessun accento «Vecchia strega, se ti capita ancora una volta di raccattare la roba altrui consegnala alla polizia e non nasconderla in seno!» Con uno scampanio in testa e una gran confusione a causa di tutto quello che era avvenuto sulla scala annuska seguitò ancora un pezzo a gridare per inerzia «Merci, merci, merci!» Ma da molto tempo lo straniero non c'era più. Non c'era più nemmeno la macchina in cortile e dopo aver restituito a Margherita il dono di Voland Asasello si accomiatò da lei e chiese se era seduta comodamente Ella abbracciò e baciò di gusto Margherita Il gatto le baciò la mano Gli accompagnatori salutarono con la mano il maestro che, inerte e immobile stava quasi sdraiato in un angolo del sedile fecero cenno al gracchio di partire e subito svanirono nell'aria ritenendo inutile sobbarcarsi alla fatica di salire le scale Il gracchio accese i fari e uscì dal portone passando davanti all'uomo che dormiva della grossa e le luci della grande macchina nera scomparvero fra le altre dell'insonne e rumorosa sadovaia Un'ora dopo nello scantinato di una casetta in uno dei vicoli dell'Arbat nella prima stanza dove tutto era esattamente come prima della terribile notte autunnale dell'anno precedente davanti alla tavola coperta da un tappeto di velluto sotto la lampada col paralume vicino alla quale c'era un piccolo vaso di mughetti Margherita sedeva e piangeva sommessamente per tutte le emozioni che l'avevano sconvolta e per la felicità davanti a lei c'era un quaderno sconciato dal fuoco e accanto ad esso una pila di quaderni intatti la casetta taceva nella piccola stanza attigua il maestro giaceva sul divano profondamente addormentato coperto dalla vestaglia d'ospedale il suo respiro uguale era silenzioso quando fu sazia di piangere Margherita prese i quaderni intatti e ritrovò il passo che aveva riletto prima di incontrarsi con Asasello sotto il muro del cremlino Margherita non aveva voglia di dormire accarezzava affettuosamente il manoscritto come si accarezza un gatto prediletto e lo rigirava fra le mani esaminandolo da ogni lato ora soffermandosi sul frontespizio ora aprendo l'ultimo foglio improvvisamente l'invase il terribile pensiero che tutto ciò fosse una stregoneria che a momenti i quaderni sarebbero scomparsi e se si sarebbe ritrovata nella sua camera da letto nella palazzina e svegliandosi avrebbe dovuto andare ad annegarsi ma fu questo l'ultimo pensiero terribile la ripercussione delle lunghe sofferenze che aveva patito nulla spariva l'onnipotente Volant era davvero onnipotente e finché voleva anche fino all'alba Margherita avrebbe potuto sfogliare i quaderni contemplarli e paciarli e rileggere le parole le tenebre venute dal Mediterraneo coprirono la città odiata dal procuratore sì le tenebre dopo aver dormito fino al tramonto del sabato sia il maestro che la sua compagna si sentivano del tutto rinvigoriti e una cosa sola ricordava loro gli avvenimenti del giorno prima a entrambi doleva leggermente la tempia sinistra per quanto riguarda la psiche in entrambi erano sopravvenuti profondi cambiamenti come chiunque origliando avrebbe dedotto dalla conversazione che avveniva nello scantinato ma non c'era proprio nessuno a origliare il cortiletto aveva questo di bello che era sempre vuoto i tigli e il salice che rimverdivano sempre più intensamente emanavano profumo primaverile e la brezza incipiente lo portava nello scantinato che diavolo esclamò all'improvviso il maestro se uno ci pensa spense il muzzicone nel portacenere e strinse la testa tra le mani no senti tu sei una persona intelligente e pazza non sei stata sei proprio convinta che ieri siamo stati da satana nel modo più assoluto rispose margherita naturalmente naturalmente disse ironico il maestro quindi adesso invece di uno ci sono due pazzi il marito e la moglie alzò le braccia al cielo ed esclamò lo sai il diavolo che succede il diavolo il diavolo in quel momento davanti al finestrino si videro delle scarpe dalla punta quadrata e la parte inferiore di un paio di pantaloni a righe poi i pantaloni si piegarono alle ginocchia e la luce del giorno fu nascosta da un grosso teretano aloisi sei in casa chiese una voce in alto sopra i pantaloni fuori dalla finestra ecco incomincia disse il maestro aloisi chiese margherita avvicinandosi alla finestra è stato arrestato ieri chi lo desidera come si chiama lei nello stesso istante le ginocchia e il deretano scomparvero e si odì sbattere il cancello dopodiché tutto tornò alla normalità margherita cade sul divano ridendo al punto che le lacrime le colavano dagli occhi ma quando si calmò il suo volto subì una profonda trasformazione essa cominciò a parlare con serietà e senza smettere di parlare scivolò giù dal divano sfrisciò verso le ginocchia del maestro e guardandolo negli occhi si mise ad accarezzargli la testa come hai sofferto come hai sofferto eh mio caro questo lo so soltanto io guarda hai fili bianchi nei capelli e una piega incancellabile all'angolo della bocca mio unico mio caro eh non pensare a nulla hai dovuto pensare troppo adesso penserò io a te e ti garantisco ti garantisco che tutto sarà stupendamente bello io non temo nulla margherita le rispose all'improvviso il maestro e alzò la testa e le riapparve così com'era quando scriveva ciò che non aveva mai visto ma che sapeva con certezza che c'era stato non temo nulla perché ho già provato di tutto mi hanno troppo minacciato e non c'è minaccia che possa farmi paura mi dispiace per te margò ecco il nocciolo di tutto ecco perché ripeto sempre la stessa cosa torna in te perché devi rovinare la tua vita con un malato e un miserabile torna a casa io provo pena per te perciò ti dico questo tu tu sussurrava margherita scuotendo la testa spettinata uomo di poca fede infelice io per te ho girato nuda tutta la notte ho perso la mia natura umana e l'ho sostituita con un'altra ho passato vari mesi in uno stanzino buio a pensare a una cosa sola al temporale su Jerusalem ho pianto da non poterne più e adesso che è caduta su di noi la felicità tu mi scacci bene e andrò andrò via ma sappi che sei un uomo crudele ti hanno svuotato l'anima un'amara tenerezza nacque nel cuore del maestro e non si sa perché egli scoppiò a piangere affondando il viso nei capelli di margherita essa si inghiozzando mentre le sue dita si muovevano sulle tempie del maestro gli sussurrava sì fili fili sotto ai miei occhi la tua testa si copre di neve oh povera mia testa che ha tanto sofferto ma guarda che occhi hai in essi c'è il deserto e le spalle le spalle col fardello eh ti hanno rovinato rovinato le parole di margherita diventavano slegate e margherita era scossa dal pianto in quel preciso istante si udì dal finestrino una voce nasale la pace sia con voi il maestro sussultò mentre margherita già a sue fatta allo straordinario esclamò ma è a zasello oh che bello oh che simpatico e dopo aver sussurrato al maestro vedi vedi non ci dimenticano si precipitò ad aprire chiuditi almeno le gridò dietro il maestro e ne infischio rispose margherita dal corridoio ed ecco a zasello a far inchini e a salutare il maestro facendo scintillare il suo occhio mentre margherita esclamava ah come sono contenta non sono mai stata così contenta in vita mia ma mi scusi a zasello se sono nuda a zasello la pregò di non preoccuparsi assicurando che aveva avuto occasione di vedere donne non solo nude ma interamente scorticate e si sedette volentieri al tavolo dopo aver messo sull'angolo presso la stufa un pacco avvolto in un broccato scuro messere vi ha mandato un regalo e qui si rivolse proprio al maestro una bottiglia di vino prego notare che si tratta di quello stesso vino che beveva il procuratore della giudea e falerno è più che naturale che una simile rarità attirasse la massima attenzione sia di margherita sia del maestro a zasello trasse da un pezzo di sudario scuro una caraffa tutta coperta di muffa il vino venne annusato versato nei bicchieri e rimirato contro la luce della finestra che si stava oscurando a causa del temporale videro che tutto assumeva il colore del sangue alla salute di volant esclamò margherita alzando il bicchiere e tutti e tre portarono il bicchiere alle labbra e trangugiarono un grande sorso immediatamente la luce pretemporalesca cominciò a spegnersi negli occhi del maestro il suo respiro si fermò ed egli sentì che giungeva la fine vide ancora margherita che diventata mortalmente palida gli protendeva sgomenta le braccia e poi lasciava cadere la testa sul tavolo e scivolava per terra avvelenatore fece ancora in tempo a gridare il maestro voleva afferrare sul tavolo un coltello per colpire a zasello ma la sua mano priva di forza scivolò dalla tovaglia tutto quanto lo circondava nello scantinato assunse una tinta nera poi scomparve del tutto cadde subino e nella caduta si graffiò la tempia contro l'angolo della scrivania quando i due avvelenati furono immobili a zasello si mise all'opera per prima cosa si è lanciata la finestra e qualche istante dopo si trovava nella palazzina di margherita nicolaievna sempre preciso e accurato a zasello voleva controllare che tutto fosse stato fatto a dovere e tutto risultò a posto a zasello vide una donna tetra che aspettava il ritorno del marito uscire dalla camera da letto impallidire all'improvviso afferrarsi il petto e col grido disperato natascia qualcuno aiuto stramazzare in terra nel salotto senza arrivare fino allo studio tutto è a posto disse a zasello un attimo dopo era presso gli amanti abbattuti margherita giaceva con la faccia affondata nel tappeto con le sue mani d'acciaio a zasello la voltò come una bambola con il viso verso di sé e la fissò davanti ai suoi occhi il volto della belenata cambiava perfino nel buio temporalesco che si stava diffondendo si vedeva sparire il suo temporaneo strabismo di strega e la crudeltà e la turbolenza dei lineamenti il volto della defunta divenne più puro e finalmente s'adolcì e i suoi denti digrignanti non le davano più un'espressione rapace ma solo di femmine o dolore allora a zasello le dischiuse i bianchi denti e le versò in bocca alcune gocce di quello stesso vino con cui l'aveva abelenata margherita sospirò cominciò a sollevarsi senza l'aiuto di a zasello e mettendosi a sedere chiese con voce debole perché a zasello perché cosa mi hai fatto vedendo il maestro disteso sussultò e mormorò questo non me lo aspettavo assassino ma no no rispose a zasello adesso si alzerà ma perché è così nervosa margherita gli credette subito tanto la voce del rosso demonio era convincente e si avvalzò in piedi energica viva e lo aiutò a far bere del vino all'uomo disteso aperti gli occhi e quello lanciò un'occhiata cupa e con odio ripete la sua ultima parola avvelenatore l'insulto è la ricompensa abituale di un lavoro ben fatto rispose a zasello ma è cieco lei recuperi presto la vista allora il maestro si alzò si guardò intorno con occhi rili e limpidi e chiese che significa questa novità significa rispose a zasello che è ora già romma il temporale sente si sta facendo buio i cavalli scalpitano il giardino sussulta salutate lo scantinato salutate in fretta capisco disse il maestro guardandosi in giro lei ci ha uccisi noi siamo morti che soluzione intelligente e come tempestiva adesso ho capito tutto ma per carità rispose a zasello proprio lei dice questo lei che la sua compagna chiama maestro lei che sta pensando come può essere morto forse che per considerarsi vivi bisogna per forza starsene in questo scantinato con la camicia e le mutande dell'ospedale è ridicolo ho capito tutto quello che lei ha detto esclamò il maestro inutile continuare lei ha mille volte ragione grande volant e che John Margherita grande volant ha avuto un'idea molto migliore della mia ma il romanzo il romanzo gridava al maestro portati dietro il romanzo dovunque tu volerai è inutile rispose il maestro lo so a memoria ma non dimenticherai non dimenticherai neppure una parola chiedeva Margherita stringendosi all'amante e asciugandogli il sangue sulla tempia ferita no non preoccuparti da questo momento non dimenticherò mai niente rispose lui allora il fuoco esclamò asosello il fuoco da cui tutto è cominciato e col quale terminiamo tutto il fuoco gridò con voce terribile Margherita e la finestra dello scantinato sbattì il vento spinse da una parte la tenda e nel cielo risuonò un tono allegro e breve asasello cacciò nella stufa la mano artigliata ne trasse fuori un tizzone fumante e diede fuoco alla tovaglia sul tavolo diede poi fuoco a un pacco di vecchi giornali sul divano e al manoscritto e alla tendina della finestra il maestro già inebriato dall'imminente cavalcata buttò giù dallo scaffale sul tavolo un libro ne arruffò le pagine nella tovaglia fiammeggiante e il libro fu avvolto da un'allegra fiammata brucia brucia vita passata brucia sofferenza gridava Margherita la stanza stava già ondeggiando tra colonne porpure e insieme col fumo i tre uscirono di corsa dalla porta risalirono la scala di pietra e si ritrovarono nel cortile la prima cosa che videro fu la cuoca del capomastro seduta in terra vicino a lei erano sparpagliate delle patate e alcuni mazzetti di cipolle lo stato della cuoca era comprensibile tre cavalli neri sbuffavano vicino al ripostiglio fremevano e scalpitando alzavano spruzzi di terra Margherita balzò in sella per prima la seguì Asasello ultimo fu il maestro la cuoca gemendo voleva alzare la mano per farsi segno della croce ma Asasello gridò minaccioso dalla sella ti taglio la mano chiettò un fischio e i cavalli spezzando i rami dei tigli si alzarono in volo e si infilarono in una bassa nuvola nera immediatamente dal finestrino dello scantinato il fumo si riversò fuori al basso giunse il debole pietoso grido della cuoca al fuoco al fuoco i cavalli stavano già volando sopra i tetti di Mosch voglio salutare la città gridò il maestro ad Asasello che volava davanti il tuono inghiottì la fine della frase Asasello fece un cenno affermativo con la testa e lanciò il cavallo al galoppo incontro a loro si precipitava una nuvola ma non spruzzava ancora pioggia volavano sopra un viale e vedevano minuscole figure di uomini che si disperdevano per ripararsi dalla pioggia cadevano le prime gocce volarono sopra un nugolo di fumo tutto quel che rimaneva della casa di Gribaiedoff volarono sopra la città che l'oscurità stava già sommergendo e sopra di loro fiammeggiavano i lampi poi i tetti furono sostituiti dal verde e solo allora la pioggia scrosciò trasformando i volatori in tre enormi bolle nell'acqua Margherita conosceva già la sensazione del volo ma non la conosceva il maestro ed egli si stupì e la velocità con la quale arrivarono alla meta sì presso colui che egli desiderava salutare perché non c'era nessun altro al quale egli potesse dire addio riconove subito nel velo della pioggia l'edificio della clinica di Stramischi il fiume e il bosco sull'altra riva che conosceva così bene si abbassarono su una radura nel bosco poco distanti dalla clinica vi aspetterò qui gridò a Zasello mettendo le mani attorno alla bocca ora illuminato dai lampi ora scomparendo nel velo grigio salutate ma sbrigatevi un attimo dopo il maestro con mano pratica scostava l'inferiata del balcone della stanza numero 117 Margherita lo seguiva entrarono da Ivanushka invisibili e inosservati tra il fracasso e il grido del temporale il maestro si fermò vicino al letto Ivanushka giaceva immobile come allora quando per la prima volta osservava il temporale nella casa dove aveva trovato riposo ma non piangeva come quella volta quando finalmente riuscì a distinguere la sagoma scura che aveva fatto irruzione dal palcone e si sollevò protese le braccia e disse con gioia è lei l'aspettavo l'aspettavo da tanto eccola finalmente vicino mio il maestro rispose sono qui ma purtroppo non posso più essere suo vicino me ne vado per sempre e sono venuto solo per salutarla lo sapevo l'ho intuito rispose sommesso Ivan e chiese lo hai incontrato sì disse il maestro sono venuto a dirle addio perché lei è l'unica persona con cui io abbia parlato negli ultimi tempi Ivanuska si illuminò e disse ha fatto bene a passare di qui io manterrò la mia parola non scriverò più poesiucce adesso mi interessa altro Ivanuska sorrise e guardò con occhi spiritati oltre il maestro voglio scrivere altro mentre ero qui sa ho capito molte cose il maestro si emozionò a sentire quelle parole e disse sedendosi sul bordo del letto ah bene questo sì che è bene scriva il seguito su di lui gli occhi di Ivanuska fiammeggiarono e lei non lo farà qui abbassò la testa e sugliunse pensieroso ah sì che domanda la mia Ivanuska sbirciò il pavimento e guardò spaventato oh sì disse il maestro e la sua voce sembrò a Ivanuska sconosciuta e sorda non scriverò più di lui altro mi occuperà il fragore del temporale fu squarciato da un fischio lontano sente chiese il maestro è il temporale no chiamano mi e ora spiegò il maestro e si alzò dal letto aspetti una parola ancora pregò Ivan ha ritrovato lei lei era rimasta fedele eccola rispose il maestro e indicò la parete dalla bianca parete si distaccò scura margherita che si avvicinò al letto guardava il giovane disteso e nei suoi occhi si leggeva l'afflizione povero povero Ivan sussurrò margherita con le sole labbra chinandosi sul letto com'è bella disse Ivan senza invidia ma con mestizia e con una placida commozione guardi come le cose si sono messe bene per voi ma per me invece no e qui riflette e aggiunse pensieroso o forse sì invece sì sì senza altro sussurrò margherita e si chinò completamente su di lui adesso le do un bacio e tutto per lei andrà bene mi creda ho già visto di tutto so tutto il giovane steso sul letto le abbracciò il collo ed essalo baciò addio discipolo disse il maestro con voce appena percettibile e cominciò a dissolversi nell'aria scomparve e con lui scomparve margherita l'inferriata del balcone si chiuse Ivaniuska divenne irrequieto si sedette sul letto si guardò preoccupato in giro gemette perfino cominciò a parlare con se stesso e si alzò il temporale imperversava sempre più forte e evidentemente lo rendeva agitato era anche inquieto perché dietro la porta col suo udito ormai a suo effatto al costante silenzio aveva ferrato passi rapidi e voci sorde chiamò cominciando a innervosirsi e a sussultare Praskovia Fiodorovna Praskovia Fiodorovna stava già entrando nella stanza e guardando Ivaniuska con espressione interrogativa e preoccupata che cosa che cosa c'è che cosa c'è chiedeva le turbe il temporale niente niente adesso l'aiuteremo adesso chiamo il dottore no Praskovia Fiodorovna non è il caso di chiamare il dottore disse Ivaniuska guardando inquieto non Praskovia Fiodorovna bensì la parete non ho niente di speciale adesso comincio a capire non si preoccupi mi dica piuttosto pregò Ivan con voce carezzevole che cos'è successo lì vicino nella stanza 118 nella 118 ripete Praskovia Fiodorovna e i suoi occhi diventarono sfuggenti niente proprio niente ma la sua voce era falsa Ivaniuska se ne accorse subito e disse eh Praskovia Fiodorovna lei è una persona sincera crede che darò in escandescenze? no Praskovia Fiodorovna questo non succederà eh allora è meglio che lei mi dica la verità tanto io sento tutto attraverso la parete è morto adesso il suo vicino sussurrò Praskovia Fiodorovna incapace di vincere la sua sincerità e bontà e tutta rivestita della luce ad un fulmine guardò spaventata Ivaniuska ma ad Ivaniuska non successe nulla di terribile si limitò ad alzare il dito con fare significativo e disse lo sapevo le assicuro Praskovia Fiodorovna che in questo momento in città è morta anche un'altra persona so perfino chi è e qui Ivaniuska sorrise con aria misteriosa è una donna ma insomma che cosa successe a Mosca dopo che la sera del sabato al tramonto Voland abbandonò la capitale scomparendo col suo seguito dai monti dei passeri del fatto che per lungo tempo in tutta la capitale si andò diffondendo il greve rombo delle dicerie più inverosimili rapidissimamente arrivate anche nei più remoti e sperduti luoghi della provincia non parleremo neppure ed è persino stucchevole ripetere queste dicerie chi scrive queste veridiche righe udì di persona sul treno il racconto che a Mosca duemila persone erano uscite da teatro nude nel senso letterale della parola e in quello stato avevano fatto ritorno alle loro case a bordo di tassi le parole bisbigliate il maligno si sentivano nelle code che si allungavano davanti alle latterie nei tram nei negozi negli appartamenti nelle cucine nei treni sia urbani sia a lungo percorso nelle stazioni grande e piccole nelle dace e sulle spiace le persone più evolute e più colte in questi racconti sul maligno che aveva visitato la capitale non prendevano parte alcuna naturalmente e ne ridevano persino e cercavano di ricondurre alla ragione chi li riferiva ma un fatto tuttavia resta come si suol dire un fatto eluderlo senza spiegazioni non si può in nessun modo qualcuno era stato nella capitale già le braci che erano rimaste del Gribaiedov e molte altre cose lo confermavano con troppa eloquenza le persone colte fecero proprio il punto di vista della squadra investigativa aveva lavorato una banda di ipnotizzatori e di ventriloqui che conosceva alla perfezione la propria arte le misure per la loro cattura sia a Mosca sia oltre i suoi confini furono prese si intende in modo immediato ed energico ma con grande rincrescimento generale non diedero risultati colui che si chiamava Voland era scomparso con tutti i suoi sodali e a Mosca non era più tornato né era comparso in alcun luogo né aveva dato alcun segno di vita è del tutto naturale che si facesse l'ipotesi che era fuggito all'estero ma neppure là si era manifestato l'inchiesta relativa si protrasse a lungo infatti la faccenda era veramente mostruosa per non parlare delle quattro case incendiate e delle centinaia di persone impazzite c'erano anche dei morti e di due lo si poteva dire con certezza Berlioz e quel malagurato dipendente dell'ufficio che organizzava le escursioni dei turisti stranieri per Mosca l'ex barone Meigel quei due erano stati uccisi per davvero le ossa bruciate del secondo furono trovate nell'appartamento numero 50 sulla sadovaia dopo che l'incendio fu domato sì c'erano state delle vittime e queste vittime esigevano un'inchiesta ma ci furono altre vittime ormai dopo che Voland ebbe lasciato la capitale e queste vittime furono per quanto sia triste il dirlo i gatti neri ci furono ancora molti fatti eh tutti non si può ricordarli c'era un gran fermento di animi ancora e ancora una volta si deve rendere giustizia alla squadra investigativa tutto fu fatto non solo per acciuffare i delinquenti ma anche per spiegare tutto quello che avevano combinato e tutto fu spiegato e queste spiegazioni non possono non essere riconosciute sensate e inconfrutabili i rappresentanti della squadra investigativa e alcuni esperti psichiatri stabilirono che i membri della banda criminosa o forse uno solo di essi qui il sospetto cadde soprattutto su Korofiev erano ipnotizzatori di una forza mai vista capace di mostrarsi non nel luogo dove si trovavano ma in posizioni presunte spostate inoltre essi riuscivano liberamente a suggestionare quelli che si imbattevano in loro facendo credere che alcune cose o persone si trovavano là dove in realtà non c'erano e al contrario allontanavano dal campo visivo le cose e le persone che in effetti in quel campo visivo erano presenti sì passarono degli anni e si dissolsero gli avvenimenti veridicamente descritti in questo libro e si spensero nella memoria ma non in tutti non in tutti ogni anno non appena incomincia il festoso plenilunio di primavera verso sera sotto i tigli degli stagni patriarci compare un uomo di una trentina d'anni rosso di capelli con gli occhi verdi modestamente vestito è il professor Ivan Nikolaevich Paniriev collaboratore dell'istituto di storia e filosofia arriva sotto i tigli e si siede sempre sulla panchina sulla quale sedeva quella sera in cui l'ormai dimenticato da tutti Berlioz nell'ultima ora della sua vita vide la luna andare in pezzi adesso la luna intatta bianca sul principiare della sera e poi dorata con un che di scuro forse un drago forse un cavallino alato scorre sopra l'ex poeta Ivan Nikolaevich e al tempo stesso ristà in un sol punto lassù in alto a Ivan Nikolaevich tutto è noto egli tutto sa e tutto capisce sa che nella sua gioventù fu vittima di alcuni criminali ipnotizzatori poi si curò e guarì ma sa anche che ci sono cose di cui egli non può avere ragione non può avere ragione del plenilunio primaverile non appena esso incomincia ad avvicinarsi non appena incomincia a crescere a indorarsi l'astro che un tempo stava più in alto dei due candelabri a cinque bracci Ivan Nikolaevich diventa inquieto si innervosisce perde l'appetito e il sonno aspetta che la luna diventi piena e quando incomincia il plenilunio nessuno riesce a trattenerlo in casa verso sera egli esce e va agli stagni patriarcie seduto sulla panchina Ivan Nikolaevich parla ormai apertamente con se stesso fuma socchiude gli occhi in direzione ora della luna ora del tornello per lui ben memorabile Ivan Nikolaevich passa così un'ora o due poi si alza e seguendo sempre lo stesso percorso attraverso la spiridonovka coi vuoti occhi che non vedono va verso i vicoli dell'Arbat passa davanti allo spaccio di petrolio volta là dove pende uno sghembo vecchio lampione a gas e si accosta furtivamente a una cancellata oltre la quale vede un giardino rigoglioso ma non ancora rivestito di verde e in esso illuminato dalla luna sul lato dove sporge un bovindo con la finestra a tre battenti e buio sull'altro una palazzina gotica il professore non sa che cosa la tragga verso quella cancellata e chi abiti in quella palazzina ma sa che durante il plenilunio egli non può far forza a se stesso inoltre sa che nel giardino oltre la cancellata egli vedrà immancabilmente la stessa cosa vedrà seduto su una panchina un uomo anziano e posato con la barbetta gli occhiali a molla e i tratti del volto lievemente porcini Ivan Nikolaevich sorprende sempre questo inquilino della palazzina nella stessa posa sognante con lo sguardo rivolto alla luna a Ivan Nikolaevich è noto che quell'uomo dopo essersi estasiato della luna sposterà immancabilmente gli occhi sulle finestre del bovindo e le fisserà come se aspettasse che esse da un momento all'altro si spalanchino e sul davanzale compaia qualcosa di straordinario tutto il resto Ivan Nikolaevich lo sa a memoria a questo punto bisogna nascondersi meglio perché l'uomo seduto comincerà a girare la testa inquieto a cercare di cogliere con gli occhi vaganti qualcosa nell'aria a sorridere con esaltazione e poi tutto a un tratto batterà le mani preso da una certa qual soave angoscia e poi semplicemente borbotterà a voce piuttosto alta venere venere che cretino sono Numi Numi comincia a sussurrare Ivan Nikolaevich nascondendosi dietro la cancellata e senza staccare gli occhi accesi dal misterioso sconosciuto ecco un'altra vittima della luna sì un'altra vittima come me e l'uomo seduto continuerà i suoi discorsi ma che cretino che sono perché non sono volato via con lei di che cosa ho avuto paura vecchio somaro che sono mi sono fatto rilasciare un certificato statene buono adesso vecchio imbecille e la cosa continuerà finché nella parte buia della palazzina non sbatterà una finestra in essa non si farà vedere qualcosa di biancastro e non echeggerà una sgradevole voce di donna Nicolae Ivanovic dov'è? ma che cosa l'hai saltato in mente? vuole buscarsi la malaria venga a prendere il tè allora naturalmente l'uomo seduto si risveglierà e risponderà con una voce menzoniera volevo respirare una boccata d'aria cuore mio si sta così bene all'aria e si alzerà dalla panchina minaccerà di nascosto col pugno la finestra che si chiude e si trascinerà nella casa mente quello mente o nomi come mente borbotta Ivan Nicolaevic staccandosi dalla cancellata non è l'aria che lo spinge in giardino vede qualcosa in questo plenilugno di primavera sulla luna e nel giardino là in alto o che cosa pagherei per scoprire il suo segreto per sapere quale venere ha perso e ora vanamente cerca con le mani nell'aria sperando di afferrarla a casa il professore ritorna completamente malato sua moglie fa finta di non accorgersi del suo stato e lo sollecita ad andare a letto ma lei non si corica e siede presso la lampada con un libro e guarda con occhi amari il dormiente essa sa che all'alba Ivan Nicolaevic si sveglierà con un grido di tormento e si metterà a piangere e a dibattersi perché sulla tovaglia sotto la lampada c'è davanti a lei una siringa già preparata e immersa nell'alcol e una fiala con un liquido di un denso color bruno la povera donna vincolata al malato grave adesso è libera e può addormentarsi senza paura Ivan Nicolaevic dopo la puntura può dormire fino al mattino col volto felice e vedere sogni alle sconosciuti ma sublimi e felici a svegliarlo e a farlo gridare penosamente nella notte di plenilunio è sempre la stessa visione vede un innaturale boia col naso infossato che dopo aver fatto un piccolo balzo aver lanciato un grido gutturale colpisce al cuore con la lancia esta legato al palo e uscito di senno non è tanto terribile il boia quanto è innaturale l'illuminazione del sogno a causa di una nube che ribolle e si riversa sulla terra come avviene soltanto durante le catastrofi universali dopo l'iniezione tutto cambia davanti al dormiente dal letto fino alla finestra si stende una vasta strada illuminata dalla luna e lungo questa strada sale un uomo dal mantello bianco foderato di rosso sanguigno e si mette a camminare verso la luna accanto a lui cammina un giovane col chitone lacero e col volto deturpato camminando parlano con calore discutono vogliono accordarsi su qualcosa nomi nomi dice rivolgendo il volto altero al compagno l'uomo col mantello che supplizio triviale ma tu ti prego dimmi il suo volto qui da altero si fa implorante non c'è stato il supplizio ti scongiuro dimmi che non c'è stato ma certo che non c'è stato risponde con voce roca il compagno ti è apparso soltanto lo puoi giurare prega insinuante l'uomo col mantello lo giuro risponde il compagno e i suoi occhi chissà perché sorridono non ho più bisogno di nulla grida con voce esausta l'uomo col mantello e sale sempre più in alto verso la luna traendo con sé il compagno dietro di loro cammina tranquillo e maestoso un gigantesco cane dalle orecchie a guzze allora il raggio di luna ribolle da esso comincia a sgorgare una fiumana di luce lunare e si riversa in ogni direzione la luna domina e gioca la luna danza e scherza allora in quella fiumana si forma una donna di smisurata bellezza e verso Ivan conduce per mano un uomo dalla barba non rasa che si guarda intorno timoroso Ivan Nicolaevic ce lo riconosce subito è il numero 118 il suo ospite notturno Ivan Nicolaevic nel sonno tende verso di lui le mani e chiede bramosamente è dunque finita così è finita così discepolo mio risponde il numero 118 e la donna si avvicina a Ivan e dice certo così tutto è finito e tutto finisce le do un bacio sulla fronte e a lei tutto andrà per il meglio essa si china su Ivan e lo bacia sulla fronte e Ivan si protende a lei e la fissa negli occhi ma e se indietreggia indietreggia e se ne va con il suo compagno verso la luna allora la luna diventa tempestosa getta fiumane di luce su Ivan spruzza la luce in ogni direzione la stanza si inonda di luce lunare la luce uscilla si alza più in alto sommerge il letto ed è allora che Ivan Nicolaevic dorme col volto felice al mattino si sveglia d'aciturno ma completamente tranquillo e rimesso la sua martoriata memoria si placa e fino al prossimo plenilunio nessuno inquieterà il professore né l'assassino col naso infossato di esta né il feroce quinto procuratore della giudea il cavaliere Ponsio Pilato sono Yolanda Insana e sono qui dopo questa splendida lettura per qualche come dire finale considerazione biografia e invenzione letteraria sono sempre credo destinate a intrecciarsi qui nel Maestro e Margherita il destino di Bulgakov coincide con quello del Maestro Bulgakov sperimenta sulla sua pelle l'ostilità dei critici la stessa esperienza come abbiamo sentito vive il Maestro che non riesce a pubblicare il romanzo autori e personaggio insomma hanno la stessa sorte muoiono ma non muore il libro questa finzione narrativa ci colpisce perché Bulgakov parlando di sé ci dice del cancro e delle metastasi che hanno aggredito il corpo della società in modo irredimibile considerato antirrivoluzionario nemico del popolo da bersagliato si fa bersagliatore accende la miccia esplosiva sotto le strutture governative staliniste come il massolit l'unione di critici e scrittori tutti vili miserabili e fasulli che però sono tanto più foraggiati con privilegi premi ferie viaggi alloggi case di villeggiatura più foraggiati tanto più foraggiati quanto più piegano la testa custodi esecutori controllori del canone del realismo socialista e poiché la giustizia è latitante Bulgakov sceglie introduce il diavolo un diavolo giusto e giustiziere che assegna le giuste pene secondo la legge del contrappasso con beffe e divertimento il critico Berlioz per esempio finisce sotto il tram che gli mozza la testa dunque il riconoscibile nel miasma conformistico non aveva identità da vivo non ne ha da morto il noto poeta scambiato per un fantasma viene ricoverato in manicomio dove incontra il maestro che gli racconta del suo amore per Margherita nel romanzo di Eschua e questo sarà per lui l'unico incontro vero con un vero scrittore e una volta rinsabito non scriverà più ha capito di non essere poeta la situazione sociale e intellettuale compressa tra servilismo e autoritarismo Bulgakov la conosce bene perseguitato dai critici che rifiutano i suoi libri non può letteralmente campare e così il 28 marzo del 1930 preso dalla disperazione scrive una lettera al governo sovietico con la richiesta o di un visto per l'estero o di un lavoro è una lettera di grande dignità e fermezza in cui rivendica la lotta contro la censura quale che essa sia e sotto qualunque potere e gli appelli alla libertà di stampa e denumera alcune delle ragioni per cui le sue opere non hanno diritto di esistenza i temi neri e mistici scrive con cui raffiguro le innumerevoli mostruosità del nostro popolo il veleno della mia lingua lo scetticismo di fronte al processo rivoluzionario nel mio paese arretrato e soprattutto la rappresentazione dei tratti terribili del mio popolo la richiesta di un lavoro conforme alla sua professione nel 30 aveva all'attivo 5 opere teatrali per esempio procede per gradi come regista o come comparsa o come operaio di scena riceverà una telefonata da Stalin in persona che era un suo ammiratore come risulta dagli archivi del teatro d'arte dove aveva assistito non una ma 15 volte alla rappresentazione dei giorni dei Turbin e questo prima del 1930 Bulgakov rinuncia al visto per espatriare avrà un lavoro ma nessun visto per la pubblicazione e così riprende a scrivere il maestro e Margherita dopo avere gettato nella stufa come lui stesso ricorda l'originaria minuta di un romanzo sul diavolo massimo popolizio a letto il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov postfazione di Yolanda Insana traduzione di Vera Drizzo per edizioni in Audi regia di Lorenzo Pavolini riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it di Annalisa Gaudenzi di Annalisa Gaudenzi